Avvia! Andiamo, scopriamo Crash Bandicoot 4 Crash Bandicoot Finalmente io, il grande Neocortex Ti ho messo alle strette E ora, il colpo finale Taci babbeo Le animazioni si sono fatte da... Almeno Uka, Uka, ci proviamo a evadere da questa prigione Non starò qui un altro decennio ad ascoltare tutti i tuoi vaneggiamente Né il modo in cui mastichi Ecco, ed Uka, Uka sparisce per tutto il gioco Ma è il modo Questa cosa sono... Vabbè, vabbè Si è talmente scaricato che sparisce per tutto il gioco Ahahahahah Va bene, Crash Bandicoot 4 Bene Un grande potere si è risvegliato Le penne attaccate a un nest adesivo Crash Temo preannunci un evento di proporzioni cataclismatiche Proviene dal picco di Insanity Presto, andiamoci Crash 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 Aquaku così mi piace tantissimo È sempre veramente piaciuto Mentre su Crash io ancora non... Cioè, non è che non mi piace Mi piace, mi piace però... Non lo so, vedremo se con Wumpa League se lo faranno davvero, se lo cambieranno ancora, non lo so Va bene, va bene, non cominciamo subito, non cominciamo subito I gameplay di Crash 4 io ho smisi di farli dopo il primo episodio perché mi resi conto che non conoscendo il gioco E vedendo quanto Crash 4 era comunque diverso dai vecchi Crash mi resi conto che sarebbe avvenuto un brutto lavoro, diciamo così Quindi mi sono dato il tempo di impararlo, di apprezzarlo, di conoscerlo, di modo poi da poter fare, quando sarebbe arrivata l'occasione, che è arrivata, di fare finalmente una run... Fatta bene, come... perfetto Qui, qui, io vorrei fare tutto il livello col cappello, non si può fare Perfetto Finalmente, insomma, facciamo questa run di riscoperta e completismo Ah no, non era qua, non è qua la scatola Non è qua la scatola Perfetto Vabbè, la wood Qui, qui c'è la scatola La prima volta non l'avrei saputo, eh Quindi cercheremo, cercherò, insomma, di limitare le morti, di limitare i fallimenti Di limitare i fallimenti Cercando appunto di fare i livelli Da inizio alla fine, senza morire, prendendo tutte le gemme, si vedrà, eh Si vedrà cosa viene fuori Oltretutto i livelli di questo Crash 4 sono molto lunghi, a parte i primi due Sono molto lunghi e quindi cercare di fare il competismo non sarà un'impresa facile E appunto per questo ho deciso che questa serie sarà strutturata in modo particolare Completamente diverso dalle altre serie che andavano a fare episodi di un'ora magari Questa serie sarà fatta con una sola regola Ovvero un livello per video Quindi probabilmente i primi video saranno più corti, più veloci Però andando avanti saranno sempre più lunghe Io ho paura veramente che quando si arriverà già alla terza isola Verranno episodi di mezz'ora solo per un livello Perché tanto è così Va bene, comunque, insomma, andiamo Nooo Stavo proprio dicendo che non devo morire e devo già ricominciare il livello Perché non posso non prendere le insane Cercavo qui, c'è un picchiato, accidenta cavi Scusate, scusate, scusate No, no, firmato, si comincia male Scusate, scusate, mi sono distratto Allora, c'è da dire che Vabbè, su PS5 è probabilmente la versione migliore di questo gioco Inutile dirlo Anche i colori sono più vivi C'ha comunque questo stile un po' da Toys for Bob Cioè io sono ancora convinto che questo Quest'isola qua Sembra più di spiro che di cresce Comunque coi colori molto così con queste piante grosse Ricorda un po' più l'estetica di Titans E ho ripicchiato qua Signor cavo Per favore E quindi insomma Però non è che No, non si rompe Non è che è brutto, eh Non è che è brutto Anzi Mi sono già molto più abituato rispetto all'inizio Che mi ricordo la prima Cioè il primo gameplay L'unico gameplay che ho fatto di Crash 4 era Insomma dissi Tirai fuori molte critiche E infatti venni abbastanza distrutto Molta gente l'ha preso sul personale Perché avevo usato criticare il nuovo Crash perché io non sono un vero fan Io so solo criticare Poi guarda caso Sei mesi dopo Un annetto dopo Sempre più gente si è trovata d'accordo con me No? Dicendo che questo Crash era sbagliato Che questo Crash aveva dei problemi Che era troppo difficile Tanta gente l'ha droppato Però perché era troppo difficile Guarda un po' Io però al primo gameplay avevo già annasato Che c'era qualcosa di strano Guarda un po' E comunque non voglio flexare E abilità che magari non mi appartengono Va bene Ah comunque Il design di Crash inizia ad apprezzarlo Piano piano Magari andrebbe un po' ritoccato Un po' rivisto Però onestamente Anche con Insomma ci si abitua Non è male questo Crash Devo dire la verità Via Ok Bene La tabellina l'acqua Olè Allora ci vuole molta attenzione No 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 Ho bisogno di tutte le maschere Perfetto Chissà se sapremo presto Di Wumpa League Ragazzi Questo nuovo gioco Che non si sa Attenzione qua c'è una gemma nascosta Sarà un'impresa ricordarsi tutte le gemme nascoste Perché non me le ricordo tutte Alcune si ma tante no A proposito Non faremo le invertite In questa run Faremo solo Livelli normali Con completismo Spero anche le insane Ma vediamo un po' Che non voglio mettermi a ripete Tutti i livelli Perché Tipo quando Saremo più amanti È impossibile Che arrivi alla fine Senza mai morire Però va bene Già al primo livello Sono morto Quindi si vince bene Allora qui onestamente Non c'è molto da dire Se non per il fatto Che c'è qui Non lo so Quella statua lì Che è poco È molto poco estetica Crash classica Però Per esempio Già subito vediamo Quella Quel coso lì Quella specie di coso di legno Quell'idolo di legno Che invece È perfettamente estetica Di crash classico Quindi È un po' Una via di mezzo Questo crash Via Perfetto C'è il cuscino di town Allora Per esempio Io mi ricordo Che questo livello La prima volta che lo giocai Mi sembrò molto lungo Ecco Ecco Andiamo subito Sulle magagne Di questo crash Perché qui È credo L'unica volta O forse Ci saranno altre due occasioni In tutto crash 4 Dove si riesce ad avere 3 Akuaku È uno dei pochi momenti Dove si riesce ad avere Crash con tutte e tre Le maschere Io Questa cosa onestamente Non l'ho capita Secondo me Non è nemmeno voluto Il fatto che Secondo me È davvero un errore Il fatto che Non abbiano permesso Ad Akuaku Di trasmettere le maschere Anche nei livelli successivi Nel senso che io Quando finisco questo livello Con 2 Akuaku Inizio un altro livello Con 0 Akuaku E questa cosa In tutti i crash Non c'è mai stata Crash È sempre stato che Ti finisci un livello Con 2 Akuaku Con 1 Akuaku E entri nel livello successivo Con l'Akuaku Che avevi Che avevi conquistato Insomma Te li passi Di livello in livello Invece qui Niente Finisci il livello Akuaku Ti viene resettato Io onestamente La vedo tanto Come una Come una distrazione Dei programmatori Non credo sia voluta Onestamente Cioè Si è voluta Non c'è motivo Perché sia voluta Questa cosa Meno male Meno male Guarda Mi stavo Mi stavo cacando Addosso Va bene Bene Dovrei aver preso tutto Si Bene Perfetto Gemme skill Le gemme Ti permettono Di sbloccare Delle skin Ottieni le rompendo le casse Raccogliendo pumpa Tramando gemme nascose Nascose C'è un errore Che non è mai stato corretto Perfetto Ho preso anche le inserie Benissimo Perfetto Questo è il secondo livello Guarda bello Il fuoco disegnato Perfetto La cassa con la faccia Di crash ti regala una vita Secondo livello Che già inizia ad essere Come dissi Nel primo gameplay No Bene 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 Ho sbagliato Ho sbagliato Rifare Ricominciare il livello Ricominciare il livello Mi ricordo il primo gameplay Dissi che era Inutilmente difficile Com'è che dissi Questa difficoltà non richiesta Ecco Difficoltà non richiesta Va bene Va bene Va bene Siamo solo al secondo livello E ho rinunciato Per fare le inserine No Perché appunto Io ci proverò In questa In questi gameplay A fare tutte le inserine A un certo punto Smetterò Però Proverò comunque A prendere tutte le gemme Quindi incluse anche quelle Delle morti Insomma Delle tre morti Quindi in ogni caso Devo cercare di non morire Più di tre morti Allora Onestamente Questo livello Mi piace E tra l'altro Colgo l'occasione Per dire Che mi dispiace Che questo gioco Abbia L'ambientazione Isolana Ambientazione Tribale Solo nei primi due livelli Ed è un peccato Secondo me Perché è una delle ambientazioni Che meglio funziona Di tutto Di tutto Crash Secondo me Di tutta la serie Crash Nasce con questa ambientazione E Lo vedo un po' Un peccato Averla limitata A due soli Livelli Tanto questo livello È bello C'è questa grotta Mi piace Un sacco È uno dei miei livelli Preferiti Di tutto Crash 4 Però appunto Poi subito Si passa A livello Di engine A livello Del deserto Che invece Sono i miei Spreferiti La seconda isola Proprio buttata lì A caso Col deserto Non mi piace Quell'ambientazione Quella che mi piace Di meno Un'altra cosa Che non mi piace Di Crash 4 È il fatto Che i livelli Siano divisi A isole E ogni isola È tematizzata Per esempio Non è stato fatto Come in Crash 1 Dove anche se c'erano Le isole Ed ogni isola Magari aveva Un suo tema No Non aveva un suo tema Però i vari livelli Nelle isole Erano ognuno Tematizzato diversamente Invece qui hanno fatto Le isole Come nel primo Ma tutti i livelli Raggruppati Per l'ambientazione Stossa secondo me Ammazza un po' La Insomma La diversità All'interno del gioco Secondo me Perché Fa si che tu Arrivi in un'ambientazione Ti ci abitui Ti viene a noi E poi cambia Lì per lì Sei sorpreso Perché cambia E poi però Ti reannoia Lo stesso Perché ti deve fare Quei 3-4 livelli Sempre con la stessa ambientazione Onestamente Non è una buona scelta Secondo me Capisco che L'abbiamo voluto far Per dare un senso Di Senso Per dare una certa Continuità a livelli Però secondo me Non ha senso Stossa Perché in un platform È sbagliato Allora Lì in alto C'è la mappina Vedi Che ti dice Che per prendere La gemma rossa Devi fare Quel percorso lì E noi lo faremo Cercando di non morire E molto probabilmente Invece moriremo E attenzione Perché Le gemme colorate Hanno questa peculiarità Di essere nascoste Nei livelli In cui sono nascoste Aiuto Con dei piccoli No Ho sbagliato Ho sbagliato Con dei piccoli enigmi Che sono rivelati Nello sfondo Che non sono molto Intelligibili Insomma Sono molto nascosti Ci sta Ci sta Perché comunque Alla fine Vanno comunque scoperti Allora La prima volta Non lo sai C'è un po' questo mistero Perfetto Ce l'ho fatta Ho sbagliato qualcosa Non lo so L'altro L'ordine viene confermato Da quel suonino Che sentiamo Mentre si salta Sono un po' confuso Scusate Ecco l'aniloli Questa animazione Invece non mi guardo Lui che Eh No non mi guardo Non è fatta bene Questa animazione Questa non mi guardo Non mi guardo È troppo È un po' pezzottina Questa animazione Non vogliatevene Ma è un'animazione Un po' pezzottina Allora Gemma nascosta Perfetto Tipo anche sto mostro Che è una cosa Del tutto inedita Nel mondo di Crash Vedere questi mostri Fantasmosi Così Cioè in genere Crash Quando veniva In seguito da Vabbè ci sta Comunque Quando veniva in seguito Così Verso la camera Diciamo così C'era Erano sempre elementi Realistici Tipo Un masso Un dinosauro Beh realistici Insomma Qui invece c'è sto fantasma Che non è molto Cioè chi è Sì Probabilmente Un guardiano Non lo so Guardiano Della maschera No 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 Non si sa Però Di sicuro è originale Ecco originale Rispetto a tutti gli altri Il problema è che poi Non si sa mai No 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 Ho perso le insane Ma cosa faccio Non prendo le insane Qual cazzo Io prendo le insane Io le insane la prendo I primi livelli la devo prendere Dai dalla seconda isola Non si prendano più le insane E niente Devo per forza tagliare Ci sarà un montaggino Allora Riproviamo Oh Gemma Ah se rimuoio Niente insane Si annulla così La possibilità di prendere Tutte le insane Perché mi rifiuto La corda che arriva Proprio al momento giusto No no Di nuovo Di nuovo Merda Ma li rompe lui Lo rompe lui Vero? La rompe Che culo Sii Va bene Dai Va bene Va bene Va bene Dai È andata Tra l'altro Un'altra cosa Che mi viene in mente Tutte le volte È Perfetto È che non capisco Perché in questo gioco Non ci siano i cristalli Eh boh Chissà Se mai avremo una risposta Al perché Dell'assenza dei cristalli Vediamo il filmatino No 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 Non esiste Non è assolutamente Puoi Staccati 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 Crash E quello Chi è? Lani Loli Se le maschere Quantiche sono qui Allora vuol dire Perfetto La strada Il nostro brillante futuro Una volta completato Il mio generatore Di barchi Il dominio Su tutto il tempo Lo spazio Sarà finalmente Nelle nostre vani Giò che è Mazzinissimo Avevate qualche vostro Progettuccio Da illustrarmi? Padroni Il mio prodigio Creerà per te Una minchia Di platizzati E la mia pozione Mi Lì Renderà Inarrestabili Bravi bravi Divertitevi Con le pistoline Bravi No Qui non si capisce Perché Accelerò il passo Stando i miei calcoli Nemici sono già in marcia Per attaccarci Ma noi Infine Vinceremo Questa cosa di Engine Embryo Non ha molto senso E L'abbiamo già parlato Tante volte in live Non ha molto senso Che Engine Embryo Arrivino Embryo che Chiaramente vuole Una sua vendetta Però Tutte e due si presentano Dicendo Abbiamo delle cose Da danno E Cortex addirittura Dice Divertitevi con le pistoline Raggi Proprio facendo capire Che a Cortex Non interessa Che ci siano anche loro Non lo so E andiamo Che faticaccia Perfetto Che poi tra l'altro Questo mondo è Sommi palesemente Legato in qualche modo Alla terra di Megamix Di CTR Lo sapremo mai Lo sapremo mai Probabilmente Musica originale Allora Allora Sì C'è questa cosa Che Engine E Embryo Come vi ho accennato Male L'ultimo video Che loro Prattamente arrivano Non si sa bene Perché Non sono Invocati Chiamati Insomma In causa Da Cortex Loro arrivano Non si sa per quale motivo Si mettono lì Perché semplicemente Sono dei nemici Ma non è così che Se no me sono sfruttati male Engine e Embryo Soprattutto Embryo Perché Embryo Tra l'altro C'ha anche tutta la sua Diciamo Backstory Di lui che Insomma Aveva voltato le spalle A Cortex Quindi Vabbè Andiamo avanti Non perdiamoci In chiacchiere Perché questo livello È Il primo Di quelli difficili Prattamente il primo Di tutto il resto Del gioco Che iniziano a essere Difficile cose Io non credo Che riuscirò a prendere L'ensei Perché Mamma mia Allora i trofei Li ho già presi tutti Quindi Però mi ricordo Che c'era un trofeo Legato alla distruzione Di tutti gli altoparlanti Mi pare Allora Per esempio Una Se vogliamo critica Che possiamo fare È il fatto che La difficoltà Dal secondo Al terzo livello Sale in una maniera Esponenziale Proprio Con questa meccanica Di laniloli Che a me piace Onestamente Che però È molto Cioè Non è Soprattutto per come È strutturato Il secondo livello Non è una difficoltà Dal secondo livello Io avrei aspettato A farla salire Un po' di più Per esempio Già questa cosa qua Ora mi piace Perché l'ho fatto Un sacco di volte È una prima volta Mi ha dato dei problemi Comunque va bene Va bene Sorriso Stampato Sulla faccia Perfetto Attenzione Attenzione Amma mia Mamma mia Mamma mia Eh ma No Mato Ma giù 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 Perfetto Bravo Perfetto Basta Che ansia Che ansia Allora Eh ma arriveranno e i momenti no 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 la scatola perché ci sono queste bastardate in Crescuato lo vedi ora io non ci arrivo devo riabbiare eh queste sono le bastardate di Crescuato che non hanno senso soprattutto così tante così continuate e così presto cioè è il secondo livello sto via il terzo è il terzo livello Questo vice, c'è già questi bastardate Oh Menzioni d'onore al fatto che la panciata Di che squadra non mi piace, ma va bene Attenzione, forse devo fare così Sì, benissimo, perfetto Per questa cazzata ho dovuto rifare il livello Aspettiamo che esploda Bene, due, oh Ora se il rimoio vado avanti Basta, insane, no, no Uno, due, tre Uno, due, tre Vai Vabbè, sì Ci sarebbe da fare un video intero Sulle muse di crescato che non sanno di nulla Ma va bene Non voglio mettere tutte le critiche insieme Lasciamolo, cioè, un po' alla volta Critichiamo crescato, no Critichiamo crescato un po' alla volta Così si è uno meno duro Sai che se no, Saviore si spava Mi dice, no, sei troppo cattivo Saluto Saviore Allora, attenzione Prendiamo il bonus E attenzione perché sotto il bonus c'è una cassa Già due bastate La difficoltà è troppo difficile È misurata male la difficoltà di crescato Ho perso il conto Meno male Tutti gli arti di cash sono sempre stati così Insomma, facili Però ogni tanto c'era qualche difficoltà Ma non è che la difficoltà è costante Estenuante Stressante Ma ne parleremo piano piano Non voglio mettere troppa carne al fuoco Sennò davvero Perfetto Io me lo stavo già scordando Che qui c'è la scatola Andiamo a prendere Perfetto Bravo Bene Bene Iniziamo con la prima dinamazione Vedi il fatto di giocare Sapendo già dove devo andare È diverso Mi permette di fare di gameplay migliore Secondo me Se l'avessi fatti subito Ci sarebbe stato Ovviamente la sorpresa Sarebbe stato più complicato La cassa è rimasta su spesa Bene, bene Titto Però secondo me sarebbe diventato Una serie troppo tossica Perché avrei dato veramente troppe critiche Invece ho dovuto ragionarci su Nel corso dei mesi E va bene così Va bene così Nei commenti Ditemi pure le vostre impressioni Se avete idee Cose Argomenti di cui Possiamo parlare Nel prossimo video Ne parliamo volentieri Attenzione Ecco anche Anche Quarta No la terza La quale era Quarta terza Ho perso già conto Ovviamente voglio che questi gameplay Siano come gli altri Come quelli dell'insane Come sempre sono stati i miei gameplay Che c'erano sempre degli spunti Di pressione Degli argomenti Di cui parlare E mi piace Insomma a me fare gameplay Così Crash insomma I gameplay di Crash E stili Vanno fatti così Infatti è vero Ho sempre fatto I gameplay di Crash In estate Solo l'anno scorso Non ci sono stati I gameplay di Crash Porca puttana Porca puttana Dio Dio Cosa ho lasciato? Dove l'ho lasciata? Quale? Io non posso arrivare alla fine Di questi video Va bene Va bene Io non lo so Non si arriva alla fine Non si arriva Non si arriva Un palico Già il pallino giallo Bisogna fare un video a post No non parlerò del pallino giallo A primo tempo Come ho l'occasione Zitto Mi sto già stressato Siamo solo al terzo video Il pallino giallo Mamma mia Come si può fare per migliorare L'ombra di un platform? Ma mettiamoci il pallino giallo Guarda incredibile Basta la mettere L'ombra senza pallino giallo Perché ci devi mettere il pallino giallo? Io non lo voglio fare senza pallino giallo Ombre migliorate Non c'è l'ombra Non c'è proprio l'ombra Ma nemmeno cao C'è l'ombra brutta o sì? Perché l'ombra col pallino giallo? Ma guarda che scavo Io mi scincavo Non arrivo Non arrivo alla fine di questa serie È talmente denso questo gioco Che non c'è mai un momento Dove rilassarsi e parlare Sarà tutta una sequenza di bestemmi Forse ce n'è due qui dentro Ce n'è una qua Forse non ho lasciato mai il bonus Porca Uno Due Tre Porca miseria Mamma No Cosa devo fare? Vai Olè Vai 22 su 22 Zitto E prendiamo questa Una Una Ce n'è una Allora dove l'ho lasciata quell'altra scatola? Ora se io ritorno alla fine del livello E c'è di nuovo Me ne manca una Io smetto Attenzione Salta Salta Sì Oh io ho preso tutto Vi prego Ma io mi incazzo No ora è una questione in principio Non è possibile Puoi vedere che è là dove si deve salire in alto Vai Arrua e fangu Puoi vedere che è qua? No Allora puoi vedere che è qua sopra? Bastarda Guarda dov'era Immotivati Sono dei bastardi immotivati Ma Senza motivo La sfida deve essere equilibrata Non deve essere a caso così Difficile Mettiamo una cassa qui Ma è il terzo livello Calma calma Mantiniamo la calma Meno male Andiamo veloce alla fine O che non ne posso più Dimmi che ho preso tutto Baga Finalmente ho preso tutte le scatole Tutte le gemme Bene Meno male Oh L'insegne Ce l'ho fatta Crash compattatore È il primo livello tra l'altro Con la maschera Con la cassetta VHS Che si prende subito Però Mi ricordo che è bello lungo È bello lungo È bello difficile Questo qua Crash avrà di che Asciugarsi la fronte Penso Mamma Clang Va bene Allora Perfetto Io ho paura Io ho paura ragazzi Non vedo l'ora di finire la seconda isola Perché non mi piace Ve l'ho già detto Questo livello è difficile Perché C'ha la parte finale Che è molto Tosta E tanto il livello dopo è ancora peggio Se non sbagli Il livello dopo è quello Col coso che ti insegue Col trattore finale Che ti insegue Questo invece c'ha tutta la parte Platform finale Che è veramente Tosta E ho paura di sbagliare Attenzione qui c'è la No non era qua Allora è nell'invertita Che lì c'è la La cosa nascosta La già è una nascosta Non mi ricordo Va bene va bene Non disperiamo Su Vai bene Megamix Ecco Vedi Megamix Megamix Io veramente vorrei Mi sarebbe piaciuto Un gioco intero Ambientato Sul Come si chiama Il ctn retrofueli Quando fecero il grand prix Dedicato a Megamix Che era tutto così No Però non proprio così Quasi così Era tipo Mad Max Mi piace tantissimo Quell'associazione di crash Desert Mad Max Eppure questa isola qui Che riprende palesemente Quella Quel mondo lì Non lo so Non mi garba Boh Non lo so Boh Allora calma Perché qui c'è una Scatola rimbarzina Non è vero Ho sbagliato Ho sbagliato No Era questa Va bene Meno male Non sono Non mi sono perso Troppo Perché in genere A volte Sbatti Sulla Su quelle metalliche In alto Mamma mia Perfetto Vai Sì ma tanto Non la posso Prendere in sé Quindi Non la posso Prendere Calma 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 Che bei colori Che bei colori Questo indubbiamente Giù Su Salta Bravo Less 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 Ecco Perfetto Non si sa mai Scendi giù Scendi giù Bene Bene Scusate Scusate Va bene Non va bene Ma va bene Vai via Eccola Perfetto Quella Quella cassa Punto schematica Serviva per aprire Questo Quanto odio In genio In questo Giù Un po' più A destra Non si poteva Non si poteva mettere Stissimo Uscito Da sky Under Non mi fa morire Non mi far morire Mamma No Non posso Prendere in sé Non la prendo In sé A questo livello Non la posso Prendere Non la posso Prendere in sé Non voglio Illudermi Allora Anche questo bonus Mi ricordo Che è parecchio Tostino Perché richiede Un po' di Anderivieni Allora Attenzione Forse non dovevo Prendere Quella L'aletta Ti ho fregato Questa volta Allora Andiamo qui Poi Beh Questo possiamo Anche romperla Sì Sì Perfetto Bene Attenzione Perché anche qui Devo lasciare roba Tutto bene Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Eeeh Va bene Mori Uno Due Tre Quattro Cinque Allora Attenzione qui Perché si muore Che è molto Ma Che per favore No No Non voglio morire Madonna ragazzi Dai Oh Bravo Bravo Crash Bravo Crash Bravo Io ho attivato Il motion blur Però Forse è meglio Senza Perché Fai provare Perché in genere Mi piaceva Di più Senza Motion blur Questo Blu No C'è da dire Che su PS5 Il motion blur Nel film Il motion blur L'hanno ridotto Un po' Su PS4 Era troppo Marcato Non mi piaceva Anche qui Anche qui In altra scatola Nascosta No ma ci sta Ora è troppo Non so Forse sono Tento No io lo rimetto Lo rimetto Motion blur Ci sta Dai è sulla 4 Che non sta tanto bene Qui è molto sottile Ci sta Porca Nomine patris et fili et spiritus santi No 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 Io riferò Io riferò Allora Ah c'erano delle casse qua C'erano delle casse Meno male Sono morto Almeno mi sono evitato Le bestemmie finali Sulle mancate casse E scivola Sulla rotaia Prendi la scatola Belle luci Salta Salta Motonna Motonna La vita E' zitto In genere Io Non è possibile Giocare tranquilli In questo gioco Vai via Vai via Salta nel mezzo Non fare esplosere Aspetta Aspetta Perfetto Che bastard Sono veramente bastard Perché una cosa del genere È proprio una bastard La poi mette all'ultimo mondo No al secondo mondo O al primo Perché è presente il primo Perché mi hai fatto La prima isola Con due livelli Ma sei proprio un cattivo Sei cattivo La prima isola Con due livelli Con l'ambientazione più bella Due livelli Natura Incontaminando Il tuo livello Poi morte E devastazione Per sempre Calma 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 Qui di nuovo La bastardata Di Bob Uno Due Tre Qua Cinque Io veramente Mi sto sentendo male C'è più niente C'è più niente qua Ok Mamma mia Mamma mia Non mi puoi mettere così sotto stress Qui bisogna Qui bisogna andare di là No 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 Non ce lo faccio Non ce lo faccio C'è sempre che sto over reagendo Ma io mi sento male davvero Mi tocca prendere pasticche Peggio a questo gioco Madonna ragazzi Ma perché Ma che bisogno c'era Di farlo così difficile Madonna No Ora io cosa devo fa Devo ripetere Per l'insane O la sciosta E l'insane non la prendo Io non la prendo l'insane Non la prendo l'insane Basta Io invece la prendo l'insane Almeno fino al terzo mondo Le prendo l'insane Porca miseria Ma perché Perché Io non so pensare Quando si arriverà Non lo so A livello di polar A quelli dopo Quarta isola in poi No È un video da mezz'ora Per fare un livello Oddio 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 Allora Sono morto qui Prima Alla palla Vai Oh Calma Calma Ecco Perfetto Benissimo Qui iniziano le bestemmie Grosse Grosse Madonna ragazzi Madonna Ok Ok Scusate Scusate No No basta 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 L'insane Basta No non la fò più L'insane Basta Mi sono rotto Coglioni Basta Basta Non la fò più L'insane Non è normale Non va bene Basta Non è possibile Che mi stressi così tanto Ma vaffanculo Ti fa passare la voglia Di Dijo Astro Davvero Sono solo Al quarto livello Ma non è possibile Ma ti devi rendere conto Che hai sbagliato Poi mi dice Eh perché Critichi così tanto Questo crash Perché Perché non lo critico di più Guarda Oh se ho lasciato una scatola Se ho lasciato una scatola Però non ho preso l'insane 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 E' un viaggio nell'ansia questo gioco Non la posso fare tutta sta serie Io mi fermo Io mi fermo ben prima della fine Ora io non mi ricordo neanche Facciamo le osa a modino Ecco bravo Vai via Dai Dai Sì Sì Let's see Ho preso Sì sì ho preso Oh bene bene Basta Allora Calma Cerchiamo di finire la seconda isola E poi si passa a quella dei pirati Che è più bella Mi calma anche molto di più Se non lo sapete Colpendo tutti i barili C'è un trofeo che io ho già preso Allora Questo livello Mi calma Mi calma di più E' quello che mi calma di più del mondo dell'eserto Che però mi calma Perché appunto c'è il trattore finale Cioè è un po' più bellino questo livello Però non vuol dire che sia facile Vabbè che il casino Ormai è cominciato In questo gioco Però ecco Diciamo che non è che Si attenerà mai Oddio magari a volte sì In alcuni livelli sì Ma non ora Non ora Questa ci ho messo tanto A scoprirla Bene Stavo per morire Stavo per fullare Ci ho messo tanto A scoprirla Perché non è che ci siano Molti indizi Che ti fanno capire Bella l'acqua Che ti fanno capire Che venendo indietro C'è roba Va bene Attenzione Fate caso a quel coso Che sembra Lontanamente un barile Col diamantino verde Con la gemma verde Lo scopriremo dopo Allora Io sono già esaurito Facendo questa serie Porca miseria Che culo Meno male Meno male Meno male Meno male Calma Io non posso parlare Non riesco a parlare In questa serie Io mi ricordo I vecchi gameplay di Crash Era tutto un parlare Delle mie cose Di raccontare Invece Necessariamente Questi video Dovranno essere fatti Con un altro spirito Con un'altra cosa Cioè io in questi video Gioco davvero Perché bisogna stare attenti Mamma mia Vabbè Oh perfetto Perfetto Nasto flashback Attenzione perché qui c'è barili nascosti Eh da far suonare Per prendere il trofeo Andiamo a fare il bonus Bene Bene Allora Ho sbagliato Ho sbagliato Certo però anche Stavo salì Ma mi metti un punto Eschiamativo Che però io non devo Premere Ma io non so Di non doverlo premere Finché non lo premo Eh sei un po' Cattivo Toys for Bob A meno che non ci fosse Il pulsantone Delle nitro In fondo a livello Ma non credo Cioè fondo a livello Del bonus Ma non credo Non credo Restamente E invece sì E invece sì Guarda E invece sì Hai visto Ah ho criticato Toys for Bob Prima che fosse necessario Hai visto Scusa Toys for Bob Scusa Ho Ho dubitato Ho giudicato Antecedentemente Perdonami 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 Mori Mori Bene Bene Vai Bene 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 Non so che altro Dio Veramente Mi manca La favella Non so che Che di Tanto che mi prende Cioè mi prende Non è che mi prende Sì mi prende Però Diciamo che Non mi lascia Mamma mia Non ci Prende Cipole Madonna Non ti puoi distrarre Un secondo Io non so Veramente come ho fatto A fare le prove a tempo Vabbè L'ho fatto in live A tempi Ma Boh Cioè ripensarci Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Porca miseria Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Perché poi il cervello Ti abbandona Ti abbandona Il cervello Non ti sta Sempre dietro Non ti può Ricordare tutto Porca miseria Dio mio Super ciao Ragazzi Allora Rifare tutto Dio 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 No Perché 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 Vedi poi Nei vecchi gameplay Delle insane Tiloci Non c'era neanche Questa cosa Di dove Tornare indietro È frustrante Non può Continuare Basta Questo è l'ultimo livello Dove voglio Falle insane Basta con le insane Perché mi rovino Non è una sana Falle insane Ma perché Perché Accidenta a me Perché sono stupido Sono stupido Panciata Olè Allora Eccoci tornati Dove eravamo prima Se rimuoio basta Se rimuoio basta Insane Veramente Ve lo dico Vai Ma io non ci credo Ho sbagliato di nuovo Foglie di bestia Allora Vediamo di non ripetere Una terza volta Lo stesso errore Ecco Vedi Oh Come si si fa Attenzione perché C'è anche la TNT Bastarda Proprio Cosa sta succedendo Non è male Scioccuacu Dai su 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 Allora Qui c'è Questo punto Un po' Un po' Stra Prendiamo il checkpoint Vai Vorrei morire Anche la maschera Vorrei lasciarmela Perfetto Perfetto Qui ecco Ora dimmi te Se una osa del genere La puoi fare Al quinto livello Ok Ok Andiamo Gemma nascosta Non mi ricordavo fosse qui La gemma nascosta Ok Ci saranno tante gemme nascoste Che non mi ricordo Ve lo dico subito Il cervello Mi sta mandando Affanculo Ovviamente Scusate Scusate la volgarità Ecco Ma qui basta Un centimetro Sbagli E perdi tutte le casse E ti tocca Rifattuto da cavo No No Che culo Allora Dovrebbe essere qua Ora Il trattore Che io poi Io non so Se riesco a prendere Tutte le casse Non ce la posso fare 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 Questa musica Ecco Questa è una delle Fai musiche belline Sulle musiche davvero Non si sono impegnati Per niente Cioè Non si sono impegnati Sono musiche Proprio anonime Quella del tema principale È bellina Molto stile Crash Ma il resto delle musiche Sono anonime davvero Soltanto Kao C'ha delle musiche peggio È strano Oltretutto Cioè Tutti i Crash C'hanno musiche belle Anche il Crash più Anche Titans Forse C'ha delle musiche decenti E questo no Oh Vi ricordate che vi ho detto Guardate C'è il bidone verde Con la gemma Perché Oh È uscito qualcosa Tutte le ho mando Buttato lì Esce la macchinina La macchinina La macchinina La macchinina La macchinina La macchinina Ecco Gemma verde Questa sabà Se non sbaglio Me la dissero In live Perché io Non ci sarei Mai arrivato Non lo sai Che genere Mai Non ci puoi arrivare Ci arrivi solo Se lo sai Perfetto Non riuscirò A proferire parola Non riesco a proferire parola Non so cosa dire Non ho niente da dire Non riesco Madonna ragazzi Bello però Bello 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 È finito È finito Il trattore Che si Che si scuola È bellissimo Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Bene Basta Basta Con le insane C'è il boss Però Che faccio Il boss Lo accorpiamo A questo livello Il boss Potremmo Sì Non voglio Fare un video Solo col boss Accorpiamo Vai Facciamo il boss Facciamo il boss Dai Facciamo il boss Ecco I boss Di Crash 4 Sono belli Mi garbano I boss Di Crash 4 Sono fatti bene Bene E le vostre manine De forni In un bell'applauso Per Rockabax Bene Allora Questo è proprio Un boss Perfetto Non c'è l'insieme qui Posso morire Questo boss Mi garba È bene Fai un po' Pensare Poi c'è Brio Ma non ce la faccio Ma non lo devo colpire Forse Lo devo schivare E basta Non lo devo colpire Vedrà No lo devo colpire Sì Poi c'è Brio Poi c'è Poi c'è Poi c'è Vabbè Non mi voglio spoilerare Nel caso lo stesse Giocando In questo momento Parallelamente A gameplay Però ecco I boss Di Crash 4 Sono fatti bene Sono fatti bene A parte uno Che non è proprio il massimo Non ve lo spoilero Allora Guarda qua Questa è proprio la sfida Bella Da boss Platform Cosa che In tutti i Crash originali I boss Erano tutti Un po' così A parte Bingo Dile Di Crash 3 Entropi Di Crash 3 Poi Sì C'era Ngin Ngin È sempre stato Un po' Tosto Sì Ngin In Crash 2 Anche in Crash 3 Soprattutto Poi però Cortex No Cortex nel 2 Per l'amor del cielo Cortex nel primo Cortex nel primo Oddio un po' si salva Però poi anche nel 3 È veramente banale Mentre qui i boss Sono tutti Tutti belli Sì Tutti molto Piacevoli Molto C'è una sfida giusta Chiaramente non è eccessiva Ma non è nemmeno Non è banale Ecco Questo è un bel boss Per essere il primo boss Ci sta Quante le due Devo riuscire da capo No Ecco beh Questa mi garba Questa nostra mi garba Che c'è l'insane C'è tutte le morti possibili Però il boss Se muori Puoi continuarlo Ok Va bene Non capisco Cioè Mi si Mi si Va bene Sono contento Che il boss Non vada Rifatto da capo Però non capisco Perché c'è questa eccessiva Difficoltà Nei livelli normali Poi boss Che sono comunque Complessi Però sono Permissivi Questo Voler bene al giocatore Nei boss Che Va bene Va bene Va bene Ok Io sono veramente curioso Di un Crash 5 Cioè in realtà anche un Wumpa League Se dovesse essere davvero Un Una specie di Crash Bash remake Sono curioso Sono curioso Comunque Io Sono sicuro Dai che Toys for Bob Sappia prendere Le critiche Che ha ricevuto Con questo Crash 4 Sicuro Sapranno migliorarsi Ho fiducia Perché comunque Spiro L'arena E Trio L'hanno fatta benissimo Tanto a proposito Spiro Spiro Che fine ha fatto Che fine farà Boh Allora Attenzione Attenzione Questo è l'ultimo No aspetta Devo colpire I Minions Eccolo No Che casino Vai Fine E attenzione Perché ora Andiamo a liberare Akano Che non si affisce bene Dov'era Non si affisce proprio Attenzione che c'è il tempo C'è il tempo limite Vai Ah era lì Akano Ok Non si capisce perché Luce Akano Ma va bene Lui usava il potere di Akano Tanto Akano è la mia maschera preferita Di tutto Che spazio Che meravigliosa creazione Akano Eccolo Ecco questa assenza di transizione Mi devasta proprio Da montatore video Mi devasta Bene Per qualche strana ragione Grazie ad Akano Finiamo nel regno dei pirati Non si sa perché Non lo so Io Qual è la logica Ovviamente non c'è una logica Però è così Questo gioco segue una Sequenza di Di ambientazioni Completamente random Che dovrebbero essere dimensioni In realtà sono Palesmente viaggi nel tempo Come creste Il bottino chiama Il primo livello Del mondo dei pirati Che appunto C'è l'isola C'è il caldo Quindi insomma È anche giusto Giocarlo D'estate Con 40 gradi No 36 Da 36 36 Sì 36 Va bene Va bene Io mi ricordo Che questo fu Il primo livello Mostrato Come gameplay Mi ricordo Rilasciarono un video Io lo ricaricai Anche sul mio canale Mi pare Non lo so Perché ero molto gasato Ed effettivamente Questo A livello visivo È uno dei livelli migliori C'è poco da dire È veramente carino Magari E là No Veramente Bisogna subito Ricominciare Benissimo Perché ho rotto La scatola Del trampolino Olè Vai Questo livello qua Onestamente Non mi dispiace L'unico problema Chiamiamolo problema Che ho con questo livello Sono questi mostrilli Questi topastri I tarponi I pirati I pirati I tarponi O ratti Pirati Da pirati Benissimo Tra l'altro pirati Mi ricordo C'era un episodio Di un cartone animato Di chip e chop Che guardavo da piccino Che c'erano i pirati Va bene Non entriamo in queste cose Ma insomma Che ovviamente Anche quelli Erano tarponi Pirati Ma insomma Va bene Dicevo Guarda come è bello Guarda che bello Questa grotta Così Ho la cassetta Vedete che le cassette Piano piano Saranno sempre più avanti Nel livello E negli ultimi mondi Di questo gioco Saranno proprio in fondo Ciò vuol dire Che ti devi arrivare in fondo A livello senza mai morire Non solo per l'ensei Ma anche per la cassetta Perché la cassetta La puoi avere Solo se non muori Se ti muori Prima di arrivare La cassetta La cassetta Non la trovi E questo è un po' Onestamente Non c'è molto motivo Per cui sia così Perché basterebbe Tu arrivi in fondo E prendi la cassetta Comunque Dicevo Questo livello qua Onestamente Mi piace Anche perché Non so È molto colorato Veramente A livelli Di Non lo so Ci vedo molto Lo stile originale Di Crash Soprattutto di Crash 3 Ecco Magari Si la struttura È un po' Particolare Però Vabbè Andiamo 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 Mi ricordo che Non era difficile Questo livello Vediamo se riusciamo Ad arrivare alla fine Senza morire Senza morire E quindi Prendendola in sena Al primo colpo Secondo me Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Allora Attenzione Vai Eccoci Ecco Qua c'è la timeline Alternativa Vediamo se è dopo Perché se è dopo Potrà infilarla Nello stesso video Vediamo 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 Allora Qui c'è una scatola Ma no Non c'è una scatola Frullano nel culo Perfetto Qua Non si può interagire No non si può interagire Non si può interagire Comunque che bello Questa grafica molto Non lo so Io lo dico spesso L'ho detto tante volte In live La grafica è bella La grafica è bella Perché sembra dipinto Sembra veramente Tutto dipinto Però è in movimento Il modo in cui hanno fatto Le texture Che sembra veramente Costantemente Un dipinto È veramente Particolare Allora Attenzione Perché qua c'è una strada doppia Ma torniamo indietro Prendiamo La cassa Qui senza Il palino giallo È veramente Tosta Perché non c'è L'ombra Ma era facile Che palle Devo assolutamente Stare più attento Non posso Permettermi Queste stupide morti Veramente Per una disattenzione Non prendere il coso Cascare nell'acqua Non va bene Non va bene Vai Allora Amodino 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 Fermo No Madonna Io non posso Prendere questi colpi Veramente Dai È un livello facile Questo Su Sembra quasi Non sembra neanche Un livello di crash 4 Questo Non posso morire Dai Oh Andiamo È già finito Tanto è vero Questo livello Non sembra di crash 4 Perché È breve anche È come dovrebbe essere Il livello di crash Questo effettivamente Sembra davvero Un livello Ecco Se crash bandicoat 3 Avesse avuto Dei livelli ambientati Nell'isola pirata E sarebbe stato così Perché questo livello qua È proprio Giusto Ha la lunghezza giusta Perché poi si sono persi Facendo dei livelli Enormemente lunghi Altri Altri Così più corti Non lo so È veramente Veramente strano Questa Questa mancanza Attenzione Vabbè Sono pro Sono pro Le mie proaggini Mancavano le proaggini Ricordo che c'erano le proaggini Ai tempi dell'ensei Ma forse anche di CTR Non lo so Guarda bello Questo sembra proprio Il livello finale Di un 7 e 4 Con la barca Con la barca Con la nave Non è una barca È una nave Un veliero Due Tre Quattro Cinque Sei Spacciatinsi Spacciatinsi Prendi l'ultima cassinsi Spacciatinsi E andiamo inzi Oh yes Andiamo Vai 99 vite Potrei mettere anche quella moderna Ma mi garba A vedere le vite Mi garba Andare a fare Non cadere Non cadere Non cadere Nella retina Guarda bello Guarda bello Che bello Attenzione Perché qua C'è un segreto Per una gemma Nascosta È bello Mi piace Perché è una gemma nascosta In modo Sincero In modo normale In modo umano No via Questo è un bel livello Sarebbe da fare Una classifica Di tutti i livelli Questo è un bel livello Effettivamente Dov'è la Eccola là Me l'ero scordato Me l'ero scordato E via Tanto abbiamo già No vabbè Io sono scemo Nell'anima Io proprio L'anima da deficiente Io Non è possibile Devo rifà tutto Ma no No Non la prendo L'insegna Non è possibile Vaffanculo Ho fatto tutto bene Ho fatto complimenti al gioco Eh Eh Perchè Basta Io non ce la faccio Non ce la faccio Non posso Non posso Non prendere l'insegna È più forte di me È più forte di me È più forte di me Ora metto il pad Ora metto il pad E così Guido Per forza Sull'aereo Eccardo Eccardo Mi dà la testa Scusate 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 È bello però guidare Così Ma perché me lo fanno Scusami Fai che Se te stai gioando Da un gioco di corse Giri il pad E il sensore di movimento Te lo fa usare Come un volante Come una cloche Dovrei brevettare Quest'idea forse Allora Vediamo di non morire di nuovo Perché sarebbe Alquanto spiacevole Considerando che Sono morto Proprio a stupido E in un livello De come morire È veramente Sciocco Perché Non è difficile Sto livello Però Sì In questa parte finale Ci sono un po' più di salti Bastardelli Ho perso a Kuaku Mannaggia Madonna Come ha fatto a non prendermi Non lo so Meno male Meno male Dai Meno male Vai via Vattene Vattene Bene Oh Mori Attenzione Non scoppiamo adesso Oh Arriviamo in fondo Dai La luce in fondo al tunnel Guarda che bella sta grotta Dai Dai E qui ora si distrugge Ho preso anche la gemma Guarda bello Questo Questo cavo Con tutto il denaro Sarebbe bello Poteva andare lì A rufolà A far saltare tutte le monete Invece no Semplicemente Vabbè Vedrai no 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 è dopo Dopo che sblocchi town O dingo die Perché mi pare È con dingo die Nel livello che faremo qua Quindi non si può fare Finalmente Andiamo a scoprire town A livello cascarci in pieno Vediamo Perfetto Aiuto C'è già casino Papponi Che succede Ah Ah ecco Ecco Bellino Non me lo ricordavo Questo Lei che arriva nella mappa Bellino Va bene Andiamo a scoprire town Allora Ed ecco che vediamo Come si faceva il rampino Ecco così Ecco che ci viene Presentata tauna La tauna di questo universo alternativo Di questa dimensione Tauna disegnata Se non erro Proprio da Saviori Nicola Saviori Va bene Va bene Va bene Allora attenzione Perché qui c'è una scatola Bene Mori Oh Vattene Allora c'è sto rampino Che onestamente Mi pare Perda molto Dinamismo Cioè Perché ogni volta Che lo lanci Lei si ferma Si paralizza E Non lo so Non mi convince Non mi convince Non tanto tauna Nel design Ma proprio il gameplay Di tauna Perché Boh E' strano E' strano Rispetto a tutti gli altri Personaggi A me onestamente Piace molto Il gameplay di Dingo Dile Dei personaggi secondari Poi ne parleremo meglio Quando Ecco la gemma nascosta Che stranamente E' ben visibile Ne parleremo meglio Poi di Dingo Dile Quando arriveremo A fa livelli Però ecco Dingo Dile È il mio preferito Guarda belline Le manine Però Veramente belline Tutte ste manine Che con le forchette Belline davvero Mi sono sempre garbate A te Va Come ho fatto Come ho fatto a non morire Attenzione Dicevo Questa tauna Può piacere Non piacere Però a me Quello che non piace E' il gameplay Di questa tauna Perché è un po' Dinamica E un po' No Cioè Non lo so bene Non capisco bene Quale sia il problema Ma sento che c'è un problema In questa tauna L'ho sempre sentito Nel gameplay Ripeto Poi A livello di design Sono gusti Penso Molti si sono lamentati Per esempio di Cortex Perché è un po' Difficile È un po' Duro C'ha I salti Un po' Paralitici Nel senso che Quando salti Anche lui È un po' Un po' Legnoso Però secondo me Il gameplay di Cortex Ci sta Mentre ovviamente Il mio preferito È quello Come ho detto Dingo Dile Perché c'ha Tutta una sua Fisicità Un suo gameplay Venuto veramente bene E questa tauna È Ma forse è proprio Il rampino Il problema Il fatto che Questo rampino Interrompa il movimento Così Va bene Va bene Non lo so Non lo so Non saprei dire Non saprei dire Va bene Andiamo avanti Tanto questo livello Mi pare molto breve Se non sbaglio Vediamo se si riesce A non morire Andà qui Perfetto Mamma mia Oh Bene Bene Ah Olè Perfetto Io non mi ricordo Se Ah c'è lo squaletto Squaletto Non mi ricordo Se cadono Le piattaforme Non credo Non mi sembra Queste qui Queste qui cadono Attenzione Attenzione Oh Come è possibile Come è possibile Che non mi abbia preso Mi prende Mi prende Mamma mia Le zattere Le zattere Salta Olè Bene Mi piace Mi piace Mi piace Mi ricordo Che per fare il platino Fu uno dei livelli Più semi Più fattibili Mi pare Mi pare Non vorrei Di cazzata Non vorrei Di cazzata Non mi ricordo Non mi ricordo Perdete un'esperanza Se cercate di platinare Questo gioco Per chi ci vuole E' veramente tosta Il fatto che loro Abbiano messo Il platino Legato a tutte Le reliquie di platino E non solo Alle reliquie d'oro Come era Nell'Encene Trilogy E' stato veramente No un errore Si Cioè Un po' forzato Perché un platform Dovrebbe essere Platinabile Più facilmente Non dico che deve essere facile Meh Ho perso la guacu Non dico che deve essere facile Però un platform Deve essere platinabile Deve essere platinabile Raccogliendo tutto Concrutando tutto Invece Se te arrivi a chiedermi Addirittura Le reliquie Ahia Che difficile Tutte le reliquie Di platino Eh insomma Sei un po' Un po' cattivo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Oh Oh Come ho fatto Come ho fatto Oh beh Questo perdona Tutte le insegne Perdute Nei vecchi video Non so neanche Io come ho fatto Come ho fatto Non ce l'ho fatto È l'istinto È l'ultra istinto Ho seguito l'istinto E ce l'ho fatta Sta a vedere ora come muoio Sta a vedere Salta Vai Grande 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 Lo dico a me stesso Attenzione Perché qui c'è una scatola Prendela al volo Chiuso tutto No No Come 9900 Ma come 9900 Ma Dio santo Ma Però Dio eh Dove l'ho lasciata Ma perché Non ne va mai bene una Ora che era venuto bene Il livello A modino Breve Veloce Lo devo rifà E poi beh Io veramente mi incano Ma non è possibile È un tormento Rifacciavolo Che ti devo dire Tanto c'è la magia del Montaggino Ah Vuoi vedere che è quella là È quella là Vedrà che non ho preso Allora se io rimuoio È finita Ti prego Io devo guardare solo il pallino giallo Non devo guardare altrove Il mio sguardo si concentra Sul pallino giallo E risolve Vedi Il pallino giallo Va bene Va bene Va bene Non parliamo più Del pallino giallo Che tanto Sarà per sempre Legato A una di teatriva Irrisolvibile Dimmi che ho finito Sì dai C'è Perfetto Perfetto Va bene Va bene Giusto per farci perdere tempo Bene Perfetto L'artista è bene Ma grazie Vediamo il filmatino Ci siamo persi di vista Che c'è Che c'è Siamo tipo morti Che c'è siamo tipo morti Cosa No no Assolutamente no Allora come va nella vostra dimensione Beh come sempre Una banda di scienziati malvagi vuole dominare tutte le dimensioni Allora che cosa cercate Cristalli Gemme Maschere Quindi c'è un riferimento a cristalle Aspetta Tu non vieni Mi dispiace Io lavoro da sola Ma al video rum Ma ogni volta che posso E anzi Direi Che l'ho già fatto Sì c'è questa tauna Dell'universo alternativo Che è avventuriera Che invece di essere La principessa da salvare È lei che salva Gli altri insomma Però sì Non è male Come personaggio Il problema secondo me Di vista tauna È appunto il gameplay Che non è del tutto Ben riuscito Secondo me Tauna ha le sue cose Che occuparsi Gioca la sua linea temporale Per scoprire come la sua strada Incrocia quella di Coco E cresce Molo per surf elettrici Uno dei livelli più infami Del gioco Andiamolo subito a vedere Non tanto per il livello in sé Quanto per l'insane Questo livello è Veramente Bastardino Ma non è il più bastardo Quindi accontentiamoci Per ora Pensiamo a quello che verrà in futuro Non ci pensiamo Ah guarda che belli Che bei colori Guarda bello Andiamo 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 Ecco questo è uno dei livelli Con la musica un po' più orecchiabile Guarda bello Guarda bello Guarda bello Che bello Cioè sì Chiaro Io dico sempre Che bello Che bello Perché effettivamente La grafica Lo stile Questo crash Questo crash non è male Soprattutto in certi livelli Dove proprio Sembra tutto Come ho detto già anche l'altra volta Sembra tutto un quadro in movimento E vabbè 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 Su questo aspetto Hanno davvero fatto un ottimo lavoro Comunque concentriamoci Cerchiamo di arrivare in fondo Perché io so già che sarà Una devastazione totale Tra l'altro con questo card Si registra veramente male Io ne posso più Veramente Allora Ecco Il gioco è difficile Perché adesso c'è tutta una parte lunga Da fare col motorino Col motorino Insomma con lo scooter d'acqua Come con il jetboard Come si chiama Non lo so Bene Fin qua ci siamo arrivati Benissimo E' già tanto E' già No vabbè Vabbè Certo Non è come il livello del bio Mamma mia Non mi ci fa pensare Il livello del bio Non posso farlo in sé Non è possibile Scordatevi che io possa farlo in sé Del bio Mamma mia Cioè potrei farla Ma penso sia molto difficile Farla durante i gameplay Va bene Non pensiamoci adesso Bene Ok Dov'è Madonna Madonna Guardavo lo sfondo Non me l'ho accorto Che il pavimento Era diventato di scatole Che bello Lo sfondo sotto verde Bello 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 Calma Manteniamo la calma Perché non c'è bisogno Alcuno di lasciare Ora inizia il casino Fai passare Grazie Fai passare Grazie Fammi passare Prendiamo il tram E andiamo Madonna No 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 Grande no Questo è stato un bel colpo Attenzione Uno Due Mori Te Le tue No perché ho saltato così Madonna Madonna Piglialo 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 No 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 Le mie complimentazioni Le mie complimentazioni a me stesso Ma è possibile No Northern Oh 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 Madonna Incredibile Incredibile Ah la gemma nascosta Mi ricordavo che era qui Incredibile Beh, modestamente Modestamente sono un abile giocatore Di crash, eh, attenzione Abbiamo anche un akuaku Vai via, per favore, anguilla Attenzione Dai, vati Bene, 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 bene Dai, fammi fare bella figura Fammi prendere l'insegna al primo colpo Così si va a casa Tranquilli, con un video veloce La gemma verde Non mi ricordavo Ci fosse la gemma verde La prossima gemma da raccogliere è quella blu Al prossimo mondo Va bene, va bene Va bene, sarà bella Pesa anche quella lì Non mi ricordavo Ci fosse la gemma verde Dai Concentrazione suprema Va bene, va bene Ci avevo a cuoco Va bene, va bene Non va bene, ma va bene Non va bene, ma va bene Lo dico sempre sta cosa Non va bene, ma va bene Mammine 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 altrui Spero spacchi tutto Ma penso proprio di sì Mammine altrui Dai, dai Dai, dai Dai Sta andando tutto bene Sta andando tutto bene Sta andando tutto bene Ah, non mi ricordavo Ah, non mi ricordavo Che ci fosse anche la parte Con l'aniloli Perfetto Quindi avremo occasione Di bestemmiare Lo so Non può andare tutto liscio Ah, vedi, vedi, vedi C'è una scatola Che maledetti Che maledetti Volei fregarmi Immagini se arrivo a un fondo Faccio tutto bene Mi manca una scatola Tiro delle moccole Veramente Le moccole Le moccole Va bene Allora, questa scatola No, sono due Sono due Attenzione Comunque questo livello Bellino, eh È molto crash È molto crash Canonico Cioè, alla fine Il problema di questo crash Non è tanto I livelli in sé Quanto è fatto che Sia tutto un po' strano Non so, vabbè Non è il momento Di fare analisi Non è il momento Di fare analisi Perché non voglio morire Perfetto Dai 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 Maia C'è un altro pezzo Con la Con il motorino Ma perché lo chiamo Motorino Non è un motorino Motoritta Un motoscafino Ma Aquacu non ce l'ho più Non ce l'ho più Aquacu L'ho perso Mi sono già scordato L'ho perso L'ho perso Ah, vero, sì L'ho perso prima Giusto Ho la memoria Di un pesce rosso Nel livello dei pesci Benissimo Mamma No E' tarpone No Viva Viva Quanto cazzo L'ho perso 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 No Ma non è vero Ma da Ma insomma Ma insomma Ma dove c'è sempre una La cassa è rimasta indietro Io vado a prendila Ma arriva la cannonata Oh ragazzi Ma c'è sempre una cosa positiva In questi casi Perché vi beccate Un montaggino E uno E due E tre Due Tre Quattro C Zè Zè Oh No Dai Veloci Spediti Allora Riprendiamo Dove era rimasto che stress sto gioco allora calma se rimuoio dai smetto se rimuoio smetto di fare video film me ne frega non tino la serie bene tarpone mori grande coppia vai boom 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 vieni tarpone vai verso la bomba no 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 tarpone vai scoppiato l'altro tarpone meno male via 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 oh madonna sto per crepare nooo ma sto per crepare oh giusto c'è anche da fa' il mini boss c'è da fa' anche il mini boss e io non ha kuaku allora non facciamoci prendere dal panico quando dovrebbe essere troppo difficile allora calma vieni tarpone vieni tarpone vai picchia sul coba bravo sul tettacolo si perchè il secondo mondo di crash 4 non ha il boss ma ha questo appunto mini boss che che culo che culo no niente insieme ve la prendete da voi l'insieme vi spiace l'insieme io non la prendo non mi rifiuto col c***o io col c***o ripeto tutto il livello solo per prendere l'insieme mi dispiace no non mi rifiuto cioè io veramente non voglio impazzire non voglio impazzire semplicemente per un discorso di sanità mentale non è perchè non lo voglio fare preferisco non impazzire insomma dicevo quindi questo mondo non ha un boss classico di crash c'è questo questo pescione luiz bene allora vai l'ultimo l'ultimo vieni scoppia scoppio vai fine mori olè non mi di che ho lasciato anche le casse no va bene ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta ma non ho preso l'insieme ma non ce l'ho fatta non ho preso l'insieme non ho l'insieme preso ma perchè perchè why why so già che metterò una musica stupida in questo pezzo e un due e un due tre che l'ho fatta ciò è questo che metterò bene ce l'ho fatta Non saprete mai quanti tentativi ho dovuto fare Ma ce l'ho fatta L'insane è presa La buona e vecchia materia oscura Attento Crash Pesa più di quanto Oh bene Ti sei svegliato Ottimo Due maschere prese Ne mancano due Il mio livello di panico è diminuito Era circa 10 ma ora si è attestato Diciamo sul 9,78 Periodico Questi bandicoot vogliono aiutarci Bandicoot Segue Va dritto al sodo Mi piace questo tizio Va bene Crash stava palesemente scivolando Sull'olio e quindi è finita Il terzo mondo andiamo direttamente Alla quarta isola Bella Bella Quella cinese Mi ricordo come si chiama questo mondo Andiamo Bene Andiamo a vedere Ah le cascate della tranquillità Giusto Fai una giravolta Non dovrebbe essere troppo difficile Questo livello Facciamo finta che non abbia detto niente Questi livelli qua Ambientati qui nella Cina Così sono veramente belli da vedere Con tutti questi colori Questa ambientazione molto fiadesca Bello Allora dov'è la prossima maschera? Non qui Se questi zucconi non avessero bucherellato la realtà Ora apriremo anche noi dei barchi Invece ci tocca prendere la strada lunga Ma sento che c'è un altro valcone Amici Ho un giochino divertente da proporre I pro di Bandicoot Che raggiungeranno i miei terreni di prova E riceveranno un premio Ma per riuscirci Potranno sconfiggere le mie Piafocche In totale creazioni Vabbè Vabbè E quindi inizia la storia di Brio Che si mette contro di Crash Voglio stare attento Perché voglio rivedere per bene cosa dici Attraverso tutte le fiale Ecco abbiamo Akano Oh Finalmente Mi garba un sacco Akano Mi piace un sacco Allora vado là Bello 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 È un potere che ci vuole un attimino Prima di imparare a padroneggiarlo Ma poi In realtà è molto semplice È una giravolta Immensa Che se usata anche insieme al salto Permette di raggiungere Dei delle vette Molto alte Fai vedere Petta C'era un modo Vabbè così tipo Vabbè andiamo 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 Perfetto C'è una cassa qua su Mi piace un sacco Guarda Guarda belle le luci Guarda che spettacolo Bello È bello veramente Sì È bello bello Grande analisi È bello 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 quello bello Quell'altro È tutto bello Allora Bene Molto bene Molto bene Stong Accendile tutte No tutte no Tutte no Tutte no Ecco Ci si riveva Così fa Reparo pozioni Distillo pozioni Bevo pozioni Tuttetesto pozioni Attenzione c'è un trofeo Se rompi tutte le boccette E la gemma nascosta L'abbiamo trovata subito Incredibile Che cosa strana Che cosa strana Attenzione Ole Bene Ecco questo è il punto più bello di tutto il livello Guarda là No torna indietro Guarda Ammira Fammi ammirare tutta la complessità architettonica È bello è bello è bello Effetti micidiali sugli abitanti Tutto per te Starti meglio No Sono curioso della Diciamo Sottotrama di Brio Perché C'è qualcosa che Non mi ricordo bene Perché Già appunto Brio arriva Così da nulla Dopo che storicamente Era diventato nemico Di Di Cortex E Mi sembra che non è che venga spiegata così bene Perfetto Qui c'è La timeline alternativa Attenzione Perché qua sopra Aspetta Prima prendiamo Akano E c'è Una scatola Punto esclamativo Di qua non c'è niente Vero Attenzione Perché questo è un po' Un po' bastardino Fuggiamolo Perfetto Perfetto Ole Piano Bene Bene No Fermo 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 C'è una scatola Che si vede a malapena Benissimo Bene Ole Scoppiato tutto Questo non si frulla Questo si Ole Chio Bene 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 No 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 Non mi colpire Mamma mia Come è possibile Ci piace Ci piace Ecco La dedizione alla scienza Non sei come questi biblici Che si rifiutano di collaborare Si dice cazzate Alla fine dice cose Abbastanza inutile Per ora Allora attenzione qui Perché è abbastanza Ok Non è che dica Cioè ci hanno messo Sta cosa di brio Che ti racconta Le cose con le boccette Però in realtà Non ti dice nulla Aspettiamo Aspettiamo Perché sinceramente Non mi ricordo più Se lo dice Perché torna Brio Ma secondo me Non lo dice Perché Vabbè vediamo 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 Attenzione qua Tu Vai Perfetto No 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 Meno male Meno male Gli esperimenti sui soggetti vivi Sai com'è Marzupia Va bene Va bene Va bene Ehi Piano 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 Bonus Bonus Che buono Il bonus Allora Ecco che qui c'è subito Una bastardata Molto tranquilla Proprio Molto all'era Ma io Lo frego E faccio così Credo sia Questo il modo Richiesto Vediamo un po' Se riesco a Giocare con Oh Atterraggio lì Perfetto proprio Ah No aspetta Devo far così Devo far scoppiare E salto al momento giusto Perfetto Vai Ma che proagine Attenzione Moio Non volevo fare la panciata Ma va bene Ehi Non facciamo cazzate Non facciamo cazzate Non facciamo cazzate Voglio giocare al massimo Della concentrazione Perché dopo l'ultimo Episodio Che veramente Mi ha devastato Il cervello Proprio E oggi voglio giocare Per bene Aspetta un po' Eh no Ho fatto la cazzata Ho fatto la cazzata Perché non posso più Arrivare lassù Mannaggina Mannaggina Ho fatto la cazzata Aspetta no Forse c'è un modo Aspetta Non è possibile Devo poterci arrivare Da qui Vero 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 Sono bravo Sono bravo Studiato all'accademia Del platform Io ragazzi Non sono uno Che si improvvisa Senza motivo Piano Vai Perfetto Che cosa Ma cos'è successo Ma perché Ma possibile Ma la maggior parte Delle morti Di questo gioco Non sono attribuite Ad una negligenza Ad un errore Del giocatore Ma bensì Ad una disattenzione Programmatica Cioè Il gioco sbaglia Facendoti sbagliare te Facendoti morire Io non ho sbagliato io Ho sbagliato il gioco E perché io devo morire Perché il gioco ha deciso Di sbagliare Facendomi morire Va bene sta cosa Non va bene assolutamente Se un gioco Richiede la perfezione Il gioco Deve essere perfetto E questo gioco Non è perfetto Ma Altresì Richiede a me Giocatore Bastardo La perfezione E questo È No Non va bene Perfetto Ma dai Ma lo vedi che sei sbagliato Ma cosa Perché Ma non puoi morire così Vedo già i commenti È perché Ti schiaccia Non sei attento Cosa Non sono attento Per Dio Madonna ragazzi Che palle Ora Vediamo di non morire di nuovo così Perché davvero Ora lo frego Devo passare di sopra È per forza Se no mi schiaccio Ma poi C'è lo spazio Non dovrei morire lì C'è lo del doppio Dell'altezza di crash Va bene Va bene toys Va bene toys Attenzione Bene Attenzione qua Perché qui mi riorno Moio Sempre Perché c'è queste Scatoline Di fuoco Allora Laggiù c'è Il coso mi frega La lampanina mi frega Lo so Lo so Lo so Lo so già Lo so già che mi freghi Come è possibile Non mi fregherai Non mi fregherai Bene Non ho mai giocato così bene Non ho mai giocato così bene Non ho mai giocato così bene Ripeto ancora Non ho mai Giocato Così bene Ma la farò la cazzata Prima della fine del livello La farò la cazzata È di sicuro Non ho preso tutte le casse Guarda Voglio arrivare piano piano Alla rivelazione Del Ti prego Piano piano Voglio avere il mistero Fino in fondo Cosa Lenzena il primo colpo Ma è impossibile È magic Magic Questa è magia È un miracolo Incredibile Ogni tanto succedono anche queste gioie Non male Va bene Va bene Va bene E il prossimo livello se non sbaglio Ah c'è anche Tauna Ah la timeline di Tauna Pozioni folli Sarebbe da accorpare Sarebbe l'occasione per accorpare i livelli In realtà no Non lo farò Ma in realtà io non vedo l'ora di fare Fa con calma Ovvero il livello della gemma blu Esatto Infatti ho messo anche la luce blu Questo livello è complesso Perché per prendere la gemma blu E per prendere anche ovviamente tutto il resto del insane E tutto Bisogna farlo due volte Perché Se no era troppo bello E È bello il fatto che la gemma blu Si prende non rompendo alcuna scatola Con un richiamo Al primo livello di Crash Bandicoot 2 In cui se non prendevi nessuna scatola Appunto prendevi la gemma blu E allora facciamola Facciamo subito la gemma blu Quindi non prendiamo alcuna cassa In modo da fare Ah ecco ecco brio Come a vecchi tempi Uniti contro chi ci vesse e ci umilia Quindi lui sta dicendo a Crash Guarda io sono ancora contro Cortex Sono dalla tua parte Ma vedi che c'è qualcosa che mi sfugge In tutto questo Non dovevo rompere le casse Ho rotto le casse Scusatemi Sono distratto Perché ero assorto Dalla storia di brio Ricominciamo velocemente Non devo rompere le casse Attenzione Gemma blu Non rompere le casse Forse era meglio Se prima facevo L'ensane e tutto il resto Così almeno mi memorizzavo bene il livello Ormai ho scelto questa strada La strada del periglio Ancora ovviamente Perché poi si trasformerà Va bene Va bene Non rompiamo niente Attenzione No Acano Andiamo di qua Così siamo sicuri di non rompere le scatole Piano Piano Allora questo salto qui è complesso Perché bisogna Non bisogna rompere le casse Mamma mia È difficile È difficile Sono sorpreso che mi sia riuscito Va bene Mamma mia Stavo per istintivamente prendere il checkpoint Attenzione Olè Allora Allora fermi tutti Bene Bene Prendiamo anche la scatoletta Prendiamo anche la scatoletta Eh sì la cassetta Non la scatoletta C'è un trofeo Forse lo sapete già Se si fanno suonare tutti i cosi Gong Quindi lo sapete Allora Andiamo Senza rompere le scatole Madonna No io non arrivo alla fine di questa serie Mi prende un infarto Oh C'era C'era brio Dovevo sentire brio Vabbè si sente dopo Si sente dopo Allora Salta Non ce la posso Che cosco Dove è andata a finire il crash Madonna No io io davvero Allora attenzione Perché adesso c'è un piccolo trucchettino Che possiamo usare per prendere la gemma blu Dal momento che non possiamo rompere le casse dei checkpoint Non abbiamo mai un checkpoint a disposizione Ma Se io entro nel bonus E poi esco Morendo Ma non segnandomi la morte ovviamente Ogni volta che moriremo Saremo teletrasportati qua Quindi è una specie di checkpoint Cioè Eh sì è un checkpoint Quindi adesso se muoio Posso ricominciare da lì È il mio tentativo Di prendere la gemma blu Bene Ho studiato l'accademia del platform Mammina Veloce 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 Vai in cool Vai in cool Ma hai fatto cascà Accidenta draghi Vai bravo Aspettiamo il drago Eccolo No 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 Fermo fermo Mi sarà incliccato Ma perché si inclicca Oh Ma perché E la tuzia però La tuzia Oh ma no Ragazzi Era più bello Certo se facevo tutto Senza morire mai Ci passavo meglio Ora invece ci passo Un po' più da scarpone Mannaggia Io sono in grado Di far Vabbè Tanto dopo si fa L'insale Quindi Allora Devo salire qui Fare lo scalino Attenzione Saltare Mettere a cano Accidenti Mi sono passato Attraverso Non mi ha preso Va bene Va bene Va bene Grazie Toys for Bob Per questi bug Grazie per questi bug Saltiamo E gemma blu Finalmente E ora spacco tutto Olè Chiuso Ora mi sa Che mi conviene Uscire Perché se faccio Riavvia Probabilmente Non me la segna Gemma blu Per sicurezza Io esco Bene Continua Così siamo sicuri Che ce la segna Gemma blu Bene Facciamo il livello Normalmente Quindi praticamente Per prendere la gemma blu Il problema È arrivare al bonus Senza mai morire Senza prendere le casse E tutto Perché una volta Raggiunto il bonus Ci serve da checkpoint E lo giochiamo anche Molto più tranquillamente Comunque va bene Adesso si fa le cose Sul serio Perché non c'erano Le scatole Ora ci sono Va bene Facciamo le cose serie E andiamo A prendere tutto Bene Riavviamo Facciamo le cose serie E riavviamo subito Perché nel prendere Il gonghino lì Prendi il gonghino Va bene Ma non importa Lo prendo Perché l'ho già preso Il trofeo Quindi però Voi lo sapete Dovete suonare Tutti i gong Per prendere il trofeo Allora Spacchiamo tutto Non moriamo mai E facciamo l'insane Dovrei farcelo Sono molto confident Su questo livello Spero Allora andiamo Bene Veloce 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 Bene Akam Rompi tutto Bravo Akam Bravo Che belli i colori Di questo livello Forse sono Forse è un bel livello Anche sto via Onestamente Guarda Con questa run Che sto facendo Di crash 4 Non voglio dire Che lo sto rivalutando Perché comunque Non è un brutto gioco E io ai tempi Gli avrei dato un 8 Gli dicevo Quando si giocava in live Dicevo che comunque Per me è un gioco da 8 E onestamente Rigiocandolo così Sapendolo a mente E tutto Lo sto apprezzando di più Forse Forse Perché sai Alla fine Nei giochi di crash Anche il fattore Di sapere i livelli a mente Forse influisce Perché noi siamo abituati A giocare A mente Ogni singolo Gioco di crash Perché appunto Ci siamo cresciuti E magari Diamo per scontato Il fatto La familiarità Che abbiamo Con tutti i vari I giochi I vari livelli E quando ci approcciamo Per la prima volta Ad un crash Che non abbiamo ancora Mai giocato Forse questa mancanza Di familiarità Ci fa Vivere un po' peggio Il gioco Non lo so Non lo so Oddio La difficoltà È in dubbio Che ci sia Che sia molto più alta Dei vecchi crash Però Onestamente Ah Ecco Penso di avere amici A parte te Poi capisco Quindi effettivamente Lui è dalla mia parte Ma lui è schizofrenico Totale Perché Perché dice ste cose Vabbè Insomma Ok Sì Il problema maggiore Di questo gioco È proprio L'insane La storia Che magari C'è qualche problemino Però È un platform Si può tranquillamente Chiudere un occhio Il problema maggiore Appunto È l'insane È la difficoltà La difficoltà Assurda Che ha In alcuni livelli Legato ovviamente Al completismo Però ripeto Io sto anche Andando molto a memoria Quindi È un discorso Questo che posso fare Da persona Che appunto L'ha già completato Tre volte Credo Allora Attenzione Perché dobbiamo tornare indietro Allora Qui c'è Quella cassa Lassù in cima Che prenderla Non è affatto facile Ma Ho sbagliato Ho sbagliato Ah ok Ok Eh Vedi Vedi Questo è perché lo so Perché conosco il gioco Io mi ricordo Che la prima volta Questo Questo bonus Ci sono stato Ore Penso Non so Quanti tentativi Posso aver fatto Ora la prima Ho fatto tutto Perfetto Bene Sono migliorato Sto migliorando Non lo so Non è vero Attenzione perché qui dietro Ci sono delle scatole Nascoste Eh però Dio Levati Allora Gemma nascosta Non mi ricordavo Fossi qua Allora Passiamoci diverse volte Perché qui c'è sempre roba Che mi scordo Dovrei aver preso tutto Boh Preso tutto Preso tutto Preso tutto Via Via Ok Suonare il gong E salire ancora Forza Su Vai Tieniti Olè Salta Ehi C'è la cassina Aspettiamo Olè Continuiamo la nostra scalata Attenzione al gong Saltiamo Saltiamo Concentrazione Noo Concentrazione E' meccanico E' meccanico Ci vuole una meccanicità Noo Avevo la maschera Meno male Meno male Ho preso tutto Non è possibile Dove l'ho lasciate Dove l'ho lasciata Due casse Due casse Ma guarda te Avevo fatto tutto bene Non sono mai morto Avevo fatto l'insane Due casse Dove Esigo sapere dove sono le due casse mancate Ma guarda te Avevo fatto bene alla prima No Le due casse Quando succede Ecco vedi anche questo Anche questo Fa parte delle cose sbagliate Di Crash 3 Ehi Di Crash 4 Forse quelle due scatole lì Non l'ho fatta Non lo scoppiate Non l'ho letta Non lo so Non ho idea Guarda quali sono Eccole qua Ma vaffanculo Questo è un grave problema Di Crash 4 Ovvero che ci sono tante Casse nascoste A presa di culo Che ti fanno sbagliato Perché in nessun gioco di Crash Ci sono mai state così tante scatole E loro ne hanno messe troppe È un problema Veramente Non è tanto magari La lunghezza Di tanti livelli Però è il fatto che sono bastardi Sono troppe scatole Quindi tante le hanno messe A stronzetto E niente Ora mi tocca rifarlo Così a gratis Rischiando magari Di sbagliare Ma intanto noi abbiamo La magia Del montaggino Che ci permette Di fare così Non vorrei Tra l'altro Che Toys for Bob Avesse Reso Crash 4 Difficile Senza rendersene conto Perché effettivamente Questo è un gioco Che nel momento In cui lo sai bene Perde molta difficoltà Lo sai bene Nel senso Che l'hai platinato Non nel senso Che sì L'ho giocato Ma no Nel senso Che se l'hai platinato Ci hai giocato Tante volte Riesci davvero A fare queste cose qua Insomma Io mi ricordo La prima volta Non giocavo così Era molto peggio E quindi mi viene il dubbio Che Toys for Bob Appunto Abbia reso questi livelli Difficili Perché non si rendeva conto Che per lei Per i sviluppatori Questi livelli Erano facili Ma appunto Perché loro Li stavano facendo E quindi li testavano Continuamente giorno e notte E questo magari Ha fatto sì Che loro Fossero portati A pensare Eh ma È un po' facile Questo gioco Rendiamolo un po' più difficile Sbagliando però Rendendolo troppo difficile Perché era difficile per loro Che erano esperti E per loro era in realtà Più facile Perché lo sapevano tutto A mente E quindi loro hanno creato Un gioco troppo difficile Perché loro stessi Erano tarati Su un modo di giocare Difficile Che concepivano Come facile Secondo me è successo questo Durante lo sviluppo di Cash 4 E ora niente Tocchiamo di porre Una fine a tutto questo Ma perché Ma perché Va bene Va bene Va bene Usa cano Non saltare Ambecile Ce l'ho fatta Vero Ce l'ho fatta Sì Non mi devo neanche rompere questo Bene Fine Preso Dai Non è stato così difficile Pensavo molto peggio Onestamente Con questo livello Perché mi ricordo appunto Che ai tempi Ci ho patito tanto È invece andato Tutto abbastanza liscio Meno male Questo è uno Dei livelli migliori E così andiamo a scoprire Questa meccanica Che ha aggiunto Toys for Bob In questo Crash 4 Che è personalmente La cosa Una delle osse peggiori Di Crash 4 Andando effettivamente A creare Un doppione Portandoti A giocare due volte Appunto Lo stesso livello Dunque è un casino Spiegate perché È proprio veramente poco senso Praticamente In Crash 4 Ci sono dei livelli Lo spiego Per chi non lo sapesse Ci sono dei livelli Che ad un certo punto Succede qualcosa Che magari Per esempio C'è una porta Che si apre Come abbiamo visto Nel livello scorso E Crash si chiede Come mai si è aperta Questa porta Ecco In questi livelli Del timeline alternativa Diciamo così Andiamo a scoprire Che un altro personaggio Come Tauna O Cortex O Dingo Dive Ha aperto la strada Inavvertitamente A Crash Il problema Il problema È che Questa cosa Ci fa fare Prima una parte Di un livello Inedito E poi ci costringe A ripetere Nuovamente Un livello Già fatto Per metà Almeno In cui però Le casse sono diverse È una versione Più difficile Del livello Intanto andiamo Che magari Magari se ne parla A strada facendo Perché È un culo E no Veramente strana Che ha poco senso E che è strana Proprio da spiegare Perché a livello di concetto C'ha delle Perplessità Lascia delle perplessità Benissimo Sono già morto Non è vero Non è vero Non sono morto Che culo Allora Andiamo Che bene Kawaii Kawaii Queste casse messe A Che culo Che culo Sono delle casse messe In modo proprio Per fatti morire Bene 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 Mamma mia Attenzione Attenzione Perché c'è una cassa In alto Il fantasma Ha preso Nell'occhio Quanto sembra Questa cosa qua Una specie di remake Di Nati in Fortress Non so perché Io ci ho sempre visto Nati in Fortress In questo livello qua Di Crash 1 Oppure anche Twin Sensi C'ha qualcosa Ecco la scatola lì C'ha qualcosa anche di più in segno Questo livello Vabbè sono io che sono lì fuori Non mi scordo niente qua Benissimo Pieno male C'avevo a Kwaku Ole Ecco Ricordate Prima ci siamo trovati Davanti Quel portale Brio lancia la bomba Diciamo Siamo Ecco La timeline alternativa È effettivamente finita qua Dove abbiamo lasciato Tawna Il livello Doveva finire lì Invece no Noi riprendiamo Il livello di prima Con delle modifiche però Lo vedi Queste casse non c'erano Cioè È il livello Che abbiamo fatto prima Però più difficile Diverso Non è lo stesso livello E questa cosa Non ha senso Cioè È chiaro che loro Invece di rifarti fare Lo stesso livello Te lo fanno fare In versione più difficile Semplicemente perché Così è diverso Ma perché Crash ha già fatto Questo livello E non era così Quindi perché Me lo fai rifare Cioè Ha senso a livello Di gioco Ma non ha senso A livello narrativo Perché Dal momento Che tra l'altro Ci sono già le invertite Che non faremo In questi gameplay Ci sono già le invertite Che sono delle versioni Secondarie Degli stessi livelli Che devi rifare Se vuoi platinare Il gioco Ma perché Addirittura Inserire questi Non lo so Io come definire Questi livelli alternativi Perché di fatto Sono dei livelli alternativi Che hanno un pezzo Di timeline alternativa Che spiega Cos'è successo Nel frattempo Bellina Bellina come idea Ci sta Ma non ha senso Il fatto di dover Rifare tutto il livello Non lo so Non lo so È veramente È difficile anche Parlare Perché Cioè C'è veramente Molto poco da dire Di questa cosa Se non Per il fatto Che è superfluo Che è Riterato Che è ripetitivo È un modo Proprio per allungare Il brodo Rendendolo più difficile Devo fare anche il bonus Addirittura Devo rifare il bonus Che ovviamente È diverso Non è lo stesso bonus Non lo so È veramente Una mancanza Di pulizia No Di pulizia Di 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 organicità Non saprei come dire Davvero Non è una cosa fatta bene Nautidog Non l'avrebbe fatto Ma senza scomodare Nautidog Anche Un altro sviluppatore Un po' Un po' Peggio Avrebbe fatto Una cosa più pulita Questo è proprio Non ha senso Una soluzione del genere Va bene Chi se ne frega Il livello c'è Lo dobbiamo fare E lo facciamo Salta Olè Olè Beh Meno male che Comunque sono pochi I livelli Da fare Con questa meccanica Come si può dire La timeline Attentativa Mi pare La chiave Trova Ho lasciato una scatola E questa sarà La causa Della mia fine Non so come è successo Ma è successo Quindi teniamoci Troviamoci contenti Veramente Mamma mia Se lo volevo fa Non mi riusciva Ci abbiamo Un aquaku Quindi Teniamocelo Veramente Un altro aquaku Mamma mia Ma io sto diventando Veramente Professionale Professionista Bravo Eh però Questa cosa C'è C'è Se vedi Queste Queste nitro Non c'erano Mi sono giocato Un aquaku Mamma mia Che devo dare Il più semale Il salto Allora Che è più difficile Cioè di per sé Non sarebbe neanche male Quest'idea De Eccoci Meno male Non sarebbe neanche male Quest'idea Dei livelli stessi Più difficili Il problema Appunto È che Si inseriscono Nella narrazione E che Quindi Spezzano La narrazione La continuità C'è una dissonanza Ludo-narrativa Che non ha senso Me li potevi far Magari No Due casse Eh Non lo so Dove sono Non lo so Dove sono Vaffanculo Semplicemente Vaffanculo Me li potevi fare Come versione alternativa Al posto delle Delle invertite Secondo me È una soluzione del genere Cioè gli stessi livelli Più difficili Senza le invertite Però capisco Che le invertite Sembra di più Perché c'è tutte queste Modalità colorate Ora io devo Prendere due scatole E mi tocca farlo Mi tocca farlo Perché non ero Neanche mai morto Ero stato bravo Lo vedi? Si Prendi tutto E sbagli Perché mori E non prendi le insane Se prendi le insane Sbagli Perché c'è le scapole Nascoste di merda Se al mattino Spacchi la palla La terra pure C'è veramente Una volontà Di far bestemmiare Il giocatore Che non è giusta Dove lo lasciate Dove lo lasciate queste scatole Quella lì? No L'avevo presa quella lì Molto più probabile Che le abbia mancate Nella parte di crash Che nella parte di taula Nooo Ma va in culla Poi perdi la voglia E va tutto a rotale Tira troppo la corda Questo gioco qua Tira troppo la corda E ti stressa troppo Perché questo gioco qua L'ho detto già Tante volte Se non avessi avuto Tutte queste Tutte queste leggerezze Alla fine Che sono leggerezze Alla fine Queste complessità Queste sbavature Grosse Sarebbe stato Un gran gioco Di crash Se non avessi avuto Queste sprecisioni E questo Eccessivo Tirare la corda Continuamente Verso il giocatore Io per qua Nonostante tanti L'abbiano detto Che questo gioco A livello degli originali Per me non lo è Non è il miglior crash Di tutti Perché se te prendi Un crash 2 Ti ci diverti di più Di questo Almeno io Certo siamo di fronte Al miglior gioco di crash Dopo l'era PS2 Indubbiamente Ci mancherebbe Mentre Un'accortezza Di questo tipo Ovvero stare attenti A livellare meglio La difficoltà L'avrebbe reso Un gioco Da mettere all'altezza Gli originali Ed è un gran peccato Perché soprattutto Saltiamo Perché questa difficoltà Cosa ha comportato Ha comportato Che dopo poco Dall'uscita del gioco Tutti L'abbiano abbandonato Proprio perché Un platform È difficile Che non lo gioco Ma vaffanculo Io ho pigiato Ho pigiato Perché non me l'ha fatta La frullata Cosa stavo dicendo Cosa stavo dicendo Non mi ricordo più Questa eccessiva difficoltà Ha fatto sì Che dopo poco tempo Dall'uscita Tutti se ne sono liberati Tutti l'hanno mollato Su Twitch Nessuno non streamava più Tutti l'hanno droppato Dopo tre livelli Perché un platform Per sua natura Lo vuoi completare Anche il più scarpone Dei giocatori Lo completa Magari non al 100% Ma indubbiamente I primi livelli Li vuoi completare E se te mi rendi Il completismo Così difficile Così un palo La gente non troppa Io veramente Voglio essere fiducioso Nel prossimo Nel prossimo gioco Perché Devono per forza Tenere conto Di tutti gli errori Che hanno avuto E magari per inesperienza O per leggerezza Deve per forza Essere migliore Essere più Più maturo Da questo punto di vista Vedi? Io mentalmente Ho calcolato Il salto al millesimo Ma il gioco Non è stato tanto preciso Quanto me Io sono arrivato Nel momento esatto In cui la piattaforma È comparsa Perché ho studiato All'accademia del platform Ma il gioco Non è stato bravo Quanto me E allora Se te mi chiedi Una precisione del genere Devi essere preciso Devi essere perfetto Non lo sei Dai ripeti Ripeti Sempre il salto livello 200 volte Vediamo Ancora Ancora una volta C'è un problema grave Qui Qui c'è veramente Dei problemi gravi Qui di design Non è possibile Che io non trovo Per due volte di fila Le scatole Vaffa Non c'è niente qua Eeeh Non è che è forse qua No E dove sono queste scatole Che non riesco a trovare Guarda dov'è Guarda dove l'hanno messa La voglio indicare io Guarda dove l'hanno messa Che se non giri la camera Non la vedi Che bastardi Come fai a arrivarci? Come ci arrivi? Ci arrivo così? Cioè per arrivarci devi saltare Su una cassa e fare a cano Quella giravolta da cano No vabbè Questa è proprio la scorrettezza massima Voi non avete idea Non è possibile Perché così nel montaggio Sembra che l'ho trovata subito Ma è passato un bel pezzo L'ho provato diverse volte Il livello Diverse Non ho due o tre Diverse volte il livello Non è possibile Non è possibile Non ci siamo Vedi è per questo Che questo gioco Poi No Vabbè Non lo so Il genere è sbagliato È proprio scorretto È proprio maleducazione È proprio cattiveria Vuole male al giocatore Trattarlo male Basta 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 Chiudiamo Basta Fine Basta così Basta Guardiamo le skin Guarda lì Non ne ho aperta nemmeno una Ci sono le skin E molti mi avete detto Perché non usi Coco? Ecco allora Usiamo Coco Usiamo la skin di Technicolor Bellina No no Quella basic Andiamo di basic Coco Basic Coco Basic Coco Andiamo a fare il sbilanciamento Uno dei livelli più Allora Io adesso andrò spedito Verso la fine Senza dire una parola Giusto Va bene Questa storia di brio Non ce ne frega già più niente Mi pare che qui C'è No nell'invertimento Ah no ecco 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 Si non si sa perché Coco si fa male Che se te dai la frullata sull'arbero Esce il frutto Come si chiamano? Bumpa I frutti Bumpa Quelli che sono nell'inverted Allora andiamo a fare sto livello Come ho detto Starò zitto Perché non ho voglia di commentare Di indicare Onestamente Sto livello tra l'altro Già mi ricordo che è stronzettino Però non mi ricordo granché Allora vediamo che Coco Allo stesso moveset Ovviamente di Di crash Ma va bene Devo testare la mia forza Contro un nemico formidabile Cioè te Praticamente lui ti dice Che io sono tornato Devo sconfiggere Cortex Ma ho bisogno di te Per testare la mia forza Guarda che bastardini Bene Ecco Si non lo so Questa massa di Brio Non ha nessun senso Ma vabbè Non voglio iniziare Con le critiche In realtà non so No 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 Bene 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 Grande gioco Meraviglioso Bello Il gioco è bello No Brio non ci interessa Zitto Allora attenzione Perché effettivamente ti Ok Va bene Ok era facile Mi sono complicato la vita Inutilmente Prima Qui c'era una cassa Che però Secondo come becchi l'angolo Non la vedi Quella cassa Arriva bene Vabbè Mori Attenzione Io queste scatoline Col fuoco Onestamente Spero di non vererle mai più Nei prossimi giochi di crash Guarda bellini Gli malettini La cassa col fuoco Non è brutta È che rompe il ritmo In un gioco del genere Che deve essere sempre Costantemente Un salto dopo l'altro Il flusso Il flusso del platform Secondo me No Questa cassa Che devi fermarti Ad aspettarla Rompe un po' Allora Io come ho detto Farò Questo livello Senza dire nulla Ma perché In realtà È che non ho niente da dire Oggi Oggi non ho niente da dire Bene E bate Perfetto Il punto è che qui Eh oh Benissimo Presto faremo dei flashback Il punto è che Questi livelli Sono talmente densi Che ci sono veramente Poche occasioni Per rilassarsi E parlare Siamo una buona squadra Se sopravviverai Alla prova Io Con la mia ricompensa Noi Saremo una squadra Ancora migliore Sì vabbè Palesemente una storia Come si chiamano Le storie Ecco Ho preso Ho preso il fuoco Appunto Come si chiamano Le Non mi viene il gergo Tecnico Delle storie Backstory Sì la backstory Vabbè Oggi sono così Ragazzi È il freddo agosto Allora Attenzione qui Perché ci sono tutte le TNT Benissimo Va bene Va bene Se non avevo a qua Quella peggio Ah Guarda 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 Allora Fermi qui Perché Qui Anche qua Madonna Madonna Bene Un bonus Liscio Leggiadro Leggerino Beh Meno male Meno male Andiamo La cassa Che non si vede Mamma mia Meno male Ok Attenzione perché In questo livello Di casse che non si vedono Ce ne sono diverse È vero Di la verità Bene Mi ricordo se c'è Il segreto In questo livello Mi pare di sì No qua Ecco Qua 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 Qui sotto Benissimo Benissimo In realtà non è molto Non è molto intuitivo Non è che si capisce bene Che devi andare di sotto Però per esempio In Crash Bandicoot 2 C'erano dei livelli Segreti Nascosti Proprio Da dei suggerimenti Velati Dati al giocatore In Crash 2 C'è il livello Del dorso Che ti insegue Poi l'orso Casca Sfonda il ponte Ma restano Attaccate al ponte Due tavole Del ponte Questo suggerisce Che ci possa essere Qualcosa Quindi te ti avvicini Ti butti di sotto E finisci in un livello Segreto E come questo Ci sono anche Molti altri esempi Di Crash 2 Sempre di punti Segreti Dove raggiungi Dei livelli Tra cui anche Il famosissimo cartello Con l'alieno Di Crash 3 Ma in realtà Anche in Crash 1 Ci sono livelli Segreti Da prendere Sbloccandoli Con la chiave Di Cortex Quando fai livelli Di Cortex Che sono difficilissimi Andiamo su Bravo Bene Ora L'aggiù c'è una cassa Però attenzione Perché ovviamente Tra l'altro c'è una cassa Le nitro messe sopra il vortice Che te fai così E ci caschi sopra Guarda No Paccato che questo livello Mi sta proprio Antipatico Proprio E quindi Lo voglio tirare via Allora Molino Perchiamo di Ecco Perfetto Bene Tipo questa osa vincosa Cosa mi Cosa mi rappresenta Questo Questo Acano che se ne va Nel momento in cui Faccio la 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 rotatoria Lì No Ah Guarda Questo è uno Dei pochi livelli In cui hai tre maschere Che io Li ho prontamente Perse tutte e due Benissimo Allora Bene 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 Oh Abbiamo Aku Aku Vedi Guarda Se io salto Proprio ci manca un velo Che io non sarti su una nitro Proprio fatto apposta Per fatti morire Ora io ho paura Che qui ci sia una bomba No Perfetto Benissimo Andiamo Perchè il livello Non è assolutamente Ancora finito Nonostante sembra Ne abbiamo già fatti tre Visto La lunghezza Bene C'è anche l'ali loli Allora Che livello Incazzoso Guarda lì Ti guarda Ti guarda quanto cavolo Si sono No No Non è vero Non è vero Non è vero Non la faccio più l'insieme Basta Non la faccio l'insieme Cioè mi dispiace Sembra che un po' Gio ama È un gioco che non ti diverte Questo Dice perché Perché l'hanno droppato tutti Perché Perché così Non diverte Quando un gioco non ti diverte È un problema Gioco La parola stessa Gioco Che però non ti diverte Quanto deve essere bello Veramente Creare un gioco Che non diverte Mamma mia Ma come fai Dimmi te Dimmi te Ma dimmelo Rispondimi Cordialmente Rispondimi Come fai Poi veramente Sembra una serie Dove io Mi lamento E basta Ora io devo Fa la panciata Sulla cassa E atterrare il momento giusto E cambiare dimensione Come fai Sì Brio La ricompensa è vicina Bravo Allora attenzione Sì No 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 Allora calma 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 Facciamo così Facciamo un montaggino Via Uno Due Tre Serimoio Basta Respira Respira Devi saltare Sulla cassa Quella lì Ora devi aspettare La piattaforma Lanciarti In panciatizzi E cambiare Sì Lascio anche Acuacu Dai Su Sì Va bene Allora Forse Forse il peggio è passato In questo livello No Non è vero Non è vero Perché qua sopra C'è una cassa Hai visto Che ho rotto Perché non la vedi La vedi forse Proprio dai Quando sei in fondo Ma non solo Ce n'è un'altra Quassù Che poi Completamente camuffata Nel colore del legno Che il legno Attenzione Nei vecchi Cresce Le casse erano Arancioni Proprio visibili Sempre Qui sono marroni Un colore Strano Anche nel nensene Sono arancioni E qui che le hanno fatte Marroni Dice Ma legno e marrone Ho capito Ho capito che legno e marrone Ma ti amo ha visto Un idraulico Vestito di rosso Come super mario E no Eppure E così No 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 Mamma mia Dai dimmi che ho finito Basta Usciamo da questo inco Ti prego Via 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 Ma che schifo Bene Richami Vabbè ciao Via 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 Oh Ce l'ho fatta E andiamo a fare Ma forse sai che È stato l'aver messo Coco Ad avermi portato sfiga Mettiamo crash E facciamo brio Facciamo brio Inseriamolo nello stesso video Così Così andiamo Siamo più vicini alla fine Di questa Ma non finirà mai più A novembre io sono sempre qui Ma poi la musica che sovrasta totalmente le parole Proprio anche pigrizia totale Nel fare il missaggio Oh Vabbene 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 Vabbè qui non c'è l'insale Non c'è l'insale Questo però Questo è stato il karma Oh Tanto questo boss è bellino Come tutti i boss di crash 4 Come ho sempre detto Cioè come ho detto anche l'altra volta Col boss di engine Anzi Questo è più bellino di engine Che alla fine non è neanche eccezionale Tra l'altro questo si rifà ovviamente Al primo Embrio storico di crash 1 Ecco qui ci sono le invertite Perché dopo aver fatto questo livello Sblocchiamo le invertite Benissimo Insomma i mostrini verdi sono gli stessi Che brio ti tira anche nel primo Ovviamente nel primo Nonostante fossi 25 anni fa Erano animati meglio Di questo gioco Va bene 2020 Ok Bene 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 Vai 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 Cosa ha detto Attento Bene Bene Questo mostro vi poi fa il vertine Beh Cioè non è minima Ma che quello è colpa Il doppio italiano Cosa devo fare? Ah lo devo buttare sotto Giusto Bene E' un brio che tra l'altro E' anche in Twin Sanity Con questo mostro qui Insomma Una specie di Hulk Dottor Jekyll Una specie di Debo Vai L'ultimo Ah Giusto 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 C'è l'inverted Che poi cosa vuol dire Che le invertite le fa brio I livelli invertiti sono colpa di brio Vuol dire questo E' brio che con le sue boccette Crea mondi invertiti E' questa la lore E' spiegata così dal gioco Non ha nessun senso Ok Va bene E' brio Diventa Uno schermo nero Tagliato E' ora Per il test Finale Assacchiate la mia Foglia rettiliana Andiamocene da qui Taglio bene No scuotevo la testa In modo anche molto antipatico Mi rendo conto però Questa cosa di brio Che diventa un opterodattilo E lascia l'uovo Ovviamente Nei prossimi giochi Qualora li faranno Scopriremo cos'è l'uovo Vero Non è che verrà del tutto abbandonato Molto probabile Allora Modalità invertita Sbloccata Rigioca i livelli Che ha completato Come piace a brio Invertiti Questi livelli al contrario E pieni di frutti Bumpa Ti faranno girare la testa Ci sono i Bumpa Invece di Bumpa Che sono queste specie di more Che si rifanno Al concept scartato Di Crash 1 In cui Crash doveva raccogliere I frutti E lanciare i nemici Poi completamente scartato Nel gioco finale Magari prima o poi Ve ne parlerò Adesso non ho voglia Non dimenticate di raccogliere Non dimenticate di raccogliere gem Perfetto Abbiamo sbloccato Le invertite Che non faremo In questo gameplay Ve lo scordate Ecco Benvenuti Nel peggior mondo Di tutto il gioco Abbiamo sbloccato La skin di Crash Il classico Quello retro Che è bellina Questa cosa qui Va bene Allora il prossimo livello Lo facciamo Con la skin Di Crash Classico Il classico E tra l'altro appunto Il prossimo mondo È il peggior mondo Di tutti Il mondo del bio Dove ci sono tre livelli Ma sono tre livelli Molto intensi Però C'è anche il livello Con Dingo Dile Che alla fine Mi piace Mi piacciono I livelli con Dingo Dile Sono forse La trovata più carina Di tutto Crash 4 Quella che ho apprezzato Di più Anticonformista Allora Questo livello Non è brutto Ma è molto poco Crash Bandico Secondo me Proprio Ha un'ambientazione Che con Crash Non c'entra niente Però il piatto Non è brutto Allora Andiamolo a fare Non è neanche difficilissimo Onestamente Questo livello Perché c'è questa parata Perfetto Con gli Skylander Ovviamente Belli Cioè È un'ambientazione Che sembra più Non lo so Sly Ma magari anche Spiro Ma non Crash Però ripeto Cioè Il livello è anche bellino Alla fine Ma La musica Aurecchiabile Questa volta Incredibile C'è un livello Con la musica Aurecchiave Cioè Io sembro antipatico Eh Mi ne rendo conto Però d'altra parte Se è un gioco storico Come Crash E nel rebuttarlo Mi canni Completamente Degli aspetti Fondamentali La freccia messa Sotto la Nitro Non mi ricordo Se si possa Ancorpirlo Guarda Non voglio rischiare Non voglio rischiare Me la sento Di morire Vai Tra l'altro Questo è il livello Dove appare brevemente Ripper Roo Verso la fine Perché Pare Insomma Pare No L'hanno detto ufficialmente Toast for Bob Nell'artbook C'è scritto che Fra i tanti boss Era previsto anche Ripper Roo Poi non mi ricordo Perché è stato tolto Non mi ricordo Se dovrei risfogliarmelo Però insomma Era previsto Forse tipo Tipo il livello Dei pirati Tipo il mondo Dei pirati Dove c'è Il mostrone Alla fine Nell'ultimo livello Ma non c'è il boss Appunto Era previsto Che il Ripper Roo Fosse una specie Di boss Similare A quello lì Cioè Arrivavi alla fine Del mondo E Nell'ultimo livello Ti dovevi scontrare Con Ripper Roo Ah bellina questa cosa Che Che ci sono I tasti sonori Però appunto Siccome l'ultimo livello È Quello del Baio È enorme Hanno ritenuto Che mettere Anche Ripper Roo Alla fine Del livello Fosse un po' eccessivo Grazie Grazie Toys for Power Per questi piccoli miracoli Veramente Grazie Ci ha salvato Adesso il gioco È molto facile Ora che hai tolto Ripper Roo No vabbè Se avessero messo Ripper Roo Alla fine di quel livello Lì Sarebbe stato Allucinante Ancora di più Ma in realtà il livello È comunque allucinante Quindi non è che hai Salvato così tanto In realtà è veramente Il livello del Baio È veramente Penso sia il peggior livello Del gioco Perché è troppo Troppo lungo Io non so Come faremo a farla in sé Ma non la faremo nel sé Non la posso farla in sé Non la faccio fuori Dal video Come fa? Come fa a farla in sé Del Baio Perché poi Tra l'altro Ripper Roo L'hai tolto Dalla fine Del livello Però Potevi metterlo Alla fine del mondo Lo mettevi come livello separato Non so perché Toglierlo del tutto Cioè Povero Ripper Roo Va bene Mamma mia Attenzione che qua Possiamo ammirare Anche pura Quel kart CTR Bellino Bellino davvero Allora Vai Bisogna stare attendo Bisogna proprio essere Precisi Se no Non c'è versi Bene Oh Non 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 è Mamma mia Mamma mia Ponte 1 2 3 4 5 Troppo Casino Ok Ci ho fatta Ci ho fatta Dai Olè Ok Che stress Che stress Poi in realtà Questo livello Non è neanche eccessivamente L'unico È giusto Come dovrebbe essere Però c'ha Ah guarda La gemma nascosta è lì Si vede nemmeno Devi fare tutte queste Inversioni Proprio Che il cervello Ti saluta Calma Calma Mantieni la calma Non c'è bisogno Di lasciare Sta calmo Sta calmo 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 Allora Ora c'è la rotaia Bisogna stare attenti Accuorti E molto veloci Ah no È dopo È dopo la rotaia Ok Sì guarda Chi la vuoi Guarda Io non Non ce la faccio Stai dietro Non ce la fa Non ce la fa Prendi acqua Ma è veramente Un'osa C'è troppa roba Ma non riesco A vedere tutto Quello che devo fa Sono delle casse qua Uno Due Tre Va bene Me lo mancia qua Sono entrato dentro Il blocco rosa Me lo mancia qua Sennò devo rifare Tutto a capo No Te culo Io veramente Non so neanche come Come reagire Ah così Giù Era più facile Di quanto Non credessi Io spero Di non aver perso Delle casse Mamma mia Stavo per morire È ora che c'è la rotaia È vero? Sì 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 Salta Salta Giù Salta Salta Giù Anche la lì lori Giustamente Non ci facciamo perdere niente Benissimo Oh Credo che il peggio sia passato No non è passato Non ce la posso Fa lo so Succederà qualcosa Mi spiacevole Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo No era arrivato alla fine No non è vero Non è vero E ora ovviamente Ma è riuscito Ma lo devo rifare ovviamente Devo farlo insieme No 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 Si può andare avanti Sì Ma cosa è successo? Bene come vedete L'ho presa Ci ho messo Un'infinità di tentativi Che non ho neanche registrato Perché questo livello Veramente mi ha devastato Però l'importante Avelo preso Quindi Andiamo direttamente Al prossimo episodio Che è uno Dei livelli più belli Di tutto il gioco Secondo me O meglio Dingo Dile Di per sé È l'aggiunta Che ho preferito Più di tutto Crash 4 E sono molto felice Finalmente di fare Questo episodio Questo livello Con Dingo Dile Per parlarne un po' insieme Bene Ha animato benissimo Tra l'altro Guarda guarda Che cosa abbiamo qui? Bellissimo Isolamento da amici e familiari Tedi esistenziale Tedi esistenziale Questo è bello Io veramente credo sia la parte Meglio riuscita Di tutto Crash 4 Tanto è vero che Questo livello qua Mi ha anche fatto desiderare Un eventuale spin off Di Crash 4 Quindi vedete che Non è che io Ho solo lamentele E critiche Su questo gioco Anzi Quando una cosa è bella Io sono il primo A riconoscerla In quanto effettivamente Insomma Sono prima di tutto un fan E un appassionato Di Crash Perché si tende a dare Un'accezione negativa Al fan Ma in realtà Io sono un appassionato Un estimatore Sono anzi così critico Verso Crash Proprio perché So Quanto Ecco Prova da bene So quanto sia alto Ampio Enorme Il potenziale di Crash E io mi arrabbio Se mai Proprio perché Vedo che non viene sfruttato Quanto dovrebbe Ed è Brutto Vedere che Un brand così bello Così potente Come Crash Che potenzialmente Potrebbe aver fatto Guadagnare Sordi appalate A Sony Prima Insomma Universal Activision L'activision stessa Palesemente Non sta sfruttando A dovere Questo brand E ne abbiamo parlato In più Occasione Vabbè Ora non dilughiamoci Ma concentriamoci Con Dingo Dile Che appunto Ripeto È la cosa Che più mi ha sorpreso Piacevolmente Di questo Crash 4 Ma appunto Mi piace Perché Prima di tutto Perché il controllo Di questo Dingo Dile È veramente Perfetto È veramente Anzeccato Non è né velocissimo Né scivoloso Né lento È bello Mi piace Dingo Dile Ha proprio una sua pesantezza E più che altro C'è questa ironia Che secondo me Funziona molto bene Di questo Dingo Dile Un po' rivisto Che non è proprio Lo stesso personaggio Di Crash 3 Che era Prendo il formaggio Che adesso Faccio il tos Insomma Dingo Dile Di Naughty Dog Era un personaggio Un po' più Sì Era un personaggio Un po' strano Però era forse Un po' più Ti incuteva Un po' più Di timore Non lo so Andava anche di gangster Ecco di gangster Un po' in linea Con appunto Tutti i vari personaggi Della prima Mandata Ma anche Prince Stripe Però Dingo Dile Aveva quel kid Di ambiguo Che poi appunto Viene completamente Quasi ribaltato Piano piano Con Twinsenity Nella sua fugace Apparizione In Twinsenity Che tra l'altro Molto carina Tra l'altro anche lì C'è tutta una parte tagliata Dove Dingo Dile Doveva essere un pochino Più presente Vediamo se riesco a no Ecco Benissimo Ecco mi dà l'impressione Che questo Dingo Dile qua Sia molto ispirato A quello di Twinsenity Quello che doveva essere In realtà in Twinsenity C'è Perché c'è Quella scena breve Dice Pranzo E' un Dingo Dile Un po' diverso Da quello di Crash 3 Però secondo me Più inquadrato Cioè quello di Crash 3 Appunto era Un Dingo Dile Molto sbruffoncello Che voleva fare il fighetto Però in realtà Era un cretino Non lo so Boh Secondo me Faceva molto Da contraltare A Tini Che invece era Proprio grosso Tutto muscoli E niente cervello Va bene Insomma dicevo Questo Dingo Dile A me piace Un botto E tutti i vari livelli Dingo Dile Di questo gioco Sono Piano A parte uno Che però E' molto difficile Ma lo vedremo più avanti Quello Sarà veramente un inferno Questo in realtà E' molto misurato Molto veloce Credo non ci saranno problemi A fare l'ensene Vediamo adesso Me la sono tirata Ma insomma Giochiamoci il livello E vediamo Insomma questo Questo mondo Nel bio Di cui il prossimo Livello Sarà Un inferno Un parto Un infarto Non lo so Perché dovremmo fare Il famoso Livello del bio Appunto Infinito Lunghissimo Con Crash Con Un ensene Che sarà Molto problematica Però va bene Va bene Va bene No ho sbagliato Ho sbagliato Una TNT Dovevo lanciarla lì Non posso Non posso fare niente Per prendere quella Questa Porca miseria Veramente Ho sbagliato Non c'è modo Veramente Porca miseria Vediamo se riesco A trovare una TNT Da lanciarli Loro non posso Aspirarli Vero no Porca miseria Dovevo tirare una TNT Sulla Sulla cosa Vediamo se Merde 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 No 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 Ci deve essere un modo Non devo riavviare Non voglio riavviare Cavolo Devo riuscirci Devo riuscirci In qualche modo Patonna Sono pro Sono un pro Di mellino No in realtà No sono pro Perché appunto Ho studiato All'accademia del platform E si vede I risultati sono questi Allora tra l'altro Anche l'ambientazione Mi piace un sacco L'ambientazione paludosa Che inevitabilmente Mi fa pensare Alla Legata La paludità Che d'essere Però In realtà Ha ben poco Ma quanto è divertente Questo livello È proprio bello Mi caperebbe Magari no In uno spin off intero Però ecco In un crash 5 Mi piacerebbe Vedere Dingo Dile Che ritorna Insomma Perché veramente Sarebbe un peccato Non sfruttare Magari amplificare Questo Questa meccanica Tanto insomma È veramente Una bella trovata Insomma Non finirò mai Di lodare Dingo Dile Che probabilmente Non è neanche piaciuta A tutti Ci sarà sicuramente Qualcuno A cui non è piaciuto Dingo Dile Io invece Ho veramente goduto Appieno Perfetto Attenzione Perché bisogna Stare attenti A questi qui Perché non mi ha Non mi ha Viene su Ora faccio la cazza Vabbè che c'ho Due Aku Aku Dai su Po 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 Va bene Va bene A proposito di Aku Aku Perché Dingo Dile Ha Aku Aku Invece di Uka Uka Perché qua Dingo Dile In realtà È un personaggio neutrale Non è né cattivo Né buono E lui Cioè Si è ritirato Dalla vita Da cattivo Di Di Cortex Non mi ricordo bene Perché Non mi ricordo Se collegava Sì Giusto Sì Perché nel 3 Viene abbandonato Diciamo da Cortex Entropi Che vengono Lasciati Nel passato Quindi Dingo Dile Si trova da sempre Invece Secondo la lore Secondo la Guarda Non parliamo di lore Allora Secondo la trama Secondo la backstory Perché alla fine backstory Secondo me è più furbo Parlare di backstory Che non di lore Ovviamente questo termine Oggi è Uber abusato Insomma Secondo la storia Di Crash Dingo Dile È rimasto indietro Ha smesso di essere cattivo Ha venduto Si è liberato Del suo lanciafiamme Ha aperto un ristorante Di dubbia Di dubbia Di genere Diciamo così E niente Vive in questa palude Vendendo panini Alla merda Probabilmente Beh in realtà Cioè c'è Aquaku Però non è che lui Sta aiutando consapevolmente Crash Lui si Si incrociano Le strade Di Dingo Dile Di Crash Però non è che lo sta aiutando Con consapevolezza Diciamo Potevo prenderla Aspetta Aspetta Facciamo così Vabbè Non me ne frega Adesso Non comprimiamoci Complichiamoci la vita E facciamo Dingo da Olè Perfetto Attenzione Non ho più Aquaku Ho perso Aquaku Ho messo un H a corte Attenzione Ho perso Aquaku In realtà Attenti qui Che un volume Allora Fermi tutti Bene C'è veramente Un'atmosfera Dalla Principe Seranocchio Qui Incredibile Perché è proprio L'atmosfera Del bio Del New Orleans Del jazz Quindi Io penso sia Ispirato proprio Alla Principe Seranocchio Comunque ci sta Adesso Concentriamo sul gioco Questi mostrilli Che sembrano veramente Gli Skylander Non so perché C'ho una versione Con Gli Skylander Alla fine Poverini Non mi hanno fatto niente Gli Skylander Ma lì Ah no 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 Non è vero Una cosa l'hanno fatta Hanno fatto Quello Spiro brutto Quello Spiro Imperdonabile Ecco Se gli Skylander Non avessero avuto Spiro Probabilmente Li rispetterei Di più Però va bene Va bene Non è colpa Di Skylander Ma di Toys for Bob Un bacione A Toys for Bob Bene 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 Anche la musica È carina In questo livello Fermo Fermo Bene Questo livello Mi dà proprio I vibe Da Platform Anni 2000 Non è C'erano Molto questi Platform Un po' Lenti Un po' Così Attenzione Non vogliamo morire Veramente Eccoci Attenzione È interessante È interessante anche il fatto Che Bingo Dile Sia stato In inglese In la versione inglese Doppiato Con un accento Fortemente australiano È stata interessante E comunque È interessante anche il fatto Che è ambientato Qui nel bio Proprio perché lui Essendo metà Coccodrillo Ci sta No Nella palude C'è Coccodrillo Infatti si vedano Anche Qua e là Nel livello E insomma È proprio Un livello Bellino Molto riuscito Bellino Da giocare Divertente Semplice Appagante Perché appunto Secondo me Chi cerca La difficoltà A tutti i costi Dei platform Non ci ha capito Granché Dei platform Il plato Deve essere difficili Occasionalmente Mi manca Ah Meno male Meno male Credevo di aver Lasciato roba Perfetto Vai Fatto tutto E abbiamo preso Anche queste insane È un livello Molto veloce Da finire Perfetto Va bene Niente Un socchiato Stava talmente veloce Che probabilmente C'era tante altre cose Additi Dingo Dai Ma niente Vabbè Veloce così Ne parleremo Nei prossimi livelli Di Dingo Dai Che comunque Ce n'è qualcuno Ecco vedi 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 Lui Va a finire In mezzo alla storia Di Crash Senza volerlo Per caso Grazie a tutti questi Disturbi Della dimensione Quindi il fatto Che sia difeso Da Aku Aku In realtà È a caso Non credo che Aku Aku Abbia interesse Nell'aiutare Dingo Dai Però va bene Non è Uka Uka Anche perché Uka Uka È sparito Aiuta Dingo Dai A trovare la strada Di casa Potresti anche battiti In Crash e Coco Esatto La linea temporale Dingo Dai Così come c'è la linea temporale Di Tawna E anche poi di Cortex Ma il vero problema Sarà affrontare Questo livello qua Come si chiama Io, Tu e il Baio I, You and the Baio Non mi ricordo Come si chiama in inglese A proposito dei nomi inglesi Una cosa che dovevo dire Nell'ultimo video Ma che poi mi sono scordato Questo livello qua Anticonformista Si chiama Anticonformista Perché probabilmente Stavo tradotto male Perché anticonformista Che vuol dire Questo livello qua In inglese Si chiama Offbeat Che vuol dire Letteralmente Fuori tempo E infatti il livello è ambientato Durante una parata Dove c'è la gente che suona Ci sono gli strumenti musicali Lo stesso Crash Che fa con la musica Quindi si doveva chiamare Fuori tempo O in qualche altro modo Ma non anticonformista Se te c'è chi su google Vuol dire anche anticonformista Offbeat Nel senso che Sei diverso Che non vai al passo Con gli altri Quindi anticonformista In quel senso lì Che però In questo senso Non ha senso Chiamarlo anticonformista È un errore Ma comunque Questo gioco Ce ne ha tante Traduzioni sbagliate Dei livelli Che veramente Ci si potrebbe fare Un video ad hoc Per esempio Fai una girapod Fa con calma Sbilanciamento Certo è difficile Trasporre I giochi di parole Dall'inglese All'italiano È praticamente impossibile A meno che non ci siano Proprio dei casi precisi Un altro che mi viene in mente È orsi a ripetizione Per l'amor di Dio Bears repeating Che anche lì Bears repeating Vuol dire Vale la pena ripetere Però c'è anche il gioco Di parole con Bears Ma non lo puoi tradurre In orsi a ripetizione Non lo so Non lo so Il famoso livello Io tu e il bio Uno dei livelli peggiori Proprio più difficili Più bastardi Più incredibili E io veramente Non so se volerlo fare Per le vamme Lo voglio compensarci più Lo facciamo con Crash Ma mettiamo la skin Technicolor Bella bellina Perché ci sta La voglio fare con questa skin Qui perché l'ho mai usata Perché probabilmente Questa skin Me l'ha data Con la versione digitale Del playstation plus Che l'ho mai usata Perché io non ce l'avevo Perché la prendevi Con il download digitale Della deluxe edition Non mi ricordo Non me ne frega niente Andiamo a fare Io tu e il bio E prepariamoci A delle bestemmie Incredibili Mai viste Irraggiungibili Allora C'è anche la gemma gialla Eccola là Vai Andiamo Allora guarda Io l'ho fatto Tante di quelle volte Sto rivelando Che so a mente Ogni cosa Veramente ma Giustamente Attenzione Ah Benissimo Ma perché ho messo Le taschine È proprio brutta Allora Iniziamo già con le bastardate Bene Questo pezzo Vi senza L'ombrina gialla No 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 Fermo Fermo Bene 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 Molto bene Ripare Io ci provo A prenderlo insieme Ma a una certa Io smetto Stiamo a cambiare la luce Aspetta Mettiamo un arancione Non dà più l'idea Di pericolo totale C'era la cassa Ma Non me la ricordavo più Quella cassa lì va bene Va bene Ma guarda Si incomincia subito L'ho presa per sbaglio Eh Quella cassa lì Ficchiamo di non morire Questo livello Guarda Non vedo l'ora di levarmelo Calma Allora calma 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 Sta calma Non parlare Non interessa L'importante è finire il livello Non c'è bisogno di parlare Bene Allora Per prendere la gemma gialla Che è qua su Bisogna saltare Perché non te la fa vedere Non la vedi di qui La vedi solo di laggiù Ma è possibile Questo è un game design disonesto Perché mi rende le osse difficili Giocando sporco Non è così che si fa Andiamo a prendere il motorino Mamma mia Che devo essere cascato nell'acqua Andiamo via Andiamo via Non c'è neanche Aku Aku Eh la musica che è un richiamo ovviamente a Crash 2 Miglior gioco di Crash della storia Esistente Il livello del No livello La la Por Ma La 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 Come si chiama Lo motoscafino Come si chiama Quello lì Jetboard Dai zitto Non rompere le sca Va bene va bene Il Wumpa non serve Siamo nella timeline In cui Crash 4 Non ha bisogno di prendere tutti Wumpa Lo vedi Lo vedi che senza Senza l'ombra gialla Non lo fa a sto livello Cioè Se levi l'ombra gialla Non hai l'ombra proprio Soprassidiamo Soprassidiamo Va bene Va bene Ora finisse qua Il livello E sarebbe già un livello difficile qui No Durerà No Non la posso prendere insieme Non è possibile Io Veramente Non Cosa ci provo a fa Ok E' già tanto che siamo arrivati fin qua Calma 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 Prendiamo la corda al volo Calma 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 Non ti rincorre nessuno Ti rincorre nessuno Calma 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 Speravo di fargli cascata nitro Ma Io una qua Fin qui Almeno una Ce l'avrei messa Fermo No Non dovevo attivare questa Non dovevo attivarla Va bene Rifacciamo Perché anche il bonus È bastardo Questo livello Veramente Guarda Io guarda Boh Ma cosa Mi è saltato in testa Ho sbagliato Di nuovo Ho sbagliato Di nuovo I denti Vai Atterra qui Vai qui Atterra sulla TNT Vola via Vola via Verso lì Di ignoti E ora Aspetta Benissimo Così si fa 1 2 3 4 5 Come ho fatto Non lo so Non chiedetemelo 1 2 3 Una volta che lo impari È anche facile Ora io ho paura Veramente tanto paura Di questi 3 bastardi Perché Che cuno Allora che bisogna arrivare Al momento giusto Perché ovviamente Il barile va giù Dai Dai Ti ho detto Che senza Senza l'ombrina gialla Non lo fa In questo livello Impossibile Giocco Ora Stavo per prendere Una fiammata Un'altra puttanata In qui Guarda Di qui si vede Vedi che c'è La cosa Nascosta nel barile La cassa dietro il barile Che quando ti arrivi qui Non la vedi più È proprio Come dicevo prima Malvagio È disonesto È disonesto È un game design Disonesto Questo qua Prendiamo questo Mi ricordo se c'è roba in alto Prendete sì No Strano Strano Vabbè Ora bisogna Torna qua E prendere la gemma nascosta Che io non vedo neanche Ma dov'era Non era qua Non era qui Non era qui Fermo un po' Fammi vedere Non era qui Ma sì che era qui Sì era qui Era qui Era qui Ora io non so Neanche dove devo attivare Aratterrà Ma te guarda Ma te guarda Ma no guarda Io non ho parole Una osa o si è illegale Probabilmente per fare questa gemma nascosta Ho dovuto cercare la guida Non me lo ricordo più Ma una osa o si Non va bene È proprio da rinchiude in galera Fatti giocare a Crash 4 Tutta la vita proprio Ma porca miseria Non Eh calma Devi fare l'insame Calma La musica di Crash 2 Non bruciarti la guapo Per l'amor di Dio L'osa più preziosa che puoi avere nella vita Questo guapo In questo livello In realtà è un misto Fra la musica di Crash 2 Dei livelli del Jetboard Mista alla musica di Ripper Roo Perché appunto alla fine di questo livello Doveva esserci Ripper Roo Come vi ho detto in un altro video Ovviamente l'hanno tagliato Perché hanno ritenuto che fosse eccessivo Strano eh Strano Sai che se è eccessivo Non lo posso Nooo Questo è eccessivo No non la prendo l'insame Mi dispiace Non la prendo l'insame Non ci penso neanche Più che altro l'insame Posso tentare di prenderla Dopo che ho fatto qualche altro tentativo Qualche altro Però vabbè Questo ho perso qua Devo imparare Prima il livello a mente Non puoi fare l'insame In questo livello Senza saperlo a mente No la bomba Ma poi tutti questi mulinelli Troppe insidie Troppe insidie Vai via Oddio Posso dire che il peggio è passato No Il peggio non è passato Perché il peggio Arriva proprio alla fine Di questo Non mi aspetta Ah no ma aspetta Il peggio arriva alla fine Di questo livello Qui c'era il percorso da fare Poi continuo dai Vai armadillo Guardi c'è Anche questa cosa Qui lo devo fare Con la panciata Ma come fa Bene Ah la cassetta La cassetta No rifare Va bene Va bene Tenteremo di prendere l'insegna No non lo faccio il montaggino Dovete soffrire anche voi Accelera accelera Tiriti Vai dai 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 Fermati Fermo Fermo Piripi Vabbè la cassetta l'ho presa dai Questo è importante Com'è rimasto Crescere No È rimasto accucciato No Ho preso la cassetta però eh Sì comunque capisci che non va bene Vada incredibile Non si pole Non si pole Proprio per farmi sbagliare Game design fatto con la mentalità Il fangame Benissimo Potevo evitarla questa cosa Va bene Per una morte stupida Proprio stupida Ma comunque qui non credo Che sarei riuscito a arrivare alla fine Sopravvivendo Perché questo è il rush finale Proprio No è che è difficile Prendere tutte le cassi qua È proprio difficile A meno che non usi questo trucchettino Non mi riuscirà mai Solo con questo trucchettino Ci riesci eh No no Non ho acqua Bene Come fai? Come puoi pensare di prenderla in sé? Non la prendo La prenderò off camera Veramente non posso Resiste Ma come fa? No 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 Cioè a me piacerebbe fare dei video Tutti i completismi Con tutto il completismo totale Ma Bisogna anche guardare in faccia la realtà E non posso perdere giornate intere Per un livello Che hai tempi Mi richiese Delle ore Cioè l'insengue Qui ti richiede le ore C'è finto crash Io Bah Se avessi preso tutto Almeno avrei preso tutte le gemme Vediamo un po' Poco male Anche se non ho preso le insane Penso se non ero mai morto Non ho idea di dove siano Queste due casse Non ho la più pallida idea No 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 Gioco bastardino Saranno mica state queste due No Non mi dichiarano queste due Erano queste due Erano queste due Vorrei avere Toys for Bob fra le mani E due Ho sbagliato Mado Bravo 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 Stringo la mano da solo Bravo Sono bloccati? Perché? È un bug? Come mai? Perché sono bloccati? Grazie Sono proprio bloccati Va bene Va bene Grazie Grazie Allora riproviamo Nel frattempo io ho rifatto tutto Sembra che è un taglio Ci vuole quarto d'ore E quarto d'ore Proprio Bene 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 Siamo a buon punto Ora c'è la parte Meno male Mi sono appena giocato una Quacu Però Il problema Il problema È prendere le casse Fermo Piano Piano No Non c'è la corrente qua Devo Non scendo Devo per forza imboccare La 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 caschetta No 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 Guardate Guarda come cazzo Si deve fa Mi sta per scivolare il dito Mi sta per scivolare il dito sul pad Ti prego Piano Piano E qui la corrente c'è Prima non c'era Ora c'è Ma che bordini Queste incoerenze Incostanti Piano 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 Che poi La musica È quella di Ripperù No Si riceveva con vito Ma Se doveva esserci Ripperù E poi l'hanno levato Perché qui non ci hanno messo Ripperù Invece di mettici Rifinto Crash Volei far bossa di Ripperù Non l'hai fatto Va bene Però C'è la musica di Ripperù È rimasta Allora mettici Ripperù Fai un riferimento Cazzo Che vuol dire La musica di Ripperù E poi Ripperù Cioè No c'è Finto Crash Va bene Va bene Va bene Va bene Io ora Se non ho preso tutte le casse Me ne vado Me ne vado Me ne vado Me ne vado Io avevo fatto l'insane Ero riuscito a fare l'insane Ero riuscito a non morire Eppure Ho mancato due casse Dove sono queste due casse Replay Vediamo se è la volta buona Ce l'ho fatta Che cosa ci fanno Due coccodrilli E una tigra indiana Nel deserto E che cazzo ne so Scusa Oh Ce l'ho fatta Sì Finalmente Assolutamente Ah Sì C'è voluto Tre ore E tre ore Che registro Va bene Va bene Non va bene Assolutamente Ma almeno Il livello del biofilm Ah già giusto C'è la cupuna Che ore sono Eppure dovrei sapere Bella Mi gaga questa masca Crash Coco Lo volete dare Un bacetto Alla vecchia cupuna E poi dove la trovano Dove la trovano Ok Non guardatemi come se avessi fatto una puzzetta Io sono il tempo Io vedo tutto quanto Intendo dire proprio tutto quanto Ci saranno degli sviluppi decisamente inattesi nel vostro futuro Un futuro molto prossimo E vengono i traumatici che cambieranno le vostre vite Non interromperti prima che arrivi al punto in cui moriamo tutti Eh se preferite ignorare il gigantesco mangiamaschere che incombe su di noi Allora fate pure Che questo mangiamaschere chi era? Serve una mano? Sì loro trovano Capunawa ma dove la trovano? Ah giusto Trovavano Capunawa dopo il boss di Ripper Roo Tagliato Ripper Roo ti ritrovi davanti a Capunawa Bravi Bravi Ah giusto c'è il livello di Dingo Dile Ma lo faremo? Lo faremo in futuro Il mondo del ghiaccio Ovvero l'undicesima dimensione Che ora ne parleremo Ma finalmente i mondi innevati Partiamo con isolati dalla neve E vi confesso che questo è il mio mondo preferito Di Crash 4 Perché a me in generale mi garbano i mondi I livelli ghiacciati E appunto Ah c'è la storia Crash Bandicoot Esiliandomi nel passato Mi hai solo concesso più tempo per riprogettare la tua fine Ti aspetto sulla montagna Ma non congelare per strada Wow la tensione si taglia con il coltello Quanto è che te l'hai già battuto questo buffone? Tre Ah si solo tre? Stratto Avrei detto di più Bene Questa è la presina in giro di tutti gli altri giochi successivi Tutta quella che è stata l'era post Naughty Dog Ma insomma va bene Ed ecco che finalmente usiamo Capunawa Una di quelle che mi garbano di più Ovvero quella che permette di controllare il tempo Di rallentare tutto Mi piace un sacco Devo dire la verità Ci sono diverse meccaniche di rallentamento del tempo Che danno parecchio Parecchio pepe al gameplay Alle meccaniche Però appunto dicevo Questo è il primo livello del ghiaccio E a me i livelli del ghiaccio in generale Proprio in tutti i giochi mi garbano sempre da morire E infatti non a caso Non a caso Io preferisco Crash Bandicoot 2 Proprio perché c'è i livelli del ghiaccio Vabbè non solo per quello Però uno dei motivi per cui mi piace il 2 Proprio perché c'è il livello del ghiaccio E appunto mi piace il fatto che questi livelli del ghiaccio qua Siano in qualche modo ispirati proprio a quelli di Crash 2 Tra l'altro a un certo punto si sentirà anche la stessa musica Un po' remixata diciamo così Addio Bene Però insomma non lo so Quando c'è la neve Mi garba Mi garba Questa atmosfera ghiacciatina Congelato Forse sarà perché c'è molto bianco No non posso morire così però Non lo so Probabilmente mi dà l'idea di fresco Non so perché mi garba i livelli del ghiaccio Ma anche mi ricordo di Tomb Raider 3 C'era i livelli dell'Antartide In Anciarte 2 Ghiaccio Mi garba Vediamo quante volte perderò il filo La prerogativa è arrivare in fondo Prendendone insieme Perché alla fine questo è anche un livello facile Il secondo livello del ghiaccio è Quello più facile Forse è proprio uno dei livelli più facili del gioco È breve Secondo me questi livelli qua del ghiaccio Sono venuti meglio Perché secondo me sono i livelli più Di Crash Di tutto Crash 4 Perché secondo me li hanno fatti proprio per primi Come livelli Sono stati dei livelli È una mia esposizione eh Proprio perché c'è questa sensazione Che siano livelli più Più pensati Più strutturati Sembra proprio di giocare A un vecchio gioco di Crash Non lo so Sono più riusciti degli altri Allora vai Salta qui Salta qui Olè Devi fare la scaletta Bene Ah Benissimo Aspetta 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 Olè Vai Bene Ah già devo rompere quelli Già cavolo Bene Olè Zà Zà Ferma il tempo Vai Olè Chiusto Fine Allora 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 Questo è stato il primo livello mostrato Anche per quello Penso che sia stato uno dei primi Realizzati Proprio perché è stato uno dei primi Ad essere finito No E quindi è stato mostrato Nel primo reveal di Crash 4 Cos'era Giugno 2021 Lo rivelarono proprio il mio compleanno 22 giugno del 2021 Quindi incredibile Che bello Che bello Sono sempre stato legato a doppio filo con Crash Anche nel compleanno E quindi mostrarono questo gameplay Proprio nel reveal Non mi ricordo se è lo stesso giorno E mi ricordo che Mi entusiasmò abbastanza Perché insomma È un bel livello questo qui Ma tutti quelli del ghiaccio sono bei livelli T'altro notate che ho messo la skin di Crash motociclista Perché giustamente nel ghiaccio c'è fresco E mi sembrava il caso Di mettere un giacchettino a Crash Dunque dovrei che Eccolo qua Questa scatola è un po' una bastardata Ma ci sta Queste sono le bastardate giuste Una scatola nascosta indietro Che devi prendere con le Con i blocchi di ghiaccio Ci sta Qui ce la abbiamo nascosta Ed ecco qua Andiamo avanti Prendiamo Il nostro Attenzione perché si muore facilmente qui Quelle casse Quelle mele lì Sono state messe probabilmente Quando il gioco ancora prevedeva Di dover essere completato Prendendo tutti i frutti Bumpa Rendetevi conto All'inizio Crash 4 Prevedeva una gemma finale Qualora riuscissimo A prendere tutti i Bumpa Probabilmente poi Si sono resi conto Che era un po' eccessivo Anche per Toys for Bob E questo Dimostra quanto La loro follia Sia interessante Cioè no Sia preoccupante Preoccupante La parola giusta Va bene Va bene Va bene Meno male Andiamo avanti Attenzione Grovole Perfetto Vai via Bene Questo livello Da facco la prova a tempo Mi ricordo Ta No ci arrivavo Ci arrivavo Ci arrivavo Che cool Che cool Ho sbagliato Ho sbagliato Ci sono arrivato Ci sono arrivato a pelo E non credo No Porca miseria Tutto da rifare Va bene Nel frattempo Che io rifaccio Il livello Vi lascio con una barzelletta Di Vito Prego La linea Vito C'è un idraulico Che va a casa Di questa signora Che c'ha un bagno Che è veramente Un casino Messo malissimo Entra Non dice nemmeno Una parola Si mette lì Con la cassetta Degli attrezzi E comincia a lavorare La signora Per spezzare Un po' Il silenzio Per rompere il ghiaccio Va lì Gli fa Vuole un caffè Qualcosa L'idraulico Zitto Non si ha la fila proprio E va avanti a lavorare Passa un altro po' di tempo La signora Un po' a disagio Gli fa Vabbè Prenda un limoncello Una grappa Non lo so C'abbiamo una cantinetta Qui L'idraulico Sempre zitto Per i fatti suoi E va avanti Passa un'altra ora I lavori Sembrano finiti L'idraulico Prende i suoi attrezzi Li mette nella cassetta Si alza Sempre in silenzio La signora A quel punto Gli fa Non lo so Ha finito Quanto le devo Cioè Non mi ha detto nulla L'idraulico sbotta Fa sì però signora Che palle Cioè Già sto qui Il bagno fa schifo Abbiamo pazienza Cioè Era un casino della madonna Si mette pure a parlare Ma io non lo so La signora sconvolta Fa sì male Sembra il caso Di parlare in questo modo Bene Grazie a Vito Per questa valtelletta Molto divertente Spero vi sia piaciuta Andiamo avanti Con la nostra storia Qui Con il nostro Il livello Non è la stanza Ah veloce 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 Credo sia quasi finito Il livello Però eh No è veramente bellino È veramente carino Tra l'altro mi sono ricordato Che la musica Di crash 2 Non viene citata In questo livello Ma nel prossimo Quindi va bene Sì comunque Mi pare insieme A quella di corte Non mi ricordo Boh va bene Eccola qua La scassa Ah ci arrivo Ci arrivo Ci arrivo Attenzione perché qui C'è una cassa Quasi nascosta Diciamo così Dietro questo tizio Abbastanza zombificato Allora Fermi tutti Perché ah Stavo per cascare Perché la parte finale Di questo livello È abbastanza Ignorante Dunque Fermiamoci qua Bisogna arrivare Qua sopra Bene Ole Devo salire sulla barchina Aspettiamo la barchina Dai barchine Vieni qua Perché ho saltato Va bene Ce l'ho fatta Potrei rischiare E saltare da qui Ma Bene 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 Tutto questo livello Con uno solo Aku Aku Non so perché Gli ha fatto Proprio Hanno proprio voluto Evitare di renderlo Facile il gioco Ma come fai A mettere così Pochi Aku Aku Con tutto il gioco Perché Vabbè Fine Spero di aver preso tutto Sono bestemmio Dai Meno male Dai Se vuoi un livello facile Bellino Veloce Come dovrebbero essere Tutti i livelli di crash Poi ovviamente Si sono persi Tanti Sono Ma è inutile Inutile Continuare con i soli discorsi Va bene Quindi abbiamo fatto tutto Bene Calma e sangue freddo Un altro Il secondo episodio Il secondo livello Del secondo Del quarto Quinto Quando è Il quarto mondo Quinto mondo Vabbè Il mondo del ghiaccio L'undicesima dimensione Che tra l'altro Credo sia un rimando Al Beh Schifo Credo che è schifo Credo sia un rimando Alla decima dimensione Che era quella Di crash to insanity Dove appunto C'era l'isola di ghiaccio Con cortex E tanto che non gioco Crash to insanity Però era l'undice La decima dimensione Non mi ricordo Non mi ricordo Però indubbiamente Penso sia un riferimento Solo che Appunto questo Questo mondo qua È ambientato nel 54 Perché Perché è ambientato nel 54 Quando Cortex Benissimo Sono già morto Perché Quindi cortex del futuro Va nel 54 Costruisce tutta sta roba Boh Oppure c'è una dimensione Del 54 Dove cortex All'età che aveva Nel 96 Nel 2000 Non si apisce niente Guarda non lo so Lasciamo stare Guarda Allora andiamo subito A fare questo livello Che in realtà Sto già facendo Che è Il più breve Di tutti No il più breve di tutti No però Uno dei più brevi Uno dei più semplici In dolore Dai Ti prego Ti prego Ecco perfetto Tra l'altro mi sa Che non si può fare l'insieme Perché ci vuole la gemma gialla No la gemma gialla ce l'ho Bene Quindi si può fare l'insieme Benissimo Benissimo Mori Bene Allora C'è una scatola Eccola Perfetto Spacchiamo tutto Però Oh lì Che bello I livelli Ghiacciosi No 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 Aspetta La gemma gialla È nel livello dopo Quello dell'orso Oltre a tutto Il percorso difficilissimo Con l'orso e tutto C'è anche la gemma gialla Col ponte impossibile È vero Non è Questo livello È il prossimo Allora Qui c'è una scatola Che bisogna aspettare Tutte le volte Perché Se ne va Bene 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 Allora Qui c'è una biforcazione Che ci congiunge Ad un Un percorso univoco Gli scienziati Di Cortex Attenzione Mamma mia Stavo per essere carbonizzato Bene Non vogliamo carbonizzare Il giacchettino bellino Di Crash Questi non si possono colpire Attenzione Dovete per forza Ammazzare Il relativo Capo Bene No non la posso Ah no Ah ok Non la posso Andiamo indietro Perché c'è roba Attenzione Ecco appunto Ah ok Bene 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 Oh le Siamo di nuovo qui Perfetto Possiamo continuare E andiamo sulla rotaia Che è un po' Bastardina Un po' bastardina Perché ci sono delle casse Di cui non si capisce bene La prospettiva Tutte le volte E quindi Si tendono a mancare Inesorabilmente Bene Perfetto Non male che ho studiato All'accademia del platform Anche qui c'è questa cassa qua Benissimo Tutto da rifare Perché la maschera del tempo Ci ha impedito Di arrivare in tempo Maledetto me Eccoci qua Riproviamo Vediamo un po' Se stavolta ci si fa Vai Salta Vai Perfetto Ole Bene Meno male Dai Pensavo peggio In realtà Il livello è già Quasi finito Attenzione Perché qui c'è robetta Eccola qui Tac Tac Ole Bene Sì questo livello è molto breve Guarda È insolita questa brevità Però è molto bellino Questo livello È proprio un livello da crash È proprio un livello indovinato Tutti i livelli devono essere così Impegnativi Il giusto Il brevi Vedi Arriva in fondo lì È finito C'è un po' di platform È abbastanza interessante Anche qua Bene Bellino Ma è Se non sbaglio Questo è uno dei pochi livelli Dove si possono mettere maschere Dunque Ho sbagliato Ho sbagliato Non dovevo rompere la scatola Senti C'è la musica di Cortex Aspetta che forse Non importava Ah no Invece importava Devo rifare tutto Niente Tutto da rifare Eccola La musica di crash 2 Praticamente Cioè loro hanno fatto La musica di questo livello Mescolando insieme La musica di Cortex E la musica di crash 2 E i livelli Snow go Quelli lì Di fatto Una delle poche musiche Memorabili Di questo gioco È proprio un rimando È le vecchie musiche Io veramente Guarda l'ho già detto Credo Ma lo ridico Spero Che nel prossimo gioco di crash Semmai lo faranno Investano di più sulle musiche Perché non si può Alla in davanti Le musiche in un gioco In generale Sono importanti Specie in un platform Diventano veramente Il 50% Dell'esperienza Secondo me 50 no 45 Dai Bene Benissimo Grazie Ho perso la kuaku E probabilmente La possibilità Di avere le tre maschere Che mi sa che è Ho visto la gemma nascosta Allora Fermi tutti Bene Ok Non so che ho paure Ci sia Guarda bello lo sfondo Ci sia qualche tranellino No Eh lo sapevo Sapevo che c'era il tranellino Mi tocca Sacrificare a kuaku Accidento Ma è possibile Immagino Sviluppato Abbiamo reso La sua vita difficile L'immagino Pelati Con la scritta T T Qui Ok Questa è stata bella Sono stato bravo Però è un po' È molto difficile Dai Che bisogno c'era Ma guarda Via Oletta Era meglio del previsto Rompiamole tutte Perché ho paura Che non ci sia nemmeno La cassa Interruttore TNT Eh Nitro Non lo so Che Probabilmente lui vuole Che le rompi Proprio così Con Kapunawa Però non mi ricordo Allora attenzione Dobbiamo arrivare lassù Ah questa parte È ignorantina Bello Ah Nassu flashback Che faremo prestissimo I prossimi video Si fanno anche i flashback Allora andiamo su Non so perché ho interrotto il tempo Bene Gemma nascosta Noo Non avevo più Kapunawa Sono andato lì Ho pigiato anche Ho pigiato convinto Che mi interrompesse il tempo E mi ha fregato Ma mi fa Ma che pa Monna Devo rifarlo Vero alla fine Volete un'altra barzelletta di Vito Così In frattempo io torno alla fine Vito Crash e Coco Sono stanchi di stare sempre Sulle isole Wumpa Così decidono di andarsi a fare Un giro a Napoli Giunti lì Coco Rimane stasera dal posto Mamma mia Che città bellissima Ma poi l'atmosfera È super frontaggiosa Tu che ne pensi Crash E Crash Wow Tra l'altro Anche questo cosino qua Questa rientranza Così è citazione A Crash 2 Citazione insomma È un rimando a Crash 2 Non è proprio una citazione Presa pari pari Da Crash 2 Perché c'erano queste colonne Che si aggiravano Così Mamma mia Stavo per perire Bene La vita Lascio lì Chi se ne frega Ce ne ho 99 Andiamo avanti Dunque Se non sbaglio Se non ricordo male Ora Il livello finisce qui Infatti Cioè io preferisco Di gran lunga A un livello così Impegnativo Ma corto A un livello Lungo Interminabile Che però Insomma lo fai anche Abbastanza facilmente Capito Guarda bene Guarda Oh Vedi Finisci qua Perfetto La scatola L'interruttore c'era Non mi ricordavo Benissimo Bene La gemma presa Che bel livello Ma che bel livello Questo è bellissimo Sto livello qui È veramente uno dei migliori Perché appunto È impegnativo Però è breve È veloce Nonostante sono comunque morto Un sacco di volte Perché sono stupido io Perché palo Mi distrago Faccio lo scemo Però è un livello facilissimo Rispetto a tanti arti È un livello bello Che ti appaga Quindi io dico Se questo Crash 4 Fosse fatto così Fosse stato fatto così Magari sempre con tanti livelli Sempre con 60 livelli 40 livelli Quanto ti pare Però così Con livelli brevi Impegnativi Ma veloci Sarebbe stato un capolavoro Ve lo dico io Che in genere Lo critico questo gioco Perché appunto Questo gioco Non è brutto Gli mancava così Per essere veramente Il miglior Crash A livello di storia No Però a livello di gameplay Di gioco Vero e proprio Ma eccoci Finalmente Arrivati Orsi a ripetizione Uno dei livelli Più cattivi Più malvagi Perché appunto È il livello Dove c'è L'orso polare Polar beer Andiamo subito A farlo Paura di quello Che succederà Nel momento In cui registro Perché sarà devastante Voi però Iscrivetevi Attivate la campanella Perché tanti Non si iscrivono Ma guardano i video Perché poi dicono Eh no Ma arriva Non ho un vino Mi sono perso il video Iscriviti Così non te lo perdi Andiamo Come abbiamo visto Negli altri video Il livello Il mondo del ghiaccio È uno dei migliori Ovviamente Ma Questo livello È il peggiore Del migliori Vabbè È bello Guarda bello Tutta la neve Che a me piace Un sacco Un sacco Veramente Mi fanno Sto male Voglio un crash Tutto del ghiaccio Però appunto In questo livello qua Mamma mia C'è Polar C'è l'orsetto L'orsetto lavatore Mamma mia Io Andiamo a vedere Andiamo a vedere La cosa L'orsetto lavatore È bruttissima Perché la taglio No non la taglio La taglio perché Devo imparare Dai miei errori Guarda bello Guarda bello Guarda bello No Va bene Va bene Il ghiaccio scivola Si scivola Sul ghiaccio Non è che il ghiaccio Scivola Dall'altro Siccome Toys for Bob È molto simpatica Non è che ci ha dato Solo il livello Con Polar No Ci ha dato anche Il livello alternativo Di Tauna Che poi continua Con il livello di Polar Che bello Grazie Grazie Non è che ci ha fatto Due livelli con Polar Due livelli diversi Ma No 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 Lo stesso livello Ignorantissimo Con Polar Fatto due volte Va bene Questo Guarda Quanto è bello Quanto è bella Questa fase Questa fase è proprio Dà proprio l'idea Di Naughty Dog Veramente Col L'ho già detto Negli altri video Ma mi ripeto Ma secondo me ne vale la pena I livelli del ghiaccio Hanno proprio Carpito alla perfezione L'essenza Di Crash Naughty Dog Veramente Non so come mai Andiamo qua giù Bene Vai salta Ecco Andiamo a fare Il pezzo della gemma Che mamma mia Ovviamente È un rimando A livello Del ponte Di Crash 1 Questo senza pallino giallo Non lo fai Perché è veramente Cioè lo fai Sì però Muori facilmente Che bello Mi sarebbero piaciuti Più livelli così Sai Io sto guardando Solo il pallino giallo Non è che hai modo Di guardare alto Ah perfetto Meno male Ora c'è capuna Ua Che puoi rallentare La rottura Di tutto Benissimo Credevo peggio Dai Speriamo di non morire Incorniciamo questa frase Perché non ho voglia Di ripeterlo Per fare l'insegno Va ripetuto Mamma mia Non mi Ti prego Facciamo l'insegno Al primo colpo Dai Già sono morto Una volta Mi sbaglio Va bene Va bene Mi ricordo se c'era Una scatola Semplicissima Da sta attenti Perché se ti becchi Il ghiacciolone In testa Finisce Via Bene Perfetto Ecco qui Qui si ricongiungerà A livello di town Sai che forse Questi livelli del ghiaccio Mi piacciono tanto Proprio perché Hanno queste meccaniche Di capunawa A me capunawa Mi sembra veramente La migliore Oddio Ho anche Come si chiama Ika Ika Quella verde Della gravità Anche quella è bella Vabbè allora Tutto il discorso Delle Eccolo Tra l'altro Lo stesso cortex Che scivola Non riesco a non vederla Come un riferimento A twin sensi Penso proprio di sì Tra l'altro Quanto mi mancava Quindi sta parlando Di insensi Ma se parli di twin sensi In realtà questo gioco Che ha inventato prima Si inser... Lasciamo perdere Queste maschere Che hanno aggiunto Sono quattro Ma è due Sono quelle Veramente riuscite Mentre le altre due Sì Ok c'è Akano Però ecco non so L'Aniloli Akano Boh Sì Akano Personalmente mi piace Però Alla fine è un potenziamento Della frullata Insomma della giravolta Di Crash L'Aniloli Sì è bellina Come meccanica Però un po' confusionaria Mentre Kapunawa Che per me è la migliore E poi anche Ika Ika Effettivamente Danno molto Aggiungono molto Spessore Al gameplay Diciamo Però insomma È stata una buona idea Quella di inserire Queste maschere Per dare più colore Insomma Tutto il gameplay E arricchirlo Cosa che tra l'altro Se dovessero fare un Crash 5 Eviterei di rinserirci Nuovo queste maschere Mi inventerei Un'altra meccanica Ed è lì difficile Però è quello Che riesce a fare Nintendo con Mario Fare un gioco Sempre incentrato Su una certa meccanica E non su riproporre cose Già viste Per evitare sempre di più L'effetto More of the same Comunque Chi se ne frega Aiuto Andiamo a fare Polar Che comunque Adesso Lo sto facendo Con la patch Dell'anno scorso Dove hanno aumentato Le hitbox Perché vi ricordo Che la prima volta Era veramente impossibile Ti passavi accanto Alle scatole Se non le prendevi Perfettamente Proprio Non si rompevano Infatti Tutti Si lamentavano Questa cosa Infatti Vedi che adesso È molto più giocabile Non è detto Che ce la farò Perché probabilmente Non ce la farò lo stesso Che devo concentrarmi Che devo comunque parlare E Però insomma Io E da altri Vaffanculo Dicevo Che io Giù Vedi Sono morto Perché volevo Bragare Volevo flixare Volevo far sapere Che io sono riuscito A platinare Questo cazzo Di gioco Prima che venisse Pacciato E ora Me lo faccio Lo stesso Inizio a prendere L'insieme Almeno mi ripasso E niente Quindi io sono riuscito A platinarlo Prima che venisse Pacciato Però mi ricordo Che ci vogliono Ore e ore Giorni Forse di tentativi No comunque È molto più fattibile Sì Dai ce la posso fare Vediamo se ho preso tutto Che non ne ho mica detto 214 Avevo preso tutto E allora Rifaccio tutto E one E two E one Two Three Eccoci qua Riproviamo Dai Stavolta la volta Buono Dai ti prego Ti prego Ti prego Benissimo Quadrato O R2 Quadrato Ho appena premuto Tondo Per fare Il turbo Non posso nemmeno Provare Perché moio Quadrato Funziona Ma Devo provare Anche il tondo Non posso mai provare Ora È anche Con il tondo Ho appena premuto Tondo Va bene Con tutti i tasti Si può andare Concentrati Non pensare Alle cazzate Ma che ne pensi Mi sto divertendo Titto Uh c'è la cassetta Vendila Bravo Dai Dai Sì Sì Bene 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 Vai Fatto È molto più facile Adesso A quel tempo Dovevi proprio Prendere Il mezzo Perfetto Delle casse Perché la hitbox Di crash Con polar Era troppo Stretta Veramente Tante volte Ci passavi Attraverso Le casse Ora invece Te le prendi Anche se sei Un po' Più lontano Ma è giusto Così Anzi forse È anche Troppo Così Però Va bene Meglio così Che come era Prima Bene Non resta che fare Cortex Vero C'è l'alternata Sì C'è Cortex Quindi il livello alternativo Di Cortex Si sblocca dopo Ma ora non resta che fare Costruzione ponti Ovvero l'alternata Di Tauna Cresce dopo Ma va bene Dovremmo rifare Il polar beer Speriamo bene Perché qui è più difficile Partiamo subito Con Tauna Che non si sa perché Qui Ma ok Ho lasciato il cappotto Nel quadrangolo Delle bermuda Ho lasciato il cappotto Bene Iniziamo con questo Pezzettino Abbastanza Aia Bene C'è una cassa nascosta lassù Ricordatevene Perfetto Perfetto Vai Olè Sgro Bisogna stare attenti Alla parte dopo Che c'è un platform Abbastanza assurdo Qui Da qui in poi Con l'elettricità Mamma mia Volendo si può fare Anche così Bene Spero che nel prossimo Mundo ci siano Delle spiagge Sole Sobbio Cocktail Con l'ombrellino Sentiremo questa frase Molte volte Mi sa Allora attenzione Perché da qui in poi C'è la scossa Che è molto facile Da Mamma mia Si muore Non si può prendere Non si può prendere Si muore qua Che culo Ok Vedi Qua c'è una scatola Che resta sempre Che non viene fatta esplodere Dalla bomba Quindi attenzione Non ci credo Non ci credo Ce l'ho fatta Calma Calma Ce l'ho fatta Andiamo a Quaku Incredibile Che sia riuscito A farla Al primo colpo Lo sapevo 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 È troppo Troppa roba Da fare Qui È veramente troppo Fammi riprovare Ma è troppo C'è troppe robe Il tempismo È impossibile Cioè è possibile Ma è troppo Beh tanto non facciamola in sé Addio La facciamo Poi dopo Sono troppo veloci Queste piattaforme La scossa C'è troppo poco tempo Guarda là Ma dai Ho messo il checkpoint qui Per aiutarmi Ok bisogna saltare Eh però mi ha preso Va bene riproviamo Forse posso fermarmi un attimo Prima dell'ultimo salto Vediamo un po' È veramente Secondo me è troppo Ecco vedi Va via tutto il discorso Che si è fatto Negli ultimi video Dove si è detto Che erano livelli più No facili Più Più veloci Meno impegnati Cioè impegnativi Sì Perché poi sembra che Quel livello Ti riusciva Perché era facile No è che era facile È che era meno Storcio Sì Sono una persona Molto equilibrata Su Sì Ho lasciato il cappotto Tanto ci sarà Da farlo 70 volte Questo livello epic Che lo so Eh Sì 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 Vai Fatta Fatta E fatta Meno male Dai ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ho perso a guaco Ma ce l'ho fatta Importante farcelo E si vede Cosa succede Perché c'è Quella roba Di nitro Che fa esplodere tutto Quindi lei aiuta Il crash Rendendogli la vita difficile Con le nitro Però sa tanto Ah capunawa Che lo aiuterà Ok Però non è un gran che Come aiuto Diciamo Va bene Va bene Andiamo 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 A me non mi mancava Guarda lì Guarda che lavori Mi viene il dubbio Che non ci sia L'interruttore Della nitro Qui bisogna Sattarci sopra Allora Allora calma Ok Ok Quanta tensione Sto gioia Eeeh Allora pluff Ha fatto pluff Vediamo se riesco a fa un gioino Così Così si fa Ole No Aspetta 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 Riproviamo l'orso Però attenzione Perché qui la versione è difficile Quell'altro scivola piano piano Ma perché C'ha lo cicofreni Ma io non so Guarda che lavori Guarda che lavori E poi c'è anche l'invertita Mi ricordo di aver passato Una serata Una serata intera In live A fare l'invertita No Però Dio sano Abba rifatto almeno una volta Perché non posso Pensare di fare l'insegna Al primo corpo Se non imparo un po' La disposizione delle case Perché è veramente troppo Demanding Benissimo Che lavori Che lavori Va bene Riproviamo Riproviamo Così con l'ombrellino Torso Speriamo se la volta buona No Che gioco Ma vaffan Dai Mi c'è in casa Mi c'è in casa Devo rifà tutto Ho lasciato il cappotto No vai No vai C'è in casa No vai Riproviamo Riproviamo Vediamo se si ha la porta buona Ne posso più veramente Guarda se è un gioco Invece di divertire Vesso un patimento Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Sì Dimmi che non ho lasciato niente Per cortesia Sììììììì Basta è finita È finita Ce lo siamo levati Costruzione Poco E tu che rifai? Non ho preso le mele Ma non mi è mai successo Eccoci qua, fatto tutto, risolto, perfetto Va bene, chi se ne frega, continua Allora, il prossimo livello che dobbiamo fare È finalmente il Dottor Cortex Boss messo stranamente, insolitamente a metà gioco Perché penso siamo a... sì, siamo a metà gioco Nel livello appunto la quarta volta è quella giusta Che è un insolito piazzamento di Cortex nel mezzo del gioco L'abbiamo visto solitamente in fondo L'abbiamo visto all'inizio in Twin City E ora lo vediamo nel mezzo E questa cosa, onestamente, la prima volta che la vedi Mi sorprese, è una bella sorpresa C'è anche un bel... un bel... una bella narrazione in questo boss Crash Bandicoot Ti ho messo alle strette Sarà proprio come tornare ai vecchi tempi Con la differenza però Che questa volta andrà tutto secondo i miei piani A me piace questo Cortex comunque Allora... anche questo è un bel boss davvero Tanto mi ricordo che... La prima volta che incontrai questo boss E dissi ma come? Siamo alla fine del gioco Mi sembrava strano E infatti... non è così Ok, dunque... devo usare la maschera Eccolo per rallentare lui, giusto Per rallentare lui e tirarlo Benissimo Non è neanche troppo difficile questo boss C'è il doppiatore di Cortex che... a parte... penso sia il migliore che ha mai avuto Cortex Però si sente che è un po' invecchiato Non so quanti anni abbia onestamente Però vabbè... cioè... rispetto totale eh... non di che... è bravo... è bravo Credo che il doppi Cortex da... da cnk... non mi ricordo è deciso... si forse da cnk... merda... vabbè non importa qui non c'è di mezzo l'insegne quindi chi se ne frega E' un bel boss sto qui Impeniativo... quanto basta... Impeniativo QB Però cerchiamo di non... di non fare... eh... di non morire troppo perché non va bene Quanta roba c'è Vole... sì... l'ultimo Sì... se giochi sporco farò lo stesso... se fossi stata una battaglia finale sarebbe stata troppo facile... sì... però bellina... ci sta C'è la musica ovviamente... classica di Cortex Spendicote puntalo giuuu... 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 Mmm... chissà che succede se premo tutti i pulsanti... tutti i pulsanti insieme... succede un po' di delirio... Attenzione... attenzio... attenzio... nooo... eh vabbè... sveglia... sveglia... su... sveglia... non sai giocare... aiuto... giuuu... Eccolo... nooo... Dai... nooo... Sono morto un po' di volte però vabbè... Vediamo... Ora... c'è un filmato importante... Maledetti... Maledetti... Dobbiamo per forza continuare questa giostra infinita... Mimmi Crash... è questo che ci aspetta... per sempre... Questo è bello... Incredico... corteschi... Cremato... Cremato... Ovviamente... Oh... ovviamente... Tu ti saresti accontentato di dominare il tempo e lo spazio ma io voglio ricominciare da capo... Cancellare tutto... voglio fare tabula rasa... Resetterò la linea temporale... E la ricostruirò come voglio io... Diventerò un Geo... Il che vuol dire che tu non esisterai... E neanche quelle maschere senza cielo... O quei marsupiali in piccio... Quindi vedi che è proprio... È proprio... È proprio... Tu... Non posso stoppare... Voglio vedere come farà dopo che gli avrò fincato quel diafason super... Ma non succederà se glielo impediamo... Sembra che abbiamo un nemico comune... Dopotutto forse c'è un modo per fermare questo ciclo infinito... Cortex e Crash si alleano di nuovo... Ci sta... Questa cosa di Cortex e Crash forzatamente uniti contro un nemico comune mi piace... È una buona cosa che è sempre funzionata anche in Twinside che funzionava... Insomma... Anzi... Sarebbe bello anche riproporla proprio... In realtà un Twinside 2 a me piacerebbe... Va bene... Quindi abbiamo Cortex che si ritrova ad essere... Ad essere vittima dei giochi, dei sotterfugi di Entropy... E scopriamo che Entropy è effettivamente il cattivo vero e proprio di Crash 4... Già dall'inizio del gioco, dalle scene, dai filmati iniziali si vede che... Che Cortex è prevaricato da Entropy... Insomma va bene... Invece nel 3... Era Cortex come andava... D'altro nel 3 Entropy va via dopo 3 boss... Quindi... Uno si aspetta che Entropy fosse il boss finale... Invece dopo Dingo Dai c'è Entropy... Ciaone... Entropy... Va bene... L'isola dei dinosauri con livello di ritorno al passato... Un livello ambientato appunto nei dinosauri... Nel mondo dei dinosauri che è un mondo abbastanza... Non ho ancora capito se mi garba o no questo mondo dei dinosauri... Onestamente... Va... Vediamo... Non c'ho le cuffie... Mi sono scordato le cuffie... Non sento nulla... Ecco le cuffie messe... Abbiamo risolto il problema... Allora andiamo... Questo livello dei dinosauri... Dimostra ancora una volta quanto Toys for Bob abbia... Le idee un po' confuse... Riguardo... La differenza tra dimensioni e... Viaggi nel tempo... Perché ancora una volta ci propina dei viaggi nel tempo... Però... Si continua a parlare però di dimensioni... Va bene... Va bene... Questa dimensione ovviamente... Ha dei dinosauri che non sono realmente esistiti... Non credo siano mai esistiti di tirannosauri rosa... Però in realtà non si sa... Non ci sono le prove... Perché non è che abbiamo trovato... Reperti... Pezzi di pelle... Di colori... Cioè... Per quanto ne sappiamo... I dinosauri potrebbero anche essere... Blu... Oh l'hai preso... Ho preso... Perfetto... Allora... No no no... Calmi... Allora... Qui iniziano i livelli... Ovviamente... In realtà sono già iniziati da un bel po'... I livelli dove... Giocare mentre si parla... È un casino... E ovviamente... Devo tra l'altro cercare di prenderle insieme... È un po' che non ci gioco... Quanto è un mesetto davvero... Che non faccio video di crash... Quindi mi sono un attimo... Probabilmente arruginito... Questo livello tra l'altro... È... Sì... C'ha delle parti un po'... Un po' complesse più avanti... Soprattutto... Mi pare il... Il bonus... Però che bello... Guarda che bei colori... Guarda che bella ambientazione... Mi piace... Mi piace... Ole... 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 Bello tra l'altro che si torna in una pre-storia che... Ricorda... Indubbiamente la pre-storia di Crash 3... Proprio per... I colori sono quelli... Oddio... I colori di questa parte sì... Questa parte in due di... Sono molto... Gli stessi colori di Crash 3... Guarda c'è Rocco... Citazione... Si sa perché hanno inserito le maschere delle elementali... Dell'Ira di Cortex originario Crash 4... E dicevo... I colori di questo livello sono molto Crash 3... Tranne appunto per la parte che abbiamo appena superato... Che invece è molto più... Vibrante... Più colorata... Allora... Andiamo... Eh... Uh... Uh... Mi ha preso eh... Mi ha preso la Quaco... Non... Non ero pronto a questo... Olè... Certo... No... Ascolta... Mi... Mi garpa... Mi garbano i colori di... Di questo livello... Eh... Sì sì sì... Qui c'è un'altra maschera... Quella del vento... Mi si chiamava? Lo... Non mi ricordo... Non mi ricordo... Allora... Fermi tutti perché qui... È un po' complessa la storia... Hanno fatto questo bonus... In modo che... Devi proprio... Fare... Everything... Eh... Però ho sbagliato... Ho sbagliato... Vero? Mi sa di sì... Mi sa che ho sbagliato... Che non le ho rotte tutte... Non le ho rotte tutte... Vediamo un po'... Se ce la fa... Ragazzi... Allora... Di cosa stiamo parlando? È successa una cosa che... Non doveva succedere... Quindi... Assolutamente non devo più morì... Perché... Perché non... No... Non posso permettermi... Dunque... Qui devo tornarci... Sì... Quindi dobbiamo andare qua... Mamma mia... Che... Che casini... Se ce la fa la prima... Guarda... Mi fa una statua da solo... Olè... Si torna su... Sì qui un po'... Eh... Non mi riesce più... Ecco benissimo... Complicare le cose... Non dico semplici... Ma... Fattibili... Ma insomma va bene... Sono riuscita la prima... Nonostante... Quando lo feci la prima volta... Ai tempi... Questo livello bonus... Mi ricordo di esserci stato... Parecchio... Va bene... Qui c'è la... La maschera di fuoco... Come si chiama? Non mi ricordo più... Non mi ricordo più... I nomi delle maschere di Crash... 4... Mera caro Crash 4... Ma non è Crash 4... Crash 4 è quello che stiamo giocando adesso... Perché non uso... Non uso... Eh ragazzi... Allora... Eh... Piano piano... Piano piano... Mi ricordo tutto... È una cosa alla volta... Ok... Aspetta un po'... Devo tornare indietro... Ragazzi... Oggi ce la so... Allora... Usiamo... Capuna va... Ecco Capuna va... Oh... Bello... 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 Capuna vaiamo... Andiamo... Olè... Cosa succede qua? Capuna vaiamo... Olè... Bello... Sgro... Olè... Beh... Allora se non sbaglio ora Capuna va se ne va... No... Invece no... Continua... Se ne va dopo... Benissimo... Bene... Sgro... Fermo... 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 E con le... No... No... Lensene... No... Lensene... Bruciata... Per una disattenzione... No... No... E ora... E la serio vince... Ho fatto il bonus bello... Beh ragazzi... Di altra parte mi sono fatto attendere un mesetto... Avete vinto un montaggino... Ho fatto bene... Oh... Su... Veloce... Abugadabha... Prendi questa scatola qua... Coppia questo... Prendi questo... Cattaforma... Scatolonsi... Olè... Rompi questo... Che bello... Capunawa mi calva veramente tantissimo... Capunawansi... Olensi... Rompinsi... Coppia... Olè... Olè... Allora fermi... No... Madonna... Avevo sbagliato... L'ho ripresa... Non so come ho fatto... Fermi perché non c'ho più Capunawa ora... 3... 4... 5... Bene... Attento c'è lo spazzone... Tra l'altro fermi perché devo prendere anche... Ah no no no... La gemma nascosta so dov'è... So dov'è... Ed è difficile... Onestamente... Mori... Vedi... Dinosaurini rosa... Cioè... Insettazzi rosa... Ovviamente sono molto... Molto veri... Cioè... Io capisco la volontà di fare dei... Degli animali colorati... Per colorare proprio l'ambiente... Però... Gli animali di Crash non sono mai stati colorati... Sono sempre stati anche abbastanza... Eh... Realistici no... Sono sempre stati cartoon... Però non sono mai stati così colorati... Ma più che altro perché devi inventarti i dinosauri colorati... Cioè... Voi dice... Eh ti lamenti... Non ti garba mai niente... Non è che non mi garba niente... Ecco no... Non l'ho presa... Guarda... I dentiii... Non è che non mi garba niente... Però... Dinosauri... Ma vaffanculo... No... Io non lo rifò... Non ho voglia di rifarla in sé... Non mi pazienza... Eh... Ciderbola... Che schifo... Non mi fa passare la voglia... Già... Allora... Siccome ora c'è la notizia... Che il 12... No... L'8 dicembre... L'8 dicembre... Dovrebbero presentare Bumpalighe... O comunque Crash 5... Penso più Bumpalighe di Crash 5... Però spero... Crash 5... Io vorrei anche... Che loro abbiano smesso... Con queste cazzate... Vorrei che non ci fosse più... Nooo... Ma perché ogni livello di Crash... Deve diventare una discesa... Negli inferi... Mi tocca rifarlo tutto... Devo rifare... Non ho più l'età io... Per queste osse vi... Non ho più l'età... Tocca rifar tutto il livello... Rischiare di morire... Ovviamente... Vediamo se ne scappano... Tutte e tre le acuacu... Eh... Mi sa che non l'avevo presa... No... No... Perché non apre... Capisci che io non ho più voglia... Non ho più voglia di... Di questo gioco... Dai... Non troppo... Ma ma... È troppo... Troppo stretto... Tutto troppo misuratissimo... Fa bene in voglia... Fa bene in voglia... Fa così... E non gioci più... Così... Per sempre in pausa... Tengo la PS5... Per sempre... Accesa in pausa... E non lo finisco più... Perché è questo che mi fa venire voglia... Sto gioco... Non di continuare... Di sforzarmi... Di divertirmi... No... Accidenta... Dai... Non è vero... 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 Ultimo tentativo poi smetto... Ma proprio... Oh... Ho smesso per un mese proprio per riposarmi... Perché non ne potevo più di montaviglio di Crash 4... 20 video ho fatto... 20 video... Niente... Subito ti dà la benedizione... Il buongiorno... Il buongiorno si viene dal bendicottino proprio... Che rottura... Che rottura... Che rottura... Che rottura... Apri... Rompi... Perché... Faccio anche gli sbagli proprio... Sì... Ma fatti apposta... Sì... Ma che io sbaglio apposta per fare lo scemole video... Ma non è così... Non sono quel tipo di... No... No... Ma ora che non c'ho... Un loro voci... Stavo per dire... Ora che non c'ho qua uno sbaglio... Ho sbagliato... Lo vedi? Madonna... Mi mangio il pod... Poi sembra ovviamente... Esasperata... No... 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 Io... Io telefono... Poi... Rottura... Veramente... Ha rotto... No... Io la finisco qui la serie... No... L'ho includo... Mi dispiace... Finisco tutto il video qui... Che state guardando... E poi basta... Basta... Non ne fu più... Questo è l'ultimo video della serie... Guarda lì... Mezz'ora... Mezz'ora... Che voi vedete il video veloce... Ma io già mezz'ora registro eh... Che passa una volta... No... Voglio andare così... Sulle... Sì... Vabbè... Ma io sono stupido... È grave questa situazione qui oggi... Io... Non so cosa mi sta su... Forse ho sbagliato... Forse oggi non dovevo registrare il video... Succede a volte che... È semplicemente il giorno no... Questa è la dimostrazione che faccio bene a procrastinare... Essere produttivo è sbagliato... È una tossicità... È il morbo di quest'epoca... Iper produttiva... Nooo... Bravo... Fai il video di Crash... Impazzisci... Per far un video di Crash... Non ti riesce... Non li dovevo fatti... Possiamo a metà gioco... C'ho ancora un mezzo gioco... E poi... C'ho un mezzo gioco... Un tiro ancora... E attenzione... 3 Aku Aku... No aspetta... Me la voglio godere proprio... E 3 Aku Aku che capita... È la seconda volta in tutta la serie che capita nel 3 Aku Aku... Quindi va goduta proprio... 1... 2... Aspetta... Mi voglio mettere a favore di camera... 3... Olè... Via... Eh però è bene... Aspetta... Wow... Ma che a cosa servono? Cosa vuol dire che se io li andavo incontro non mi facevano morire? Ah! Bene, 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 bene... Che bello! È stato piacevole... È stata una cosa... È stato soddisfacente... Allora... Attenzione... Perché devo per forza prendere la gemma... Se no io me ne vado... Me ne vado... Proprio me ne vado... Mamma mia... Devo saltare subito... Subito... Sì... 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 Giù... Giù... Attenzione qui... Gira... Mamma mia... Gira... Salta... Salta... Dimmi che ho preso tutto... Dimmi che ho preso tutto... Ti prego... Sì... Sì... La soddisfazione e la gioia... La... ...la... ...la.... Oh... Quego beh... Bene... Bene... Carbon danti fossile senza perdere tanto tempo, perchè finalmente andiamo a giocare con Cortex e io per l'occasione ho messo anche la buce gialla, perchè Cortex è così un po' anemico, cioè questa pelle gialla e quindi in onore di Cortex... Andiamo a scoprire questa sfumatura Cortex che tra l'altro è doppiato da Silvano Piccardi Che lo doppia se non sbaglio dai tempi di Twinsanity O addirittura forse Crash Nitro Card Ed è una voce fantastica Se non è lui per Cortex è veramente perfetto Ci sta alla perfezione E tra l'altro è un doppiatore Che è un attore Proprio un attore di teatro Che è bravissimo Se andate su Youtube ci sono dei video Dove lui fa delle party Delle recite Io recita sembrano stata asilo I bimbi dell'asilo che fanno la recita Però vabbè Silvano Piccardi è un attorone incredibile È una voce che tra l'altro io vedrei benissimo Vedrei benissimo anche su Zio Paperone Zio Paperone che ha i tempi di DuckTales Nel anni 80-90 Ma in realtà anche tanti altri cartoni di Paperone Veniva doppiato da Angelillo Poi purtroppo è morto E non è mai stato trovato evidentemente un rimpiazzo Adatto insomma Nel reboot di DuckTales Paperone viene doppiato da Vidale Secondo me non ci sta tanto Onestamente Non per scherità a Vidale che è bravissimo Però se lo veste su Paperone Non lo so Ecco avessero messo Piccardi Che ha un tono di voce Proprio un modo di usare Proprio un intonazione Che ricorda abbastanza Paperone Secondo me sarebbe stato perfetto Un Paperone fatto da Piccardi Con la voce di Cortex Oppure Cortex in DuckTales Vabbè Allora andiamo avanti Allora fermo 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 Olè vai Finalmente scopriamo Cortex Con questo gameplay Con questi saltini microscopici E questi livelli che sono molto puzzle A me piace onestamente Mi piace molto Nonostante in certi punti ci siano dei Fermo Fermo In certi punti si arrivi a dei livelli abbastanza Bastardissimi Ci sono dei Mamma mia più avanti Mi ci fate pensare ragazzi Allora andiamo intanto a finire questo livello Che non è neanche troppo difficile Però insomma si muore facilmente Credo Vai giù Vai giù Vai giù Bene Grande Fermo Olezza No no Tutto da rifare Bene Attenzione Ci arrivo? Ci arrivo? Non male Questo pistolino che spara Prima solidifica E poi fa diventare gommose le piattaforme Però ecco A me Restamente No 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 vabbè 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 Però attenzione Perché potrei tornarci da qui È fatta apposta questa cosa È fatta apposta per la prova a tempo Credo Che devi Devi usare questa scorciatoia Vabbè Non so come ho fatto Però è andata bene Calmi Salta Ole Vai Spara Mamma mia Credevo di aver sbagliato Bene Troppo alta Mi sa che non ci arrivo È un po' Non male Ma vabbè Qui è proprio Crash 3 Questi colori qui Sono proprio Crash 3 La preistoria di Crash 3 Allora Non ho mai avuto un copo in un vulcano I buoni ce li hanno Non ho molto da imparare Ah giusto perché lui è buono Infatti c'è Aku Aku Ecco non è un caso secondo me il fatto che avrebbero messo Aku Aku Proprio nel momento in cui c'è il dialogo di Cortex che dice Ai buoni Perché lui in questo momento almeno del gioco è buono No perché è dalla parte di Crash Va bene Mi manca Aku Aku Mi manca Aku Aku Perché io voglio assolutamente sapere Perché l'hanno solto L'hanno solto secondo me per semplificarsi un po' Un po' tutto Perché non è che ci sia Una grande giustificazione Cioè sì L'hanno solto anche perché Il cattivo doveva essere Entropi Però secondo me Potevano in qualche modo rendere Entropi e Aku Aku Alleace Sì chiaramente hanno tolto di mezzo Aku Aku Per far sì che Entropi non avesse ostacoli Però secondo me boh Non lo so Potevano giocarsela un po' meglio secondo me Non è proprio questa grande idea Aver tolto di mezzo Aku Aku Poteva funzionare lo stesso Secondo me una collaborazione Entropi Aku Aku In qualche modo Entropi Imprigionava Aku Aku Invece hanno fatto che Aku Aku Si scarica Va bene Lasciamo per te Questo non ci interessa Allora questa parte Questa parte è ignorante Però è molto carina In realtà sono pochi passaggi ignoranti E uno di questi era questo Non vedevo funghi così grossi Da quando ho lasciato acceso il giganto tron Tutta la notte Ho lasciato una cassa Ho lasciato una cassa E non c'è modo di tornare indietro Allora Ce l'ho fatta Minumana insomma è morto Bene 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 Allora questa cassa Eccola Perché questo errorino dove si rifà tutto Va bene Va bene Ci può stare Non ci sta Non ci sta assolutamente Non giustifichiamo cose immonde di questo tipo Mamma mia Mamma mia Fermo Fermo Bene Eh Allora No Fallo venire più un fuori Vai Olè Questo livello senza il pallino giallo Non lo fai Ce lo fai ma Auguri Soprattutto nella fase di prima Sulla lava Liberamente buono Vabbè Allora Attenzione C'è roba qua Io spero di aver preso tutto Guarda Ci sono tante nitro Ma Ho sinceramente paura Mi sembra troppo facile Oh Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Bene 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 Ho dovuto ripeto una volta Per una mia distrazione Che comunque Ma perché Ma perché Ma succede queste cose Ma tutto bene No Deve succede qualcosa Oh Sì Finalmente Ce l'abbiamo fatta Olè Vai Preso tutto Bene Vai bene Ben livello Bene 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 Il prossimo livello È Un altro Come dinosauri Come quello Dell'altra volta Però si è sbloccata L'alternativa di Cortex Che andremo a fare Prima di passare Al prossimo mondo Magari si va anche A recuperare i livelli vecchi Quelli di Tauna Dei vecchi Dei vecchi mondi Il prossimo livello Scatto il dinosauro E questo Questo è abbastanza ignorante L'ultimo livello Del mondo di dinosauri Che immagino Sarà Sarà tosto Perché qui ci sono Dei bei T-Rex Da schivare Da cui scappare Che ci inseguiranno E renderanno La nostra Ensane Molto difficile Da prendere Allora Tanto guarda che bei colori Sì Siamo di nuovo Nel regno del viola Dell'azzur Sì Verde viola Questa Questa preistoria viola Che vabbè È bello Vabbè Questi mostri viola Questi mostri Sono disegnati In gran parte Da Nicola Sapiori Credo proprio Sia occupato lui Di tutti I dinosauri O comunque Oddio So Il P-Rex L'ha fatto lui E credo anche Questi mostri Ok Questi Buono Inzettoidi Ma allora Allora Dunque Calma Calma Cos'è stato Perché ho fatto No 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 Allora Ci siamo Vediamo di non fa cazzate Perché non si può Inizia così Subito Gameplay Veramente Allora Un'altra rotaia Giù Rompi Salta Attenzione Vai Olè Vai Sal Bene Mamma mia Sul cervello Mi ticca Uno Due Eh Si comincia male Calma perché Non va bene Non va bene Non va bene Non va bene È veramente troppo Ti richiede delle attenzioni Che non No Perché Riproviamo Mi sto preoccupando Seriamente Oh E che cacchio Ma perché Va bene Va bene Va bene Andiamo avanti Andiamo avanti Questo silenzio Terrificante No 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 Ecco Saviori Ecco Saviori Aiuto Mamma mia No 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 Zipole 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 Tra l'altro poi c'è la parte con il godile Con l'alternata Penativa Che si ricollega a questo punto qua del gioco Ho sbagliato Ho sbagliato Mamma mia No però veramente guarda Io non ho più voglia C'era la cassa Mi salì Che Pè ti fa vedere C'è una cassa no Eh oh Vediamo se ci riesco Non c'è persa di arrivarci Quello per forza di farlo Dai sì Che Q Questo è quello che mi hanno insegnato 20 anni di esperienza con Crash Oh Bravo Complimenti Attenzione Fermo 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 Mi stringo la mano Attenzione Attenzione La bolla verde Un Due Tre Quattro Cinco Uh Bene 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 Calma 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 Oh bellini I baby tea I baby tea alternativi Facciamo così Olè Bene Degli un po' di punti Bellini o il baby tea che mi guarda? Beh bisogna andare di là Bene Vai Vai Olè Bene 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 Cosa devo fare? Lo sono andato ancora? Sì Poi quante volte mi ci fai tornare? Bene Olè Vai Va bene Quando io non so che dico Olè Non so se ci avete mai fatto caso Quando io non so cosa dico Bene Olè Addio Ma qui che d'altra parte Cosa devo dire? Sono 20 video che posso crescato Non ho più voglia No onestamente non ho più voglia Io le sto facendo perché Cresce ovviamente Però ecco Se devo essere onesto È dura È dura in ogni video Avere sempre qualcosa da dire In realtà a me poi piace parlare Anche adesso sto parlando Beh fatto alla prima Ma no niente da dire Però è questa la magia La magia dei video è questo Parlare anche su un centro da dire E riempire il minutaggio Allora torna Adesso il T-Rex Vai Non torna Non torna Ah Ah Eh no Vedi 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 C'è finisci un lato Pini Ma c'è anche T-Rexini T-Rexone Eccolo Non ricordo se finisce il livello Non mi ricordo Ovviamente anche questo senza pallino giallo Non lo fai Dai Dai C'è notate quanto Quanto è assente Aku Aku In questo livello Che meriterebbe tante Di Aku Aku Ok Ma lui torna Io mi ricordo che il livello finisce Con il T-Rex Attenzione Perché vorrei Aspetta un po' Non ce n'è più Non è che mi rifreghi di nuovo Vabbè Ok Andiamo avanti Oh Aku Aku Ah guarda Però c'è la gemma lì Tra l'altro si vede anche perché Quando ci arrivi la vedi È chiaro Quando sei qua non la vedi più Secondo me quella gemma lì Non è nascosta male È una delle poche nascoste Meglio del gioco Perché comunque la vedi Se ci stai attento la vedi E poi si vede anche il passaggio qui Si capisce che c'è un passaggio Le gemme dovrebbero essere messe tutte così Secondo me Allora Ovviamente no Perché ce n'è tante Che sono messe No 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 Fermo 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 Questo è bastardissimo Vai 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 Questo passaggio è noiosissimo Perché devi fare la scivolata Quando sei sotto E saltare No no Uno Due E va anche giù la pedana Insomma quello che è Due Tre Quattro Cinque Certo veramente Bisogna essere veramente Bisogna essere proprio veramente Bene Beh Questo è l'ultimo Quindi tre volte ti insegue Non mi ricordavo Forse ero tre volte Beh Spero la rompa lui Spero la rompa lui Meno male Meno male Ma guarda che pecolori comunque Al di là di tutto Dai ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Vai Bravo Bravo Così così ti voglio Così Così sei veramente un gioco di crash Bravo Mi sta piacendo Prendi il pompone Vai Vai non avere fretta Vai No 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 Oh Oh Ma che porti Lui salta Mi salta addosso Nonostante io Non mi sia fermato Un attimo Fammelo riprovare Senza Devo riavviare L'idea Ovviamente Devo farlo insane Ma scusami Non mi sono fermato Un attimo Com'è possibile Che non fossi in tempo Non ho neanche preso funghi Non mi sono rallentato Com'è possibile Io ho Non ho parole Non ho parole Veramente Va bene Ho preso la gemma Ma non ho preso l'insieme Eh vabbè Rifaccio l'insieme veloce Dai Montaggino per voi Per la vostra gloria E goduria Allora riproviamo No però se mi riesce di nuovo Io non lo rifovo Cioè basta Basta con questa cosa Autolesiva Comunque questo è un bel livello Devo dire la verità Che rigiocandomelo ora È un bel livello È in stile crash Per effetto È lungo però Non è lungo come tanto No vabbè Io lo smetto Lo smetto Fa schifo Autolivello Viva 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 Oh Ora mi è andato a vedere Se ho preso tutte le casse Sì dai Va Fa Fine 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 Non lo so quanto ci ho messo A registrare questo video Va bene Buonanotte Non è notte Però ci manca poco Ah il filmato Il filmato Icaica Speca Bellino Oh senti Numi Ma sei tu La di Loli Come stai Fratello Scusa se ti metto fretta Ma il mondo può finire Da un momento all'altro Quindi Quando è che invece Il mondo ha mai fatto Qualcosa per noi Non badare al musone È il solito Qua sta festa Sì Stasera È bellissima La maschera Con due Personalità È bellissima Non chiuderemo i varchi Se prima non fermiamo Chi li apre Ovvero Entropy Ed il suo Prezioso Generatore di varchi È proprio ora Di dare una lezione A Entropy Allora nel prossimo episodio Noi non andremo al mondo successivo Che questo Quello di Oxide Oxide Ma andremo invece a recuperare Delle episodi che ci siamo lasciati indietro Per esempio Per esempio c'è da fare questo C'è da recuperare Quello di Cortex Quello di Tauna Quindi adesso si fa un recappone E andiamo a fare Camion Fermo Finalmente Si va indietro A ritroso A fare tutti quei livelli Alternativi che ci siamo persi Per strada Perché tra la nostra e l'altra Ho lasciato indietro Iniziamo quindi subito Con Camion Fermo Che è il primo livello Alternativo del gioco Che però te lo fa fare Dopo che sblocchi Tauna Nel livello dei pirati Quindi insomma Allora Attenzione perché qui ci sono Delle casse nascoste Eccola lì Prendila poi Rompi tutto Dunque Bisogna proprio guardare Eccola Ci sono delle casse nascoste Nel scenario Che proprio Allora Ma perché non fa il sarto Non lo so fa più Ecco Oh Attenzione Aspetta 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 Questo livello proprio non mi piace È proprio brutto 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 Eeeh Vabbè Su Sgro Vabbè Non l'ha preso Guarda lì Guarda lì Devi prendere praticamente anche la Benissimo Ma è andata bene È andata bene È andata bene Ci sono molte insidie Mori Oh mori Oh Molte insidie nascoste In questo livello da fare tutte con il rampino Anche qui Vedi c'è una cassa lassù in cima Che io onestamente non ricordo come si prende Forse va appesa al volo Non puoi vedere No ho sbagliato Ah aspetta Ho capito Bisogna salire qui sopra No No Probabilmente Guarda ce n'è un'altra lì Oh toy for bob Ma che si fanno così i livelli Rifare Probabilmente devo saltare sulla cassa Prima di accenderla Vediamo Vediamo se riesco No 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 Mori un po' te Levati Ma come cacchio si fa Proviamo Io non so se No perché qui vedi che lui si aggrappa solo lì per forza Quindi forse Vediamo un po' se forse facendo così Ok Ok Eccessivamente macchinosa secondo me Considerando il fatto che non Cioè ogni volta Cioè ogni volta Ogni volta per trovare Per provare Devi morì di nuovo Quindi Boh Non lo so Veramente Vabbè ragazzi Lasciamo perdere Abbiamo veramente parlato tanto Di quanto Toys for Bob Abbia fatto Delle cose Delle scelte Molto poco Studiate Diciamo Vabbè Attenzione C'è roba qui Vero Eh sì Eh sì Vero Cos'è sta roba Ah la gemma nascosta Era qua Non mi ricordavo assolutamente Meno male ci sono andato Perché non me la ricordavo Dunque Vai Venga Fermi tutti Perché qui c'è un'altra cassa Oh Ci devo arrivare Ci arrivo Ah meno male Ah meno male Va bene Va bene Levati Tutto senza cuacu ovviamente Che ho fatto Ah ah Era così Va bene 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 Già mi vedevo Morire A rifare tutto il bello Ancora una volta Ok No 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 C'è il foo C'è il foo Via Via Sì Comunque Ci siamo No a sto livello Ovviamente Non ricordo nulla Perché Non mi è piaciuto Torniamo dietro Prendiamo della roba Nascosta Nascosta Insomma Della roba In wireframe Che è Dai Ma Oh Se c'è qualcosa Di complia Si può complia Sempre Vai Vai Come volete Bravo Bravo Bene C'è il robo Ovviamente Dietro Dovrebbe essere finito Qua a livello Si livello Di town Perché poi c'è da recuperare La parte di crash Da rifare Ovviamente Nonostante L'abbiamo già fatta L'abbiamo di farla Vabbè Ma poi scusate Ma poi Ma poi C'è town Apre il cancello E così Insegui Cresce Quindi town Può ammazzare crash Ma perché Town Mette crash Nei guai Che senso ha Stavola L'ho realizzata adesso Non si sa Chi è che sta Guirando Il trattore Engine Forse Non lo so Non lo so Ma più caldo Town Mette nei guai Crash Perché Cosa volevo ottenere Perché lo fa Non si sa Non è spiegato Vabbè Destinazione interattiva Ah Questa è interattiva Ma Ma la c'è Ma l'ho già presa Cioè Questa animazione Lì c'è anche Nell'invertita Che non serve a niente Guarda Guarda Allevalo di qui O metterci qualcosa Una vita Che porti Che senso ha Lasciare L'animazione La possibilità Di tirar fuori Il teleguandino E la macchinina Se poi non serve a niente Ma guarda Cioè ragazzi Sono cose Non sono cose Da poco Perché io lo caldo So che tanta gente Dice Eh Se è puntiglioso Non è Questo Di essere puntiglioso È che Le cose Se le fai Le fa Per un motivo Se le fai a caso Tu le fa Semplice Non le fare Se le devi fare a caso Tutto qua Guarda Dov'era Quella cassa Non si vedeva nemmeno Fine Fine Presa l'insegne Io Dovendola L'ho dovuta ripetere Un sacco di volte Perché sono morto Tante volte Perché sbaglio i salti Continuamente Il gameplay di Town Fa proprio schifo Io credo Che questo Sia il peggior livello Del gioco In un ipotetico Classifica Probabilmente Questo è il livello Più brutto Del gioco Credo Non è il più difficile Più brutto Non sa di niente Mettiamo tutti i livelli Che mancano Nello stesso video Perché non ho più volo Intanto questi video Vede li invertite Non mi garbano Non garbano nessuno Li invertite Quindi Tanto vale Fa un video solo Va bene Dai Intanto sono 4 3 Non mi ricordo Allora Primo livello Di Godile Nei pirati E tra l'altro È anche bellino Questo livello qua Solo che è troppo breve Troppo breve Finisce subito E torni subito A livello di crash Insomma Alla parte con crash Cosa Perché sono morto Cioè non posso andare lì Non posso andare lì Perché c'è l'acqua C'è l'acqua C'è l'acqua bassa Così Ningo Dile more Bene 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 Com'è bello Ningo Dile È veramente Il numero 1 Il gameplay migliore del gioco Cioè è veramente bello Dispiace proprio Quelle parti Ningo Dile Dispiace Quando finiscono Perché sono veramente divertenti Qui mi pare c'è la genna Bene Ole Molto bene Allora Se arriva in cima È già finito Nell'altro Sto livello Mori Fermo No 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 Fermo Prendi il TNT Lancia sul cancello Oh vai Za 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 Bello Bello Mori Bene Ok Ole Bello 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 Piacevole Il problema è che finisce È finito Finisce qua Finisce qui Ehi fermo Fermo Lancia Sul crostaccio Bene Qui mi pare c'era un trofeo Sui cannoni Sì Se li fai spara a tutti Ci ti dà un trofeo Già preso Ah devo far esplodere Facciamo esplodere il cancello Ole Bello Finito Finito E la palla Libera la strada crash Quindi qui effettivamente c'è stato Dingo Dile che ha Sbagliato Ha fatto esplodere tutto E ha liberato la strada crash Inavvertitamente Mentre Dingo Dile è comunque sparito in un'altra dimensione Invece di finire lì Il livello No devi rifare la parte di crash Ok È più difficile tra l'altro Allora andiamo a prendere Ho andato qui mi pare No la gemma la scorsa l'ho già presa Ehi Bene Fermo Dai Proviamo un fondo Salta 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 bene Scoppia tutto Bene Ora attenzione perché c'è un paio di gemme da prendere Io spero di non farmi fare Io spero di non farmi fare La fine della fettina Mamma mia Mamma mia Bene Spero siano finite Onestamente non mi ricordo Ma spero C'è da fare anche il bonus A Quaco lasciamolo lì Che me lo voglio se va per dopo c'è l'ultimo pezzo Molte TNT Bene Tra l'altro nel livello prima di Tauna invece il bonus non c'era Non c'era perché era molto prima nel livello Quindi perché lì Ma non ha nessun senso No guarda io sono sempre più senza parole Guardate è grave È grave Ma ragazzi ma che c***o Ma ce l'ha Ma È talmente grave Che non sono neanche in grado di spiegare perché sia grave Non puoi fare queste cose in un platform poi dove È molto importante il concetto di Non di specularità Però insomma di Di pattern che si ripetono Non mi puoi fare un livello senza il bonus Quando l'originale comunque il bonus ce l'aveva Ma è proprio una roba Così Mamma mia E qui non mi riesce Fatto sarto Ma Oh alleluia Alleluia Allora bene Ok vai Panciatonsi Io spero di arrivarci Eeeh Dov'è l'interruttore No Ho fatto cazzata Ho fatto gazzatina È qua giù Guarda dov'è Eccola qua Ho capito Ma come è fatto Andietro poi Io 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 non ho parole Ok E qui ora Come fa' Devo prendere il tempo giusto Cosa Cosa Non lo so Andiamo via Andiamo via Non ho parole No Guarda Non ci pavo nemmeno Esprimere No 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 Semplicemente no Vai Allora Io non credo ci sia niente Qui dentro Che c'era la gemma Non si apre nemmeno Aspetta Fa' il suono Del baule Che si apre Il suono c'è Ma il baule Non si apre Ma guarda È proprio Pieno di sbavature Questo gioco È come un Un bel disegno Pieno di sbavature Che lo rovinano Perché È bello Questo gioco Non è Sì Vabbè 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 Facciamoci una ragione Faranno sicuramente Ho perso a Kuaku Bene Ho perso a Kuaku Io ho paura Io ho paura Non sto giocando a cor leggera Va Vabbè 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 Ma tutti i culi Li sto avendo Arriviamo in fondo Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Dai ti prego Ti prego Arriviamo in fondo Ti prego No vai via Vieni fuori Vai via Su Bene Ti prego Ti prego Sta a vedere Viene fuori Che non ho preso Tutti i pompa Stai a vedere Stai a vedere Come provo Che è successo Che è successo Prendiamo tutti i pompa Venti qui Un, due, tre, quattro, cinque Manca poco all'80% Questo è il famoso livello di lingodile Che la parte di lingodile è bella Però poi c'è la parte finale del bio Ci si prova Il delirio Ora sì che ci siamo Da che parte è il mio ristorante Aspetta c'è prova qua No, benissimo Sono queste casse che però sono per figura Sono di sfondo Anche queste, vero? Non si rompono quelle, vero? Vero? Andiamo Allora Ok, ok, oh Fermi Credo si Non si ferma il carretto Ah no, si è fermato Si è fermato Fermi eh Perché qui Ok Ok Si è fermato perché c'è la porta Vero? Non mi ricordo C'è qualcosa Io spero di Mamma mia Ci sono le nitro Lui ma aspetta Allora Lanciamola lì No, 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 no Bene Meno male, meno male, meno male Fermo Che delirio, che delirio, che delirio Io spero Io spero E via Oh, oh Meno male mi aspetta anche qua Meno male Meno male Sì, comunque Capisci che Va bene Non va bene Io non so se devo aspettare la cosa Nooo Ho preso la nitro Troppo casino Troppo casino Ricomincio Allora Dobbiamo stare molto attenti Vediamo se arrivo a prendere Ok Scoppiato Benissimo Vai Bisogna veramente Sta Attentissimi Vai Cazzo Vai Sta Stavolta Stavolta Delle nitro È tremenda Allora Attenzione qua Perché Attenzione Attenzione Prima prendi le scatole Bisogna Mi ricordo Era strana Staparte Ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta È stata meglio del previsto Dovrebbe essere finito Vero il carretto Se non sbaglio Qui vicino C'è la La gemma Vero Ma Ma Guarda Ma Sono da Errista Sono da Errgastolo Err Arrestateli Acqua stagnante Acqua stagnante Io non sono neanche usato Io Non sono più Un grado Di fare Questi gameplay Mamma Devo prendere Un'altra cosa Dai No 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 Spara Bello Cioè Questo è anche bello Se non dovessi Poi rifare anche La parte finale Con tutti Con il motorino D'acqua No 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 Oddio Vai Mori Fine Finito E finito E finito E finito Ok Se ha senso Diceno Ovviamente Le scatole Sono diverse Da livello Originale Ma va bene Allora Allora Nemmeno qui c'è il bonus Vero Non mi ricordo Allora calmi Perché io non lo so Assolutamente A mente Ho fatto Cazzada Ho fatto Cazzada Ho fatto Grande Cazzada Non è vero Non è vero Mi sono salvato Mi sono salvato Mi sono salvato Mamma mia Questo è Devastante Qui c'è un cacchio Vero Esatto Però per fammi sbagliare C'era eh C'era messa lì Per fammi sbagliare Che figli di Transistor Veramente Ragazzi Io veramente Guarda Io Giù No 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 Io non lo rifò Non lo rifò Non lo rifò Come fo Non rifò Non lo devo rifò Mi ci viene da piangere Veramente Posso solo piangere Toys for Bob Mi ha reso Una persona Negativa Cattiva Guarda Non ho tempo Non ho tempo Non ho tempo Ma guarda Incredibile Io li vado a cercare In casa Sti tos Sono proprio Mi spaccato Allora riproviamo Riproviamo Una terza volta Io Ragazzi Io Non so voi Ma a me Mi è venuta a noia Mi è venuta veramente a noia Io non so se finirò mai Cioè purtroppo Si sono impegnati Per fare un gioco Non divertente E ci può C'è niente A dire ragazzi Che palle Oh Dai 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 Non c'è Ok Non c'è nemmeno il boss Qui Non so più nemmeno parlare Allora Qui davvero è da farsi Il segno della croce Perché Piano Ma te dimmi se un gioco Deve proporre Questo stress Tutto per non morire Per non doverlo rifà Piano Cioè abbiamo tutto il tempo Del mondo Io se lascio andare Ho paura di perdere La direzione Apriamo Guarda è incredibile Piano 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 Da Oh Si Oh Dove è un coca Aguato Incredibile Dove è un aguato Cos'è Che gioco è questo Dove è aguato Come Vai Vai Grande Finto Cresce Saluta 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 Massore Salutami Finta No Ora Se io non ho preso Tutte le casse Chi devo uccidere Dio 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 Come undicicasse 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 Ma come undicicasse Non perdere tempo Si chiama Non perdere tempo Ora si che ci siamo Cosa Non è vero E invece erano casse vere Quindi anche quelle là Sono casse vere Ah beh Me lo merito Questa me la merito Me lo merito Me la so meritare Allora mi sono rifatto Tutto il livello Ve lo risparmio Anche perché è passato Non so quante ore Dai 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 Peccato Perché anche questo La parte undicontale È molto carina Nonostante sia difficile Però Continuo Di rovinare L'esperienza Del giocatore Sto gioco Oh Facciamo questo qui Di Cortex Che è bellino È bellino Molto Pauso Molto bellino Cortex Una parte molto lunga In 2D Bene Poi sta Ecco Vogliamo parlare anche di questa cosa qui Dei dialoghi Inseriti all'interno del gioco Cioè dei livelli Come fosse Uncharted Soltanto che se in Uncharted Non darò fastidio Perché comunque servono anche a A raccontare la storia E anzi Cioè sono anche livelli molto Ad ampio respiro No Quindi sono livelli esplorativi Dove ogni tanto ci sta il dialogo E anche se ti rifai il livello Il dialogo non stucca Questi livelli qua Invece sono livelli platform Che Sono progettati Proprio per farli tante volte O dovrebbero essere così E quindi nel momento in cui muori Come è successo adesso Lo devo rifare Ti ribecchi il solito Dialogo Che non puoi neanche schippare Non puoi neanche schippare E non è neanche Non è che dici È la prima volta che lo fai No Perché se io ho finito il gioco Rifaccio il livello C'è comunque lo stesso dialogo Non ha sempre È fastidioso È fastidioso È come se nei livelli di Mario Nei giochi di Mario O che ti fai i livelli Non lo so Di Mario Galaxy A un certo punto Senti Mario Che parla Dobbiamo arrivare in fondo Luigi Dobbiamo arrivare Fai questo Ogni volta Per i livelli Anche per i livelli lunghi C'è sempre questa narrazione Ma non serve a niente Non è il charter È un platform Non serve La narrazione così In un platform Non funziona Benissimo Semplicemente sto parlando Di fallose per bene Ma evidentemente È merce rara Oggi Comunque sono negativa Adesso in questo momento Perché sono frustrato Da troppi livelli Che sto mettendo Nell'unico video Che poi sono anche Dialoghi inutili Perché i band Stanno appena arrivare Doveva raggiungere il posto Dandosi comunque Nessuna informazione Perché è tutto È totalmente superfluo Semplicemente Cortex Che fa lo spiegone Di se stesso Dice Devo raggiungere il posto Senza che neanche Si sappia di qualcosa Sta parlando 4, 5 Però mi sa Che devo suonare indietro Forse Non so Ah no Ok Si arrivava di qui Ok Ok Torniamo indietro Bene Come ci arrivo qui Ah qui Ok Con la cassa Ok Aspetta 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 Ohia Ho paura Mi sa che non ci arrivo È un po' Ok Beh beh Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Ci arrivo Ole Zap Bene La freccia E Wumpa Mi si appreccia Attenzione perché C'è un Wumpa Una scatola in alto Bene La parte finale La parte finale è difficilissima Stesso discorso di qui sopra Mamma mia Allora Allora qui appena si atterra Barb Barbecue Barbecue No Ok Andiamo Attenzione perché Tardro È un bel pezzo di livello In realtà Non è mica tanto Cioè non è Non sa mica tanto alla fine Amma mia Oh Dio Ho paura Ok 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 Calma Prendiamo E Wumpa Perché vorrei farmi fregare Con la Con la Con la Con la Con la C'è Ma già fu più Basta Ci sarebbe anche Quello di Di Dinguotai Dinosauri Vediamo 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 Non c'è una scatola C'è la scatola Eccola qua Ok Ok Fermo 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 Mi stai mettendo Alla prova Mi stai veramente Mettendo Alla prova Ok Olè Fermo Ma indietro Sì Olè Io Non posso In nessun modo Parlare di altro Non è Fuori discussione Che cool Poi Allora Devo andare laggiù Arrivo qui Spacco Tutto Per Perdonatemi Guarda Spero Spero di arrivare A prendere Tutti Bum Un'altra Con questi Così qua Però Ce la faccio Sì Io veramente Non le posso più Sono Strif Sono Oh mamma mia Tutto da capo Penso si noti la devastazione Nel mio sguardo E penso che E penso che Il motivo Sia anche Chiaro No Perché Perché non mi riesce Perché non mi voglio riuscire Questa Tutta parte Ehm Ehm Non c'è Non c'è Benzie E sbaglio Sono stanco Sono stanco Un video troppo lungo Troppi livelli C'è un piccato Guarda Nenove C'è un filato Troppi livelli In questo video Eccoci No No Da Non è vero E ogni volta che Ma io devo rifare Tutto il livello Io non ne posso più Sono talmente stanco Che dovrei smettere Oh Finalmente Ehm Ole Uno Vai Va bene Va bene Va bene No Calma 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 Non facciamoci Prendere Dall'anza Proprio adesso Guarda lì Guarda lì Io se la lascio Rint La piglio Proprio Di tutto Per fammi morire Oh Attenzione Ha visto quanti Aku Aku c'ho? Zero Tutto questo livello E nemmeno una Guarda No Come si fa? Come si fa? No Vabbè Aspetta un po' C'è roba qui C'è solo questa Sì Presum No No Non è Allora la mia disperazione È Immensa adesso Non ne posso più L'ho rifatta ancora una volta Cazzo 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 No No Basta 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 Mi sarebbe a dire No 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 Fermi Fermi Prima devo andare di qua C'è della roba Ecco Bene Io non capisco più niente Io veramente Grazie Che culo Allora L'ultimo pezzo Dunque Cosa succede qui Ok Aspettiamo la barchina Aspettiamo la barchina Uno Due Via Guarda 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 No 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 Due Quacuni In fondo a livello In fondo a livello L'hanno messi In fondo a livello Va bene Mi è servito Uno Uno è servito Però Certo Io spero Di aver preso tutto Sì Sì Via 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 Lo zero Divertimento C'è l'ultimo C'è quello di Vingodai Facciamo anche questo Così non ci si pensa Più E dal prossimo video Si va avanti Mi ricordo Questo livello Fu impegnativissimo Forse io sto sbagliando Forse sto sbagliando Sotto Vabbè Vediamo Andiamo La TNT Tiriamola Sulla porta Va tirata anche la Sulle casse Beh Beh Meno male Dai Meno male Meno male Meno male Mi ricordo Mi ricordo c'era un percorso Ah ecco 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 Cosa 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 Ma è vera questa cosa Ma questa è follia Questa è Foglia totale Non ho visto se c'è la roba indietro Mi sa di sì eh C'è roba Ah la gemma Bene Molto bene Ci comincia male Ci comincia male Vai via Vai via per favore Vai via Vai via 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 Scoppiata anche la TNT Come ho fatto Non si sa Eh però No Devo tirare una TNT anche là Ma che casino Ma c'è bisogno C'è bisogno Di fare tutto questo casino Scoppia No c'è una concentrazione suprema Non ce la posso fare Perché poi c'è poi tutto il livello Del T-Rex Dopo Eccessivo Eccessivo Guarda Guarda Uno Due Tre Quattro E ora di qua Bene Bene Sto male Sto male Sto male Che non divertimento Che sofferebbe Bene Ben Benissimo Benissimo Io mi ricordo del casino Mi ricordo c'era del casino qui Ma mi puoi capire Devo saltare qua sopra Prendo la cassa La tiro Ma io me la prendo Me la porto dietro No Basta Ehi No 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 Come Come l'ha levato C'è roba Lì c'è roba Ok Vado di sotto Vado di sotto Vero V Ok Vabbè Sì però non è questo lo spirito Di terrore totale Mi sembra già resentivo Invece di Jackash 4 C'è l'orrore proprio Nel fare le cose Vai Uno Due Tre Uno Due Tre Quattro E ora Ok Che fa La tiro La tiro No Sattiamoci sopra Dovrebbe essere finito Il problema è Avrò preso tutto E' stato un inferno Vabbè Che poi che stava sabì Cioè si vede Dingo Dyer che si aggrappa alla struttura e la fa crudè Ma poi nel momento in cui sei con Crash Non si vede più Dingo Dyer C'è la struttura intera Non c'è Dingo Dyer La struttura va giù Io arzo le mani Arzo le mani Cioè basta Vado Un po' Basta Ora che altro c'è No No Le cose a tempo Aspettiamo Ecco Ma ti rendi conto Snort proprio Snort C'è anche il bonus Ovviamente Questo livello c'ha il bonus Uno dei Alcuni ce l'hanno Alcunino Oh Ah rilassiamoci col bonus Immagino quanto sarà rilassante Bene Dai Ma mi prendi per il culo Mi prendi per il culo Ma te Ma rendiamoci conto E ora Ma è follia È follia È follia Questa è follia Questa è malattia Vabbè Almeno ho preso la vita Vediamo Mamma mia Vabbè 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 Olè Dai Almeno questo Ce lo siamo levati Vediamo di arrivare alla fine Così Non si soffre più Per un po' Non lo so eh A parte i prossimi livelli Sono belli Quindi Dai Uh Aku aku Che grazia è Questa è una grazia Incredibile Tutto da rifare Magia È quasi magia Toys Ritentiamo Riproviamo Ma intanto L'ho rifatto Ma ormai L'avete capito Olè 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 Dai Concentrazione In realtà Non importa Prendere tutte le case Perché te le rompe Il dinosauro Quindi Magari non ti dà Le mele Però Ecco Qui ci si può fermare Perché lui si ferma lì Questa è una cosa buona Da sapere Che almeno questi tre dinosauri Si fanno con calma Ora Arriva la parte Ignorante Aspetta Prendi questi Perché ora C'è tutta la roba Con la lava Ecco Eccoci qua Questa parte Bob Io continuo Io continuo Ho fatto Ho fatto Ho fatto L'ho finito L'ho finito Ora Ora farò L'insegne Con calma Stai a vedere Uno Due Eccola L'insegne Ce l'ho fatta Non chiedetemi come Non chiedetemi che ora è È stato il video Penso più Devastante Che abbiamo fatto finora Va bene È finita È finita Ci vediamo Al prossimo episodio Con pronti al lancio Nel mondo Di oxide Dell'orbita Di berbugula Berbugula Perché oxide È un berbugula Quello lì Vediamo un po' Dingo dine Tranquilli Se fossi qui Per combattere Sareste già morti Lui è con me Si era persa La fuori Sapete Ho tornato Su tutta la faccenda Del tempo E dello spazio Già Vorrei tornare a casa E godermi La meritata pensione Capito Anche il nostro cattivo Ora è buono Cattivo Silenzio Moccioso Ma Ma È una roba Veramente troppo Che bambini Sono sicura Che questo Moscenino Saprà obbedire A un Dentro Porta la nave Supermobula E accertati Che nessuno Si avvicini Al generatore Di barchi Non possiamo Permetterci Ospiti Indesiderati Immediatamente Vostra Scelleratezza Apprezzo Davvero Il tuo Incredibile Aplombo E io Il tuo Ovviamente Questo non è per bambini Anzi Ti mostra Quanto Toys for Bob Avesse le idee chiare Insomma Va bene Va bene Non iniziamo Con le cose antipatiche Andiamo subito A fare Questo livello Che onestamente I livelli Di questo Di quest'isola Qua Sono anche Forse I migliori I migliori Insomma Sono bellini Questi livelli qua A parte Oddio C'è anche il livello Di avatar Così lo chiamo io Lo vedremo dopo Lo vedremo dopo Allora Rompiamo un po' di casse Vediamo di arrivare Fino in fondo Senza morire Ovviamente cercherò Di fare l'insenne Però appunto Perché Da più in avanti I gameplay Li faccio Non più A livello Alla volta Ma Li raggruppo Perché Perché Avendo più livelli Nello stesso video Diventa anche Più divertente Da seguirlo Forse Guadalitti Io tra l'altro La nido La sto toccando Ma non esplode Diventa anche Più bellino Da seguire E magari Anche Meglio Da unire A mettere insieme Diventa più Più di intrattenimento Diventa Invece Video di 5 10 minuti Non lo so Cioè All'inizio La vedevo Come l'idea migliore Però A lungo andare Mi sono reso conto Che Non era proprio Questa Quest'idea Proprio Non lo so Ditemi voi Nei commenti Cosa ne pensate Ecco qua Ecco la gemma nascosta Che non si vede Vabbè ma io lo sapevo E No 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 Fermo 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 Quindi Eventualmente I video potrebbero Continuare così Quindi in questo video Vedo si riesco A arrivare in fondo A fare anche oxine Magari Lasciando fuori Però il livello alternato Poi C'è l'altro Mondo Del futuro Dello spazio Sì Della roba del cibo L'orbita Snax La galassia Snax Non mi ricordo Attenzione Quella lì potrei farla Anche quella tutta Nello stesso video Perché sono due livelli Soli credo O tre No sono due Sono due Sono tre O sono due Più l'alternata Sono due Più l'alternata Di Tauna E Dingodile Quindi potrei fare Un video Più lasciare fuori Un altro episodio E poi E poi Il mondo Il mondo di Cortex E lì Credo di poterci Tirare fuori Due video Quindi siamo a Quattro video Mamma mia Attenta Aspetta Quindi cinque video Con questo Vediamo Vediamo se Nell'arco di altri Quattro video Riusciamo a finire La serie Speriamo Speriamo E d'altra parte È un gioco Molto Molto lungo Non lo so Vabbè Vabbè Vediamo come va Tra l'altro Questo livello È anche uno Dei Onestamente Dei migliori Ricorda molto L'Ira di Cortex Infatti Per me Questo Crash 4 Anche se Non è mai stato Confermato Ma per me Questo Crash 4 È iniziato O perlomeno L'idea Alla base Dello sviluppo Di Crash 4 Nasceva Come un remake Dell'Ira di Cortex Secondo me Cioè Non solo Secondo me In realtà Non sono l'unico Che lo pensa Però ecco Non ci sono Confermi Beh Ha perso la maschera Nessuno ha mai Confermato Una cosa del genere Vedremo Secondo me In futuro Ne sapremo di più Ma comunque Chi se ne frega Guarda che bei colori No Questo livello Mi calva davvero Aspetta 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 Bene Pensavo di aver perso Una qua qua Attenzione Giù Destra Sinistra Salta Vai Abbiamo preso Questo Spara Spara Muoviti Spara Ti prego Non spari Sta Vedete come mi frega Che cool Usa sta No Qui c'è il bonus Che io lo perdo Sempre Perché non si vede Non si vede Allora Questo bonus Dovrebbe essere abbastanza Ignorantello Ok Oh vai Minusimo Uno Uno Tre Quattro Cinque Prendiamo la luita E le tieniti Ole Vai Salta Mamma mia Giù Attenzione qua Salta Mamma Io guarda le casse Infocate Non le voglio vedere mai più Nessun gioco Di crash Mai È stato un errore La cassa infocata Perché O la fa la panciata Non ho capito Che è successo Boh È uscito dall'orbita Cosa è successo Forse sono uscito Dalla gravità Non lo so Che succede Eccola Eccola Di nuovo Di nuovo Di nuovo Niente Attenzione Karma Ma se no Qui a livello di avatar Ci si arriva C'è Verzi Dio papero Mi sa che il punto esclavativo Questi stronzoi L'hanno messo Alla fine Eccolo L'hanno messo Quasi Alla fine Di livello E ora devo tornare in cima Oh Ma Da Dai Non ho preso la villa Eee Cane di lindo Mastro lindo Ma cosa è successo Eee Allora La scossina Non c'è la nitro La nitro Accidenta Niente La madonna Alleluia Fermo Cosa Si E' fatta E' fatta 5 Vai Oh 36 36 Su Ora vediamo di non morire Perché Eee Oh no Attenzione Qui c'è delle insidie Potenti Mamma mia Posso morire No 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 Lui va ammazzato Assolutamente Ma mori Non ci credo Porca puttata Non è vero Non è vero Passa la voglia E' fare una cosa Del genio Che ho Ah no 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 Acquaku Acquaku Accidenti Guarda 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 Sta a vedere Ora che c'ho qua Come mi colpiscono mai Bastardino Mori Oh incredibile Incredibile Via 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 Mori Lascialo sta Gamberozzo Mori Mori Oh No Mori Accidenti Ma La scossina Dovrebbe essere quasi finito Giù 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 Finito Ho dovuto fare 700 Mori Quello resta lì Ok Mamma mia Attenzione Eh non ho preso Non ci credo Non ci credo Ho preso tutto Ti mi ho preso tutto Le pompe l'ho presi L'ho presi Le pompe Sì Sì Ma fa culo È un bel livello È un bel livello Molto macchinoso Soprattutto C'è un aquaku Solo in tutto il livello Un livello del genere Anche 3 ce ne voleva, uno solo, uno, no due uno, però ora che mi ricordo c'è anche da fare i flashback, c'è da fare un altro video con i flashback, giusto quindi sono sei, non sono cinque video in totale vabbè, c'è ancora roba, a Natale, a Natale forse ci si arriva, clandestini quest'altro livello è in casinatone ancora di più, però è bello no, guarda, questi due livelli spaziali mi garbano, mi garbano, mi garbano, uh un'altra filmata addirittura, sembra che siamo sulla strada giusta per il generatore di barchi ma andremmo molto più veloci con quello, è il kart di Oxide una volta ho chiamato una una volta sauna, una volta Tana me ne occuperò io bellino sì dialoghi scritti veramente da non lo so io non so veramente è un dialogo banale un dialogo che non aggiunge niente che non sviluppa niente e che non ti porta a nulla semplicemente fa vedere che Tana prende il coso di Oxide sì ma poi arriva Dingo Dile che però sparisce non ha senso fidatevi fidatevi non ha senso allora qui tra l'altro c'è il trofeo di Oxide e si vede il coso di CTR Nitro Fueled devo fare così lo devo muovere se no non si vede mai eccolo avanti ok ok andiamo dov'è il mio kart mamma mia mamma mia bello però bello 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 bisogna veramente stare attenti perché dopo c'è una fase tostissima il corrido è continuo ma non ci puoi andare no sono arrabbiato perché il livello precedente mi ha fatto un po' arrabbiato perché sono dovuto ho dovuto ripetere diverse volte onestamente quindi fermo 3 4 piano piano vai olè uff uff mamma mia queste sono bastardate vabbè bello però bello 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 stimolante stimolante diciamo che è stimolante no ecco copigliala vai e mi pare c'era aspetta un po' qua forse c'era un percorso nascosto forse la prima ah era qua eccolo cosa ho preso ah la c'era nascosta non so cosa ho preso però ti rendi conto questa cosa qui va bene non c'è niente che ti suggerisca che andando su c'è qualcosa non c'è una freccia un disegno strano qualcosa che ti fa capire che continua ma semplicemente lo devi sapere e va bene va bene test for bob ma tanto è così ormai giocare a crash 4 è una perculata per test for bob mamma mia la palanzata animata no 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 ce l'avevo qua aku siete delle teste di aku siete non sapete fa i giochi non li sapete fa i giochi si diciamo che l'unico modo in cui puoi trovare questa gemma nascosta per caso senza saperlo è perché te quando scendi giù ci scendi magari messo così a piedi per aria quindi andando avanti ci caschi dentro quello si quello è vero però boh diciamo che è un po' non lo so non lo so non la difenderei così tanto allora fermo perché prima devo prendere ecco non sapevo non c'è verso non c'è versi però che la scossa non ti protegga da kuaku cioè che la kuaku non ti protegga dalla scossa fermo mamma mia eh guarda 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 non alziamoci mai se non ci frigge via giù ole bene anche via kuaku se ne è fregato eh accidenti ma rivediamo il filmatino così capite cos'è che non va in questo filmato arriva town li ferma me ne occuperò io non voglio perdervi anche in questa dimensione loro lei prende il coso se ne va siamo una squadra ok dialogo da bimbo minchia triste arriva lingodile e cortex che spariscono ovviamente si sottintende che liberano kuaku e crash però è un dialogo utile no non è un dialogo utile attenzione vai giù 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 bene eeeh ora vai bene abbassati salta eh 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 piano eh non ero pronto vai giù è il sesto cart che mi rubano il sesto cart che mi rubano no 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 fermo eh attenzione qua eh attenzione qua no però non ci mette la piattaforma per farti saltare non devi saltare ma guarda ma ma dai ma mi prendi per il culo andiamo un po' via mamma mia ok lo devi fare salto ma devi fare un saltino proprio appena 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 perché se no tocchi con la testa e la gg brucianti va bene va bene aspetta qui c'ho Akano è tornato Akano che mi sarà visto è un bel pezzo che non si vede Akano ehi fermoli dunque se io for scoppiare la bomba scoppio anch'io mi sa eh o no io non mi ricordo più eh devo sacrificare qua sì e quindi come dovrei fa' ci hanno messo una cassa di ferro da rompere qua Akano in frullata sopra la TNT ma sono veramente degosto eh non mi ricordavo cosa succedeva guarda così o così vedi ma mi ricordavo che c'è anche qui eh lo sapevo anche qui cioè è fatta apposta che non lo puoi fare alla prima devi per forza provarlo non una volta tante volte trial and error proprio dicello supponi no non lo puoi supporre come fai a sapere che ti fa il giro così e te devi per forza atterrare prima sulla TNT e lo stesso qua questo è bastardissimo qui e tra l'altro ti appare anche la nitro lì e ti devi anche sbrigare questo ok facciamo scoppiare le nitro uno due tre quattro cinque ma dai il salto il salto sospeso per aria bene bene quattro cinque uno due e qui mamma mia eh ma ora le nitro le ho fatte scoppiare ci sarà un altro pulsante delle nitro alla fine di livello io non credo secondo me è solo questo quindi quelle nitro vanno fatte scoppiare prima così bisogna fare uno due tre quattro cinque dai fatto 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 che poi le mie non sono lamentelle sono osservazioni critiche andiamo a questa oh olè andiamo allora qui c'è una parte un po' ignorantella perché tutto sotto sopra però allora calmi 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 perché vediamo un po' vorrei rimanere schiacciato ma è troppo difficile questa aspetta ma stavo per rimanere schiacciato ok è andata ha fatto tutto beh bene bene ma io credo che stia per finire il livello bello questo qui velocità warp bellissimo questo è bello questo è bello bene attenzione ah bisogna fare il salto con Akano prendendo anche la cassetta ok ok pensavo peggio vai che bei colori eh che bei colori forse è meglio se uso Akano ah guarda c'era c'era il rompinitro meno male ho sottolotato vedi io critico 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 ma invece dovrei sta zitto due livelli belli io ammetto questi sono forse due dei livelli migliori perché si sono difficili e tutto però sono della lunghezza giusta sono appaganti belli da vedere quindi sicuramente fra i livelli migliori andiamo a fare il boss a questo punto no che scemo quale boss l'inferno andiamo a fare atterraggio di emergenza qui questa non ce la posso ce la posso farla in sé non posso farla in sé ecco tanto è da apprezzare il fatto che ci sia la disposizione delle casse con tanto di tre casse di ferro una sull'altra con la vita sopra che è pari pari la stessa disposizione delle casse del credo del secondo livello di crash 2 quello del ghiaccio pare di metto una citazione e tra l'altro cos'è questa roba rosa su cui si scivola non lo sapremo mai tra l'altro attenzione perché nel filmato nel livello di prima c'era la scenettina con tauna che ruba il kart e tutto ma non hanno messo l'animazione di crash che atterra su questo pianeta qui che sarebbe stata molto più interessante e bellino insomma vedere crash che prende il kart vola via nello spazio e atterra sul pianeta no quella che serviva non l'hanno messa quella di tauna che ruba il coso va bene va bene va bene questo tra l'altro è uno dei livelli è veramente bello questo livello è difficile quanto ti pare ma è bello è un livello da cui forse se ne poteva tira fuori due ricorda molto strange world il nuovissimo film disney perfetto ho perso la tua cos'è il nuovissimo film disney il grande flop della storia della disney sono morto si questo strange world è un mondo misterioso come cacchio si chiama io non so è un film che non mi attira ma zero sai i film della disney devono comunque avere un certo un certo appeal e strange world non ce l'ha sono quei film che sono dei flop annunciati c'è roba anche di qua mi pare no no che bello che bello però sono dei flop annunciati io non so come come sia possibile che che gli stessi produttori della disney a volte non non se ne accolgano questi personaggi con questo nasone è proprio una pill che anche a un bambino non gli garba uno stile del genere non credo sia tutta colpa del fatto che è un film d'avventura perché tanti dicono eh come il pente del tesoro Atlantis si è vero che magari è un genere che attira meno quelli che attirano di più sono i film con le principesse non si sa perché i film con le principesse vanno sempre per sempre ma secondo me non è tanto quello quanto l'assenza prima di tutto di un'identità forte ma poi delle canzoni perché anche in questo strange world non ci sono canzoni in Atlantis non ci sono canzoni in il pente del tesoro non ci sono canzoni sono tutti e tre flop per esempio Tarzan nonostante sia d'avventura non è un flop perché ci sono i canzoni comunque va bene chi se ne frega io non l'andrò a vedere lo vedrò su Disney Plus se lo metteranno cerchiamo di giocare a modo però attenzione perché ora qui c'è la cioè hanno aggiornato non riesco a parlare tre maschere non le posso usare benissimo io adesso sto giocando dopo che è stato aggiornato il gioco con le hitbox di questi mostrilli di Polar ma io il gioco l'ho platinato quando le hitbox facevano ancora schifo ed effettivamente ora mi sembra molto più attenzione anche più difficilissimo più difficilissimo no c'è la no non l'ha presa non l'ha presa e ora vediamo quante volte lo devo rifare a questo livello ora eh dai riproviamo con questo come si chiama Smirgle allora attenzione suprema attenzione suprema non distraiamoci non parliamo di strange war ma no che colori meravigliosi non distraiamoci quei colori dai è andata attenzione perché ora posso prendere anche le tre maschere vai vediamo cosa succede niente perché tutto il tempo lo perdo sul gemmone su vediamo cosa succede a parte c'è un'altra maschera giù piena di maschere sto livello tutte le del mondo del gioco non mi stai via 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 vai torna indietro no aspetta dovrebbe esserci un'altra qua vero? ah guarda male me l'ha me l'ha sciupata va bene qui avrebbe fatto comodo le tre ho qua più in carto dopo però ne abbiamo due dai può andar bene no voglio anche questa e via allora sì sì via 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 salta 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 no ma vabbè 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 sghiopo via trova la gemma nascosta in un altro livello ma ce l'ho incredibile ma chi l'ha fatto sto gioco ma non l'ha fatto davvero dei babbuini veramente qui ora inizia il casino vedi la lunghezza di questo livello è assurda perché praticamente questo è già il terzo livello che no il secondo questo è già un altro livello sono già due livelli insieme ma io penso che questo livello qui arrivi anche a tre livelli però aspetta lì c'è il bonus si vede un po' per modo di dire allora questo bonus ignorante non avrei mai pensato al contrario guardate lo pigia uno due tre una una la prendo quell'altra no cosa uno due tre quattro cinque uno due tre quattro cinque uno due tre quattro cinque olè tre non so come ha fatto a non bruciarmi ma è andata vai ora c'è la parte finale del livello con un altro mostrino prima però c'è da attraversare tutto questo delirio aspetta perché ah vedi vedi qua c'è la roba certo che c'è roba vabbè c'è la nitro fermo fermo piano prendi acqua va bene va bene vaffanculo almeno ho usato acqua però certo sono veramente va bene va bene non è mica finito credevo ci fosse l'animalino ora poi tutte le volte arriva qua senza acqua perché muoio sempre torniamo indietro andiamo su no non è vero sì ecco perfetto bravo prendi la gemma vai via ok così allora vai su piano piano scivola troppo prendi le mele prendi le mele prendilo prendilo vai via vada vada la ma dimmi te andiamo piano 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 prendi la cassetta vai ma poi sotto sopra va bene va bene vai via uno vai ma è troppo il troppo stroppia eccessivo eccessivo vai vorrei che mi facesse male uno due tre quattro cinque vai fermi come fai a prendere quelle due scatole lì come fai a prendere quelle due scatole no dai è vero non è possibile è impossibile sono le undici di sera sono le undici e venti le undici e quaranta questo livello è talmente lungo che ogni volta che lo devo rifare ci vogliono almeno sette dieci minuti la frustrazione è infinita perché perché ho fatto i gameplay di Crash 4 ho sbagliato proprio non è stata una buona idea è vero che è vero Dai monodino Ti prego Sono stato grazia Dio 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 Drammatica questa situazione Scusate io ho spento tutte le luci Perché non ce la facevo più Ero sparaflesciato Sono mezzanotte e venti Mezzanotte e venti Mezzanotte Non posso parlare Non è impossibile Ma non ho proprio Nell'umore Nella voglia Nel mood Ne so cosa posso dire Niente Lasciate mezzo a fine Ti prego Fa che sia la volta buona Per favore Dai Dai Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene È andata, è andata Mezzanotte e 37 Nell'altro video avevo detto che era stato il più devastante Questo ora è stato il più devastante Io non ho idea di cosa possa venire fuori quando dovrò fare tunnel tossici Mamma mia È andata ragazzi Va bene Prima di passare al boss di Entropy Dobbiamo andare a fare errore di consegna L'alternativa di Cortex Che ci siamo lasciati indietro nello scorso video Perché se no veniva troppo lungo Se solo non avessi sostituito il teletrasporto del blaster con la funzione phone Funzione phone Dunque non so effettivamente quanti livelli riuscirò a inserire in questo video Perché presumibilmente faremo questo livello Poi il livello di Entropy È il primo del mondo del cibo insomma L'orbita snacks Attenzione perché qua è difficile Oh no 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 Ripartire Ripartire ma certo Vai Ma perché la madonna è una È nel presente Eh perché Insomma più di oh Cosa fai te? Devo ucciderti? No Ah ok Va bene Che fa questo aggeggino qui? Non mi ricordo se devo andare giù Presumibilmente sì però Eh? Bontà divina Allora Aspetta Devo andare giù Senza Ok Io ho paura che ci sia roba qua dietro Eh infatti sì Lo vedi? Lo vedi? Che slealtà Che slealtà Via Sembrava un portale Quello No 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 Ma to Eh però 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 Eh però Eh ma porca Il problema di questo coso È solo i meteoritozzini Vai Vabbè Non so come ho fatto Vabbè Ok C'è point Ok Va bene Se non sbaglio qua C'è una parte Molto poco simpatica Andai via Prendiamo i Wumpa Non si sa mai Cosa fate voi? Cosa state facendo? Non mi sparare Benissimo Andiamo di salvare Wumpa Che se no S'arriva alla fine Senza Gemma di Wumpa Bene Ecco Questa è la parte poco simpatica Perché è un casino Dio Santa Maria Monte Non ci riesco Ciro mai Io sapevo Senza allenamento Non si può Non si può Non si può Fai vedere Fai vedere Come devo fare Eh no 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 Non si può Ma basta Ma è fatto da persone sbagliate Tutte le volte Devo rifare Il tasto teletrasporto Con la funzione Che video di merda Allora Termo Salta Ancora Pappavia Eh Ah Tonda Che tensione Che tensione Che tensione Perfetto Perfetto Ho usato la parola Perfetto Ma io ce la posso fare Non è vero Non è vero Non ce la posso fare No No Io non ho più voglia Lo capisci qual è il problema Dai Su Tanto la pazienza Io la La fabbrico ormai Su No Tonda ragazzi No Come ho fatto Non lo so Va bene Va bene Va bene Va bene Boh Oh Oh Dovrebbe essere anche quasi finito No 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 Ok Bene Neutralizza le nitro Non è finito Non è finito Proprio niente Non è finito Ah è vero C'era questa parte qui È vero È vero È vero Aspetta Sai che non mi ricordo Molto bene Aspetta un po' Quei tubi non mi bruciano Vero Bene Ok Eh però aspetta Aspetta c'è la scatolina Messa qui che neanche si vede Bene Ok 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 Come vado su Ah c'è la freccia Attenzione Attenzione perché ti frega Vai via No Ok Bene Mamma mia Va bene Va bene Va bene Eh Sì Bisogna andare di qua E fare molta attenzione Tra la No Non mi spara Che bastardo Calma Calma Cerchiamo di non Di non perire Benissimo C'è un modo per cui riesco a prendere quella cassa Senza Ma perché Ok Va bene Va bene No Ho sparato Invece di andare attraverso Ha colpito il fantasmino Per favore Ti prego E tutte le volte devo ritaccare E registrare Ma io sono talmente bravo Che continuo a rifare tutto Tranquillamente Come se nulla fosse Ecco Non ci passo neanche Come se nulla fosse Io vado avanti In questa impervia Stupidissima missione Di prendere tutte le inseguate A vedere la mia orpice Mori Io ragazzi Oh Prendi Prendi Allora calma Ho sbagliato Ho sbagliato Eh Oh cazzo Aspetta Cerchiamo di fregarlo Oh Ti ho fregato Ti ho fregato Perfetto Bene Bene Molto bene Attenzione Perché c'è quello in alto Che ci frega Molto bene Aspettiamo che l'altro spari Andiamo Mori No 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 Porca miseria Che culo Che culo Questo è stato culo Un culo portentoso Non ne avrò mai più Di culi così Rompi al lancio Tra dieci Nove Otto Se no Decolla Decolla C'è uno in alto eh Che mi sta per fregare Mori Vabbè non l'ammazzo Ma è finito È finito È finito È finito Bene Bene Nove settembre Annotazione numero 7 Caro diario Quei fastidiosi Ritema Non se n'è ancora Andato E Tre Tre Attivate Ok Quindi Cortex Ha impedito A Oxide Di andarsene Perché Perché lo fa Ora Forse non mi ricordo Perché lui blocca L'astronave Onestamente Non so se Mi scordo qualcosa O se Non ha set Non ha set Vabbè Chi se ne frega Chi se ne frega Andiamo giù Sdru Sali Ok Attenzione perché Questa è la versione Difficile del livello Mamma mia Non ha intenzione Di rifare Tutto il livello Ti prego Bene Meno male Io non mi sto Più divertendo No Questa parte No Allora calmi Ma la gemma nascosta Sta a vedere O persa Se io mi butto qua Ok Ok Stai a vedere O persa Stai a vedere Mi sono scordato La gemma nascosta Nella parte di Cortex Non lo so Non mi ricordo Naturalmente Aku Aku Eh No eh Tante volte Stavo nello spazio Aku Aku Un chunfa A parte No C'è anche il bonus C'è anche la scossina Ma voi Ma vi rendete conto? Mi non verrebbe Girare lo schermo Guarda Mette la televisione Sotto sopra Oh Attenzione ce l'ho fatta Quindi vado lì Eh È proprio sbagliato Cioè poi diventa Offensivo Ma per forza Diventa offensivo Hai offeso Un intero brand Ti sembra al minimo Offenso No vaffan Bob Ma come è possibile Ci vorrebbe Sai una macchinetta Che fa così Che te ci metti il viso E ti piglia schiaffi Tutto il giorno Ora appena a terra Devo frullare Ecco Aspettiamo che finisca il fuoco Pancia Olè Ora si atterra sull'enitro Eh oh Per forza Benissimo Questa è stata semplice Guarda La scossina Maledetta Da lì cosa c'è C'è piattaforme Ah Qualcosa mi dice che Eh sapevo eh Lo sapevo che c'era Una sorpresa Ma guarda è incredibile È veramente da Guarda questo che non si vede Via 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 Madonna Il punto esclamativo Che ti attiva la nitro Subito sopra Non è una roba da bonus È una roba da Da bigliacchi Proprio Eh Ma No Devo rifà tutto Va bene Va bene Va bene Riproviamo Fuori Olè Salta Bene Bravo Giù Eh no 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 Bene Perfetto Uno Due Tre Giù Su Mori Giù Mori Aspetta che mi spari Benissimo Giù Cazzo Io non so quanto ancora durerà sto livello Non credo tanto Mori Ovviamente tutto senza Acqua No 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 Ma possibile giocare col terrore No Io me ne frego Non me ne frega più niente Io vado a diritto Basta Io vado verso la meta Basta Ma la gemma dov'è? Giù Me ne frega Ciao 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 Fine Non mi interessa Non ho trovato la gemma nascosta Io non so dove sia E ovviamente non ho preso neanche le insane Che però forse posso prendere con un battito di mani Uno Due Eccoci qua Bene Ci è venuto Tanto Ma ho preso le insane Beh E tra l'altro ho trovato anche la gemma nascosta Eccola qui In un posto molto Leale proprio Beh Oh ce lo siamo levati Via 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 Andiamo a fare Entropi Finalmente Oh Un buco nello spazio Vediamo Vediamo un po' questo boss Molto particolare Sinceramente Non è male Non è male Eccoci Beh 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 Qui c'è Tawna Che aveva preso il kart Per arrivare Tardi Perché Arrivano subito i rinforzi Quindi qual è stato il senso di aver rubato il kart Non si sa Ok Ok L'ultima volta che li ho uccisi Qui si scopre che I due Nell'universo di Tawna Sono stati uccisi Perché non diamo loro almeno la chance Non so con quale Con quale Mancanza di tatto E di gusto Si possa fare una cosa del genere Vediamo come ve la cavate E qui c'è l'effetto sonoro Di Flash 3 Warp Quando c'è Entropi Che con lo scettro Picchia e far suono Bellissimo Bella citazione E qua loro Finiscono In questo buco Nello spazio In questo In questo Meteoritino Probabilmente I due Entropi Intendevano Isolarli Mandarli via Per qualche motivo Akana però Arriva subito Così Senza nessuna sfida Senza Non si sa Chi l'ha chiamata Arriva subito A salvarli Presumo sia quello il senso Sta accadendo di sotto Una forte Tra le dimensioni Tra l'altro Questo effetto qui È bellissimo Veramente Una roba poi Che Indubbiamente Ricorda tantissimo Rift a parte Che però è uscito Dovo Quindi L'effetto è bellissimo Questa cosa qui La prima volta la vedi Cacchio Indubbiamente Non è neanche facile Da fare A livello tecnico Penso Credo Non ho idea Ma non mi sembra Non sia tanto facile Da ottenere È un effetto bellissimo Il punto è che È una cosa Una sburronata Un po' Fino a se stesso Perché Cioè Crash viene mandato Su quel Su quel Mezzivritino E poi Deve fare Questo Questo Perché Qual è il senso È così Perché è bello Ok Il punto è che Questo gioco È veramente Tutto a caso Non c'è un senso Logico Neanche a piange Veramente Poi sono questi Dialoghi Ripetuti Ho preso tutto E attenzione La chicca finale Dio santo Dio santo Dio santo Molto moderno Eccoci E onestamente Questo boss È interessante Oh La musica Bellissima Forse la migliore Musica di tutto Crash 4 Non che sia Difficile Però Perché tu Cioè Trovando una musica Decente In Crash 4 Però una c'è Quindi Almeno questo Non si può Negare Ah cacchio Non ricordavo più Ci fossero le maschere Guarda Ok Bene Bello Ho sbagliato Mi sa Bellissimo Ho sbagliato Mamma mia Che cool Bello E siamo al boss E qui siamo A una specie Di climax Perché Pare che La storia Stia finendo Stiamo arrivati A un punto Di chiusura Della trama Delle Delle redini Si tirano le somme Insomma Le somme Insomma Ma anche se L'impressione Che non sia Cioè Non può Possiamo essere davvero Al finale Perché loro Ci stanno facendo Questo Vero Non avete avuto Quest'impressione Infatti Però è un bel boss Ma i boss Di che è bene I boss di Crash 4 Ho sempre detto Sono belli Tanto la musica È vero che è bella Però non si sente Cioè la musica Lo so che è bella Perché l'ho sentita Da solo Su youtube Se la vai a cercare È bella Ma se la senti Mentre i giochi Si sente Bassissimo Vabbè Questo è un altro Dei tanti Però adesso Stiamo veramente Facendo la punta Al cosiddetto Quello lì Insomma Però Io sono qua In vestiti Analitico Critico No non è vero Io sono uno che gioca E cerca Di commentare Perfetto Ora si sente un po' di più Ma facciamo conto Che sia davvero Il climax Del gioco Ci sarebbe anche Tanto Sentice la musica Di Crash 3 In questo momento Preciso Ah Finito È già finito Non mi ricordavo Fosse così Ma come è già finito Ma come è possibile Che loro si facciano batte Così facilmente Ok Ma ora c'è una ficca Tappiamo i buchi Quindi le maschere Tappano i buchi temporali Ha funzionato Quindi è il climax Abbiamo risolto la situazione La storia è finita È conclusa Giusto Ora che finalmente È tutto a posto Ti porteremo dove vuoi E quando vuoi Ma dopo un riposino Dopo un riposino Per ora Posso portarvi solo Fino alla capitale culinaria Dell'intero universo Neon Ziti Perché? Un riposino No 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 Calma 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 Allora Fermi Siamo al climax Cioè dove La situazione Viene risolta E il problema Non esiste più La storia è finita Perché l'universo È salvo I barchi dimensionali Sono stati chiusi E Dingo Dye Vuole tornare a casa E Capuna Wani Fa No devo riposarmi Perché sono scarica Andiamo a fare Un riposino Andiamo a fare Uno spuntino Nella capitale culinaria Perché? Perché proprio Nella capitale culinaria? Madonna Questo gioco Da punto di vista Narrativo Non si salva nulla Di questo gioco Davvero ragazzi Puoi dirlo forte Crash Facciamo un giro Prima di riunirci Agli altri Facciamo un giro? Dove sono i chioschi di cibo? CTR Allora Tra l'altro Questo mondo È anche uno dei più belli Proprio a livello Di colori Di idea Perché è bello Si rifà un po' Chiaramente A Car Crash 3 A livelli del futuro E è proprio bello Da bellina una musica Belli colori Però perché Doverlo legare Alla storia In modo così stupido Cioè che loro Si devono ricaricare Devono fare un spuntino Ma no Ma hai ammazzato Completamente Il climax Della storia Così Dovi far vedere Che è Ho sbagliato Se poi sappiamo Che Cortex Si ribella E lo farà Fai che il Cortex Subito Si ribella Nel momento in cui Kapunawa E le altre maschere Salvano la situazione Se il climax Si è raggiunto Devi subito Mettere un altro climax E mettere la posta in gioco Ancora più in alto No che Risolto tutto Mi fai smosciare E poi dopo un po' Arriva E si Risulta un allungamento Di Brodo Non sembra una storia Ragionata Sembra semplicemente Andiamo qui Poi andiamo là Diventa il gioco dell'oca Per quanto Di per sé Le storie Dovrebbero essere Strutturate al gioco dell'oca Nel senso che vai qui Poi vai là Poi vai là Ma ci deve essere un nesso Fra le varie caselle Ci deve essere un motivo Per cui si va da una casella All'altra E invece Lo spuntino Va bene Uh Io mi ricordo Che c'è una gemma Eccola qua Ole Mamma mia Ok Bene 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 Prendiamo un po' di punti Mori Allora Sono queste casse simpatiche Che vanno rotte Al momento giusto Ecco qua Che bei colori davvero Che bei colori veramente Guarda Questo livello qui A livello visivo Forse è veramente Uno dei miei preferiti Peccato che In questo mondo Di livelli così con Crash Ce ne sia praticamente solo uno Perché Quell'altro è con Tauna E Dingo Dile E poi c'è quello con Cortex Che mamma mia Soffriremo Cazzo Eh Posso farcela Posso farcela Ok Ti prego Vai Perfetto Perfetto Vai Non è neanche un livello difficile Onestamente Questo qua È un po' È un livello giusto Forse uno dei livelli Migliori proprio dal punto di vista Della durata Della struttura Indubbiamente Ci sta È un bel livello Quindi si perdona tutto Anche se a livello di storia È infilato a casa Però Piano No 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 Eh Però Eh Uffa però Perché ci sono ste TNT volanti Vai 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 Eccola Olè Zà 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 Dunque Anche questa parte è un po' tricky Andiamo un po' Mamma mia No Guarda Non me l'hai visto I bug Toys for bug Veramente Quello è un buggone Io sono arrivato sul muro E non si è aggrappato E lo devo rifare Allora Salto Salto Grappazio Grappazio Fermati in questa scatolina Vai 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 Perfetto Perfetto Bene È andato Questo è andato Ce n'è un altro Mi pare Verso la fune Oh Guarda 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 Attenzione Alle TNT Non mi ricordo Se io facendoli scoppiare Qua cano Esplodo Anch'io Mi sembra Proprio di sì È meglio Non rischiare Non Diamolo per buono Eh Vado Certo Vabbè ma ci sta Dai ci sta Questo ci sta Mi piace Ok Bello Questo è un bel livello Ovviamente È un bel livello Mi piace È proprio un livello Da crash 3 Questo qui Non tanto di abitazione Ma proprio Come struttura Attenzione Perché devo andare Sul tetto Qua Cazzo Sono confuso Mi sono confuso Mi sono Guarda lì Riproviamo Riproviamo Io però Mi caco Veramente Mi caco Mi caco Anche solo A provare Ok Dai Che Non so Come ho fatto Come ho fatto Non lo so Meno male C'è il palino giallo Che fai Questo è il culo Fotonico Questo è il culo Impossibile Da avere Questo culo qui Va bene Va bene Siamo quasi Alla fine del livello Dai No è un bel livello Forse guarda Io Lo metterai in top 5 O anche top 3 Non lo so Andrebbe fatta Sì la classifica Dei livelli Anche se Per forza di cose Sarebbe una roba Eh Non ero preparato Una roba immensa Quindi Boh Una classifica Dei livelli Di crash 4 E dubbiamente Dovrebbe Un Troppo Ah Ho sbagliato Eh sì 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 Sempre sti bonus Basati sul 3 render Però vabbè Si fa No però c'è sfida C'è sfida È una sfida interessante Ecco Mi sembra strano Ma Vabbè Mi fido Mi fido Mi fido Mi fido Ok 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 E ora torno La Sì E qua Ok Perfetto Vai Mi ha un po' fregato Quella cassa trampolino Perché a regola Uno Non dovrebbe romperla Per forza Invece Vabbè Chi se ne frega L'importante è superare Aria Eccolo Quanto siete Simpatici Allora L'ultimo pezzo E poi è finito Livello Mamma mia Mamma mia Certo Certo Guarda 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 L'hai visto Rino Pabagano Ero alla fine Ma in cù Ma dai Ma io Io voglio 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 Un sindacato Dei Dei Platform Coraggio Coraggio E silenzio Concentrazione Su crema Che è Oddio Oddio Meno male Meno male Mamma mia Se avevo Va Vai È fatta È fatta Vai Ciao 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 Fine Fine Bellissimo Livello Uno dei migliori Fossero tutti così I livelli di 3-4 Sarebbe stato un gioco Da 8 9 8,3 Ma andiamo avanti Facciamo anche Ora di punta Voglio correre il rischio Vediamo Stava vedendo Per il pelago Perché questo livello È complesso Ma Boh Vediamo Vediamo Eccoci qua Dingo Dial Credo sia L'unico Livello Dove ci sono Due personaggi Che però Non è un livello Alternativo Una timeline Alternata Non lo so Questo gioco È costantemente Una contraddizione Cioè La struttura Di questo gioco È veramente A caso Perché Se te finora Mi hai insegnato Che i livelli Con due personaggi Sono sempre Livelli della timeline Alternativa Perché poi Mi presenti Invece Un livello Normale Dove ci sono Due personaggi Che tra l'altro Si sviluppa Come un livello A timeline alternativa Perché a un certo punto Il personaggio Cambia proprio Quindi Cioè Proprio come fossero Gli altri livelli Quindi non lo so Non lo so Va bene Ma Secondo me Non ha neanche più senso Sta a farsi Questi problemi Veramente Levati Bene Queste TNT volanti Sono ignorantissime Sgro Allora Attenzione Perché qua C'è una cassa Nascosta Eccola Molto facile Perderla Allora Qui c'è una Quaco Meno male Non si possono avere Tre acquaco Però Almeno ce l'hanno messa Meglio di niente Allora Posso aprire Una catena Di locali Ok Sì perché infatti Qui siamo nel futuro Dove Dingo Dile Apparentemente Ha aperto una catena Di locali Visso che c'è scritto Dingos Che tra l'altro È un riferimento A Crash 3 Mi pare Dove Nei livelli del futuro Si vedono Le insegne Di Dingos Dingos Diner O era Nel livello degli ali 50 Non mi ricordo Forse Entrambi Non mi ricordo Allora non mi ricordo Dove Vabbè Bo Bello 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 Allora Ricordiamoci di tornare indietro Prendere Mammi Attenzione perché Bisogna anche prendere un po' di mele Sennò si arriva alla fine E non si prendono Benissimo Grazie Non ricordo Dove è la gemma nascosta E ahimè Lo scoprirò Mi spese Presumo Bello eh Dover parlare Senza avere Minimamente niente da dire Ma Fatelo voi Fatelo voi Di parlare Così Mentre uno gioca Eh Fatelo Provateci Vedrete che impazzirete Ma io mi diverto Cioè non è che sto Rinfacciando niente a nessuno Belli E beh i tempi Dell'Enzion Trilogy Quando Nei video avevo veramente qualcosa da dire Ah no 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 Ok In realtà io ce l'ho qualcosa da dire Che sta serie È diventata talmente lunga E enorme Che ormai Sono finiti gli argomenti Tutto lì Attenzione Bene Un altro Aku Aku Molto bene Attenzione Ah Oddio Oddio Bene 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 Io ho paura Ah Mamma mia Mamma mia Ho capito dove è la Gemma Mi ricordo Mi levate Lo sapevo Lo sapevo Ma porca miseria Se mi concentro Ce la posso fare Va bene Va bene Meno male C'avevo Aku Aku L'hanno messo per un motivo Aku Aku Cazzo Uh Ok Allora La Gemma è qua giù Se non sbaglio Eccola là Questo Mi attacca No Ma Lo fare mai più Si capisce neanche quanto è lontano Vai presa la Gemma Andiamo avanti Dovrebbe iniziare ora la parte di Town Via Si sente anche il suono Di quando c'è Crash Che gli appare la roba Con punti esclamativi Interrogativi Perché qualcuno ha interferito Con la sua timeline Quindi è palesemente Un livello Che doveva essere alternativo Ma non lo è Non ci avevo mai fatto caso Al suono L'ho notato stavolta Questo gioco È meraviglioso Proprio per queste motivazioni Ecco Questo va Oh Vedi la scatolina Rompiscatoline Bene Quello ci pensa Tutto da sé Questo more Posso fare prima Sì Vai Rompi Oh Ora inizia la simpaticissima fase Con la rotaia Che io ho paura di sbagliare Perché non me la ricordo più Non la posso fare bene Ok Mori Bene Tra l'altro questo Che bello Questo è l'ultimo livello di Town Eh Ce ne siamo liberati poi Attenzione C'era roba C'era roba Ti prego Cos'era Non so Ho esaurito la mia dose di culo Per oggi penso Non credo di poter ripetere mai Una cosa del genere Porca miseria Piano Ora inizia il casino Dai Andiamo Uh Vai 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 Attenzione Vai Salta Salta Rompi Salta Vai Ok Ammodino Ammodino Ma perché non te ne vai Olè Olè Beh Piano 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 Calma Vai Vai Molto E vai Rompilo E vabbè Rompirò Copieni Ok Ok Calma 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 Salta Ragazzi Vai Salta Bra Salta Vai Vai Olè Perfetto Perfetto Vai Vai Non so cosa dire No Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ok Aspetta Dai 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 Allora Ora c'è la parte qui Pullman Insomma For traffico Oddio Stibidoni Vai via Allora Ho preso già una scatola Però attenzione Ho timore Ho timore Vai Mamma mia Che culo Che culo Che culo Uno Due Tre Quattro Cinque Bene Vai Non so che dire Ragazzi Che veramente C'è una tensione Salta 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 Sinistra Des L2 L2 Molto bene Molto bene Salta 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 R2 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 Eh ma tanto c'è la roba con Pullman finale che non può andare bene Vai Molto bene Molto bene Molto bene Attenzione al fuochino Bene Abbiamo un uca uca Quatu E o e Sapete Vai Allora quante case ci sono da prendere Forse nessuna O no Non mi ricordo Non mi ricordo Ma è un casino Non può andare bene Non può andare bene Non può andare bene Bene Mamma mia Eh c'è una kuaku Non la posso prendere Ci arrivo Ci arrivo Dai Ho tutto Mi sto cagando Ma tu Va bene Va bene Va bene Va bene Salta Misterioso cibo piccante fritto Cosa Enzane Ho preso enzane Non l'ho preso Va bene Va bene E' andata benissimo Ma non è possibile Sono sconvolto Allora guarda Visto che è andata così bene Facciamo anche quello dopo Mi voglio rovinare Così sfinisce tutta l'isola Però quello dopo No Quello dopo non è quello di Cortex Ora di punta Ah tra l'altro è vero Questo C'ha sia Cortex Che Crash Però attenzione Perché Vedi anche qui Lassù dove c'è il titolo C'è scritto Dingo Dile E Tawna Negli altri ci sono sempre scritte Le consegna Carbonante fossile Qui no Qui ce n'è solo uno Perché Andiamo Allora Qui il problema E' la parte con Crash Perché ovviamente La parte con Cortex Si fa E' la parte con Crash Il problema Quello dove salti Su tutti i vagoni No non può andare bene Va bene Non pensiamoci Cerchiamo di goderci il momento Allora Questo livello mi ricorda Mirror Edge Non chiedetemi perché Allora Qui bisogna stare attenti Con questo salto Così Ok va bene Sì Va bene E Zapp Beh Se no poi Si restano castrati di là Cato Fai scoppiare Perché una volta che passi Il muretto lì Non puoi più tornare indietro E quindi tocca rifare Ah Guarda che bello qua Che bello Che bello Che bello Che bello Ma non ci interessa Dobbiamo andare verso la fine Che non vedo l'ora di levare Il pensiero di fare La roba di Crash Mamma mia Allora Mori Devo prendere la cassa Ci arriva Bene 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 Aku Che piacere Aku Salta Uh Providenziale Providenziale Aspettiamo che torni Il coso Mamma mia Neanche l'animazione Di ritorno Della piattaforma Riescano a fare Madonna Cioè veramente Veramente Va bene E' chiuso Allora Fermi Attenzione Mamma mia Madonna Ho fatto paura Ok 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 Devo Devo andare là Ho paura No 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 Lo prendo il momento giusto Cacchio Vai Non succederà mai più Allora Eh Qui ci sono i treni Che passano Quindi Onde evitare di morire 200 milioni di volte E memorizzare bene Quanti i treni passano Uno Ok C'è la gemma nascosta Ora La prendiamo Bene Allora Qui quanti i treni passano Uno Due Tre Quattro Bene Uno 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 Sempre uno Ok Allora E Come si tornava Ah ecco 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 Uno Due Tre Quattro Ora Uno Due Bene Vai Uno Olè Sempre uno Va bene Chi ho E chi ho Attenzione Uno Uno E qua Uno Vai Uh Che bello Questo è bello Questo è bello Mi è sempre piaciuto Proprio bello da vedere Anche Proprio Cose che aspetta Il delirio che ti aspetta Però è proprio Platformone bello Questo livello qui La parte di Cortex È bella La parte di Crash È bella Però Avrebbero dovuto Staccare i livelli Perché Rovinare Così tanto Una cosa Venuta bene Perché di fatto Questo è un belli bello È un belli bello Ed è un belli bello Anche quello di Crash Ma Perché rovinarlo Mettendoli insieme Perché Perché Io non lo capisco Veramente Proprio rovinare La festa Attenzione Bello Bello Ah è bello È bello Bisogna stare Ben attenti Ma Ci sta Ci sta Mamma mia Stavo per morire Mal Eh Vabbè C'ho acqua Però Ok Va bene Bene Se pazzi Acquacu Ok Che bello Quando funziona Questo non era Non era atteso Questo Maledetto Meno male avevo Acu Però Non dovevi Tu comportarti Così con me Non so se ci sia Roba Ho paura di sì Però Non c'è niente Vabbè Attenzione a questo Bidoncino Che rompe I coglioncini Poi sembrano i bidoni Che c'erano Nelle merende Vaffa Avevo fatto Tutto bene Allora Riproviamo Bene Diamo Dunque C'è questa parte Che è La parte finale Del livello Della parte concorta Insomma Che Dovrebbe essere Abbastanza difficile Sono solo Piattaforme Da schivare Cadono Ovviamente No Vai Eccoci Siamo Lui capisce Si ravvede Cambia idea Vuole tradire Corti Vecchio Meno Vecchio Meno Perché mai non ci sei arrivato Prima Quindi non era premeditata Vabbè Questa cosa qua La doveva fare Subito dopo aver sconfitto Entropi Poi fai lo stesso I livelli del cibo Ma Li leghi meglio A livello logico È molto più Senza Vabbè Andiamo a soffrire Suonategli Soffriamo Io non ce la faccio Non posso farcela Fuori discussione Trovo davanti Vado avanti Perché Lenzii la prenderò Da solo Dai Non potete Chiararmi questo Mi dispiace So che dovrei Ma Va imparata a mente Eh Vedi Come fai? Come fai? Maledizione Ok Bene TNT anche qui Eh Non erano un vano Tanto veloce Me ne ricordavo Più veloci Si può Forse è stato fixato Mi ricordavo Più veloci Però vabbè Bene Questa è È stata proprio gentile Questa qui Amo mia Wow Finito vero? Eh sì Bene Devo rifare E prendere l'insane Ma lo fa Lo fa per voi Eh E non è detto che Va bene Vediamo se riuscirò a fare l'insane Chi lo sa Lo scopriremo Ora Guarda un po' Oh Gemma Quante morti ho fatto? Zero E ho preso l'insane Sì Quanto ci ho messo? Andiamo avanti Via 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 Oh Filmato Filmato Non mi ricordavo C'è un altro modo Per spezzare questo ciclo Infinito di scontri tra noi Posso tornare indietro Dove tutto è iniziato Posso cancellare Il mio peggiore fallimento Si riferisce a te Crash Ciao ciao Bending C'è un altro modo Non mi abituo mai a queste transizioni inesistenti Non mi ricordavo questo Questo filmato Quindi ok Sì Ok Quindi lui torna nel 1996 Per cancellare il suo errore Sì Ha senso Questo ha senso Tocca Lavorazione nitro Andiamo immediatamente Vai Perfetto C'è anche l'icona del wifi Non so cosa è successo Primo livello dell'isola di Cortex Che Sì Non è Non è il peggio Ma in realtà oddio È tunnel tossici che è devastante Gli arti 2 Quello di Cortex E il castello di Cortex Specialmente È fattibile Ma quanto siete appiccicosi Non capite l'antifona Ecco di un po' Che sei inserito nella mia frequenza personale e segreta Cosa? Ma chi è questo? Questo impostore Non riesce a riconoscere la tua stessa faccia? Vengo dal futuro per metterti in guardia E poi non si capisce Se cerchi di trasformare Crash Bandicoot nel generale del tuo esercito Fandirai La macchina rifiuta il suo Madro Busardo Embryo Allerto le guardie Perché non mi do mai ascolto? Partiamo subito con le cose che non tornano No vabbè allora andiamoci piano però Ci sono comunque delle osservazioni da fare Ovvero Nell'artbook ufficiale di Crash 4 Che io ho C'ho qua Non si vede Si vede che nell'idea iniziale C'era la volontà di distinguere La talpa interica me lo ricordo Mamma mia quante volte l'ho sentito in live Questa talpa interica Bellissimo Bellissimo C'è anche il valsezzo scarico Aspetta Dove metto a caricare? Metti a caricare Dicevamo Nell'artbook di Crash 4 Si vede quanto fosse chiara La volontà di distinguere i modelli Dei due Cortex Ovvero Cortex del 96 più giovane E il Cortex di oggi più vecchio Infatti ci sono i disegni Con Cortex Con i capelli un po' più bianchi Un po' più brizzolati Che doveva essere il Cortex La fa culo Di tutto questo gioco Cortex doveva incontrare Se stesso più giovane Non si sa come mai Questa cosa sia stata Completamente abbandonata Non capisco perché E hanno preferito Semplicemente mettere Questi due Cortex Uguali Ma non si distingue Non si capisce Quindi te vedi questi dialoghi Fra i due Cortex E non sai mai Qual è quello più giovane E quello vecchio Va bene Va bene Va bene Cioè non è una critica È semplicemente La constatazione Di una cosa Che funziona Che sta lì Non è neanche una critica Tarboni Olè Questo livello Onestamente Fa un po' mattire Ma non è neanche Troppo difficile Sinceramente Per quanto Eh Vabbè Ne ricordavo Questa scatola bastarda Fa un po' mattire Soprattutto sul finale Perché ci sono Delle robe strane Con Mamme Bene Comunque andiamo Andiamo Perché a me Quello che preoccupa È tunnel tossici Devo andare sotto Vero Meno male C'ho le Le bucce Potremmo andare anche sotto No 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 Devo andare sotto Ok Bello Bello Attenzione Perché qua c'è la roba Però eh Mi ricordo Forse era qua sopra Mi ricordo che si Deve girare Qua Eh Vedi 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 Bello Mi ricordavo bene Ok Bene Olè Le blatte elettriche Va bene Va bene Ma sono carine Le blatte elettriche Come ho fatto a non colpirmi Bene 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 Va bene così Va bene così I tarponi Li eviterei Ok Attenzione No Eh Te Fermi tarponi Tarponi No Ma ha toccato il tarpone Per Dindirindina L'occhietti porcini Zitto Sono antipati Ste blatte Allora Attenzione 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 a tarponi Meravigliosi Meravigliosi tarponi Io però ho paura Che ci siano scatole Nascoste dietro No Non ci sono Va bene Va bene Mi sono vendicato Dei tarponi Ah La gigini Verdi Bellini Bellini Quei mostrini Ah ecco Giusto Non mi sono accorto Di aver attivato La cassa Temporale Un'altra Uh Piano Questo livello Mi piace Mi piace Veramente Seriamente Seriamente Io È un po' Un po' ignorante È un po' ignorante Però D'altra parte Siamo all'ultima Isola Ma E via Ma che cosa sono Quei cosi verdi Ciao Sotto la nitro Ah qui bisogna stare attenti Perché ci sono le casse Nell'ingranaggio Carino Carino Spero Finiscano presto Un fiscano più Oh quante ce n'è Basta Oh Beh finito Guardate che simpatia Meravigliosa Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Settanta Quaranta Novanta Cinquanta Milanta Cosa ho detto Non lo so Allora Due A Eh 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 Scatolinzi Oh c'è la orrente C'è la orrente La orrente Scoppiano Non ho mai visto scoppiare Va bene Va bene Va bene Va bene Allora calma Che bello sta roba via Che bello però Che poco cosa vuol dire Che il nitro Le crea cortex Vabbè sta cosa Vabbè ok La lore Intanto ci sono i dialoghi Fra i due cortex Ho bruciato così Un'acqua L'unico livello Dove ti dà Gli acu Io me la sfrutto male Così eh Non bene Non bene Ok Ok No 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 Bisogna sta andare Perché ci hanno anche Un ampio raggio Queste Queste blatte Le blatte Elettri Elettri Come si possono chiamarle Cosa succede La blatta elettrica Ah già Non vi ho fatto apprezzare Il maglione L'avete visto Penso che ho il maglione Natalizio Brutto Vecchio Vabbè Me lo volevo No Lo volevo dire Nell'introduzione Lo sono scordato Vabbè meglio 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 Oh 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 Quindi qua c'erano Tre acu Ecco Questa parte qua È la più difficile Del livello Perché È un funzione È buggata Sono un imbecille Sono un imbecille O sì Ehi Ma aspetta un minuto Allora calma Penso Ora Occhietti porcini Ok Riproviamo Cafone Cafone Cosa Oh Beh 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 Ultimo salto Vai Ok 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 Non fa male Non fa male Non fa male Stai zitto Sono un imbecille Io che continuo a gioare Sto gioco Ok Qui si capisce male La prospettiva Oddio C'è anche C'è anche una guada Non mi ricordavo Però c'è anche Il Bones Il Bones Vediamo il Bones Non mi ricordo assolutamente Non vorrei Perdere la maschera Ma la perderò Ok Uno Due Tre Quattro Certo Certo Sono proprio Dei proprio Bastardi C'è un cesso Tepto come questo gioco Perdere Perdere Tutti e due Liacuaco Così No però Non ci ho pensato Non ci ho pensato Che mi spaccava L'initro Un arto Cesso Dai Manca poco Alla fine Dunque Aspetta Fermi Ah ok C'è ancora Capuna Però Non mi ricordo Ah guarda 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 Uno Due Tre Non mi ricordo Più niente Ok Spero Non ci siano Casse nascoste Questo Guarda Non si capisce Ok Maschera Presa Guarda Che basta Guarda Questa Vabbè Però è carina Allora No 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 Perché Perché Non si capisce La prospettiva Ok 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 Bene 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 Attenzione A questo salto Io non so Ah vedi Vedi Boh Eh si Si tende a Non lo so Non lo so Non lo so Sbagliato Non so Attenzione 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 Dai 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 Sì Sì Cozzo Sì Sì Divieto di papere Oh Dai È andato Ma io mi levo anche il cappello Perché nel prossimo nivello Non ci sarà niente Di cui essere Festosi Sono anche rovinato L'ho messo in piega Tunnel tossici Guarda mi cambio anche la skin Mette una skin adeguata Quale può essere? Dai questa qui Con la sheet Ciccio gamer Dai andiamo 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 Speriamo bene Ed è in questo livello Che si distingueranno Gli uomini Dai ragazzi Eh Ha voglia di Fatti Ventaglino Andiamo Andiamo con calma Il momento È giunto L'ora della verità Ah guarda Guarda No Ok Sì anche il discorso Di metterci il bombato Nonostante sia Una reference carina Al fatto che inizialmente Crash Doveva essere un bombato Però è uguale Secondo me Sfocia troppo Nel fanservice Però vabbè Queste Queste Questi 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 Molto opinabile Come discorso Che bella Sta luce Mi è sempre Garbata Un botto Va bene Sono tossici Concentriamoci Ce la dobbiamo fare Già a livello di prima Ha dato meno problemi Del previsto Quindi in realtà Sì Non mi aspettavo Grandi problemi Ma soprattutto Con il livello dopo Non mi aspetto Problemi Ecco Io me l'aspetto Solo In questo livello Qui E con l'artenata Di cortex Eccoci Fermi 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 Perché Ci sono Delle casse Qui Vero No Non mi ricordo Più Ehi Eh vedi 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 Uno Due Io vado Di qua Che bello Le scarpine Ne ricresce Ok Non abbiamo La pressione Di dover fare La reliquia Quindi C'è Del tempo Quindi posso andare Con calma Con tutta La calma Del mondo Esploriamo La bellezza E che comunque È un livello Bello È solo che Non è un livello Sono sette Livelli Uno Però Alla fine È bello Questa cosa Di aver messo Il percorso Delle gemme Insieme Così grosso Così difficile Eccoci È criminale È criminale Però va bene Lo si fa Lo si fa Ok Mi sa che ho lasciato Quella cassa Ho fatto bene A morirlo Forse Ok Mamma mia Ste scossine Le maledette scossine Dai Una è fatta Tanto ce n'è una Quella poi dopo Con le scossine Di nuovo Che è buono No ma in realtà Anche sta via di film Mamma mia Hai ragione C'è anche sto pezzo La scossina Ma come sono belle Le scossine Mori Non mi ricordo Come si fa Qui Ecco le scossine Ma dove Il festival Delle scossine Sono sudato Come le scimmie Cosa Cosa Sì però La madonna Imposa Veramente No è Natale È Natale Non si può No Non c'è un cesco vivo Un cesco vivo Non c'è un cesco Non può funzionare Dunque 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 Riproviamo Riproviamo Scossina Olè Vai su Tarpone Drop Grazie Ok Proviamo a saltare in alto Vai Sali su Sali su Salta All'altra scossina Non si spinge mai Non si spinge mai Le voglio le mele Le voglio Ma che stronzissimi Questo No La scala E ora Ci arrivo forse No E ora E ora Ma attacco Devo rifare No vai Come devo fare In che lingua Bisogna piangere Lo sapevo Lo sapevo Lo fa così Lo gioco Oh Che simpaticissimi No 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 Giù Su Ok 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 Forse il peggio è passato No Non è vero No Il problema è che Non si può far bene La prima Senza provarlo Un po' di morte Salta Tintinti Cazzo Ok E ora Grazie 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 Ok Mamma mia Non mi ricordo se ci sono scasse indietro Sa di no Non so Mi ricordo più Lo proviamo Grazie 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 Vai via Vai via Vai via Oh Che poi ecco Fosse solo questo Cioè se solo questo livello Mi fosse stato così Sarebbe stato Sarebbe stato anche bello Il problema è che Tutti i livelli sono così Nel frattempo è passato Molto tempo Va bene Molti tentativi Sono stati spesi Per tornare qua Andiamo La stattate perché C'è questi Guarda va C'è la Vai Oh Bisogna proprio saltare Il momento giusto Se no Pi li ha scossa Bella luce Sono molto abilito Onestamente Perché nel rifare Tutto questo percorso Sono molto Molto Morte Molte Quindi Sono anche un po' Stanchino Ma ce la posso fare Carto sa La prima volta che lo fai Ci metti Impegno Poi Lo rifa Ti passa un po' La voglia No 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 Dai Dai Oh Madonna Queste Queste Non è proprio Cattive Non sono più Difficili Sono cattive Basta Ok Am I school Am I school Am I school Allora qui ai carrelli Fate molta attenzione Ecco lo sapevo Perché fra una volta e l'altra Mi sono accorto Che c'erano due casse qua E sarei arrivato Magari alla fine del livello Senza due casse Ti immagini Questa parte Del livello Per ora è quella Che mi sta dando più problemi Perché c'è Quel cavolo di viaggeggio Che oscilla Con la scossa Con quella cavolo Di TNT nel mezzo Io devo riuscire Ad atterrare Eh no No Ma come fai Ma come fai Va bene Va bene Lo stesso Va bene Lo stesso Questa è un'altra Un'altra cosa Molto simpatica Cerchiamo di ridurre Al minimo il rischio Saltiamo Sopra Sì Vai Perfetto Almeno così Dobbiamo attraversarlo Una volta sola Basta 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 Rompi tutto Tra l'altro C'ho acquaco Ma ho paura Che se mi schiaccia Non mi fa niente Cioè Non mi serve a niente Mi sa Non lo so Ta 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 Ok 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 Molto bene Molto bene Molto bene È fatta Questa parte Delle gemme Ce la siamo Levata Dai Ora Se è un moio Devo rifare tutto No Io io Guarda quanto Sembra Jack and Dexter Questa parte qui Piacerebbe Vedere Toys for Bob Alle prese Con Jack and Dexter Per vedere Che disastro Combinerebbe Oh Un bacione Un bacione Toys E anche a Bob Mi sono anche Salvato qua Com'è possibile Com'è possibile Attenzione qui Bisogna salvare Saltare Perché sono Com'è possibile Che c'ho Aquaku Non sono esploso Quando Sono saltato Sulla TNT Ce ne avevo due Sono stato Graziato dal gioco Non lo so Devo rivedere Poi il gameplay Guarderò E vedrò Capirò Allora Qua ci sono Ti apri la porta Quindi non importa Prendersi Prendersi queste casse Prima Eh però Non moriamo Ora Perché dovevo fare L'imbecillo Allora Perché qui È comunque Molto difficile Tutta questa parte Adesso Oddio Il tarpone Devo Devo Stare zitto Perché Mi viene Automatico Di parlare Ma non ce n'è bisogno Quella scatola Mi fa sbagliare Lo so Vediamo Che Ma Ma Qui devo passare sotto Non lo so Vado No 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 Non me lo dico Sì Ok Sì Io mi ricordo Quando feci La La reliquia Non parai a mente Ma ora Non mi ricordo più Ok Mori Mamma mia Se penso che Per fare la reliquia Di platino Ci persi Non lo so Un giorno Due giorni Dieci ore Tanto tempo Mi pare Di averci fatto Un videino Un videino veloce Su Sì Sul canale Vado Mamma mia Giù 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 Un videino Dove dicevo Che ci avevo messo Un botto Di tempo Che bisogna Stare attenti Alla piattaforma Giù Ora Ok No Questa parte È difficile Cosa Guarda Guarda Che lavori Guarda Che lavori Oh C'è il bonus C'è il bounce C'è il bounce Anche qui Che sofferenza Calma Calma Io non voglio Sprecarmi A poco Grande Ok Oddio Oddio E via Ok Sgroppo Olè Attenzione Perché qui c'è una TNT E una Nitro Eh Ok 2 2 5 Però Aspetta un po' Ragazzi Ok Quello è un coso verde Delle Nitro Te le odio Te le odio ste casse Infuocate Salta lì Olè Vai Bene Vediamo cosa succede Che devo tornare indietro Per forza Per forza Devo tornare indietro Si c'è quella Cassa No Ho sbagliato Non ci arriverò mai Laggiù Non ci arriverò Non ci posso arrivare Vero Vero Grazie Grazie Toys I più grandi sviluppatori Siete voi Ok E ora c'è il rush Fino a non morire Ti prego Ti prego Non posso Mi è andato a piangere Calma 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 Guarda bello L'effetto Del caldo Oddio No No Cosa Perché non va Cosa succede Perché non va Più in là di così Boh C'è un muro invisibile Quaggiù Qui proprio In parallelo A Al terrazzino C'è un muro invisibile Che che Zitto Zitto Lascia perde Lascia perde Sei 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 meglio Di queste Queste minizie Lascia perdere Ho due Aku Aku Ho due Aku Aku Ma il carretto Mi ha ammazzato Lo stesso Quindi Che bella Perché Concentrazione 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 Ma non ce la faccio Non ce la fa Perfetto Salta Vai 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 Raggiù non c'è No C'è una certa roba Lì C'è una scatoletta Anche lì No Dio San Cos Dai No aspetta Ho paura di aver visto qualcosa Ho paura di aver visto Di aver visto una piattaforma Qua sopra Qui Lì C'è roba Eh sì C'è una scatola Mamma mia Vi odio Vi odio Incredibilmente Vi odio Meno male L'ho vista Meno male Ho visto Non mi sfuggono Le cose Meno male Meno male Mi giuro Non è che lo sapevo Eh L'ho L'ho visto Dai Dai Non è una reliquia Non è una reliquia Puoi andare con calma Di più è il tempo Intendo È lenzini Però vabbè Zero morti No? Può fare Controlliamo le morti Ok Calma Oh No 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 Mi sono confuso Devo ripare tutto No Io vorrei dare di me Un'immagine più forte Ma non posso essere forte Dinanzi a questo Dai su È solo il livello più difficile Del gioco Finito questo È finita One eternity later Lo so Quanti tentativi ho fatto È una cosa Disumana Ecco Disumana È la parola Giusta Ok Bene Oh Guarda bello Il castello di Corteccia Bello Bellissimo Non posso convincerti Non posso convincerti Nome della madre Cazzo Spaghetti al burro In salatina È una tazzina Di brio Ora Se io muoio Io smetto Io smetto 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 C'ho acquaco Non succederà mai più Tarpone Allora Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Io Io Madonna Madonna Zitto 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 Calma 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 Satale Calma Va via Va via Va via Va via Tarpone Non li vedo Non li vedo Dove sono Laggiù Calma Non ci sto capendo Un cazzo Salta C'è una cosa qua Oh Ci sono Fermo Fermo Perché mi si era Mossa una cazza Fermi 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 Ma in fanculo Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Non ci credo No Non ci credo È da oggi Alle sei No Alle sei Alle quattro Che ora era Non lo so Che ore sono ora Sono le die L'undici Sono l'undici Complimenti Una prestazione perfetta Riuscirai a riperderti No Mai Nessun modo Mi ripeterò Su questo cazzo Di livello Basta Non giocherò mai più Tunnel tossici Restano due livelli Perché c'è Il castello Ma c'è anche L'alternata E va fatta Nello stesso video Però guarda Voglio levarmi Questo giacchettino Che puzza Di Di Turner Tossico Oh Vediamo se Ci dice ancora Della fossa triangolare Del nonno Oh Cettini Allora Quando è che dice Della fossa triangolare Che bello Tini Vediamo se Eccolo Questo castello Chissà se Riuscirò Sono io Ah mi ricordo Mi ricordo Sono io Eccolo Anche questa cosa qua Sarebbe stato bello Se effettivamente Lui si fosse riferito Ad un certo posto Preciso Del castello Dove effettivamente C'era una cosa triangolare Che la premevi Che si apriva Cioè Sembra che Da come lo dice Sembra effettivamente Un Un suggerimento Invece no È una cosa Che non si verifica Comunque Vediamo se Io mi ricordo Davvero questo livello Come più facile Di tuner tossici E già Mi ricordo più Come ci si arriva Lassù Come ci si arriva Ah ok Ok Va bene Veramente Tirate Mi provo Sartà All'ultimo istante Bene 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 Oh c'è Capuna Capuna La musica di questo livello È molto carina Forse È proprio Molto superiore Alla media Di questo gioco Bello Questo corridoio Corridoio Un corridoio Questo è un corridoio Cosa Che è successo Ma cosa è successo Mori No Mori Ah no È morto È morto piano Però è morto Allora attenzione Perché qui anche se Voi piano Ma mi tagliuzzano Lo stesso Sti rischi Però io devo Sartarci sopra Per Oddio Oddio Ma perché Non si rompe Via 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 Vole Allora Guarda Guarda Un'altra Toys for Bobbata Olè Che bei colori Qui mi pare C'è quelli veloci Eccoli Mori Mori Cosa C'è i dischi C'è i dischi Vai Mammine Sgro C'è già il bonus Sto livello mi piace Mi piace È di mia gradazione Perché devo farli imbecille Basta Calma Su Uno Eh ma d'altra parte Devo fare Passi Tunnel Tossici Cosa devo fare È normale Ok Bello 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 Perché prima devo andare qui Mi ricordo mica più Aspetta un po' Andiamo giù Ok Poi così Eh Va bene Va bene Va bene Bello Guarda Non me ne frega Dopo turn e tossici Possono fare sto bonus Anche 40 volte Non me ne frega Allora Vai qua Ora vai giù Bo C'è il coso dell'initro Ok Bene Mamma mia L'ho schivato Ho schivato il pulminino 39 Vai Bene 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 Bello 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 Proseguiamo Capuna Che è Ah c'è la fettaforma Non mi ha visto Termi Qui ci vuole Bisogna allinearle In modo No 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 Ehi Ce dovrei Ce dovrei arrivare No 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 Oh Fa le piedatine sul teppeto Sul teppeto Come osi Zodicone E che 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 cosa Brio Allora Fermi tutti Embrio Revoca l'accesso ologrammatico Di questo Impostore Postore Mori No Embrio Non sono un impostore Devi ascoltarmi Vengo dal futuro Embrio Ok dati corti Non capisco più niente Ma poi lunghi Sti dialoghi Veramente Non basta 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 Vai via Sono io Basta Allora Fermi Non credo che questa Ah vedi Vedi Cominci a arrivare Lì sulla TNT Uno Due Tre Non c'è nient'altro Vero Vero che non c'è nient'altro Di là Io spero Veramente Di aver fatto bene Ok Allora Questa parte Mi ricordo È molto bella Piano Non trasformiamo Una parte Molto bella In una parte Molto brutta C'è anche Una kuaku Simpaticissima Ok Molto bene Ma che bravo Che bravo Vediamo un po' di mele Che se no Poi ce le chiede Ora per arrivare lì Come faccio Come cosa Così Mamma mia Ah mi ricordo Questa parte Che simpatia Oh Oh Cosa Cosa No 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 Giù Mato Ok 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 Va bene Va bene Andata bene Mi sono già Un uca uca A kuaku Va bene Qui c'è l'alternata Che faremo E mi fa pensare Guarda l'alternata Di cortex È tremenda Sosia malvagio Sosia malvagio Calma 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 Senti che la musica è andata via Non è un bug La musica è andata via Intenzionalmente È diventata Tensiva Tensiva Non colpirmi Senti che è inquietante la musica La musica tensiva La musica di tensione Ci sta Ci sta Ci sta È il pezzo finale del gioco Praticamente E io ho paura Cosa c'è La gassetta Oddio Ho paura Non so se ho preso le gas Lo scopriremo Insieme Oh pigia Ho pigiato in angola Sì Vai È finita No Non è finita C'è ancora l'alternata Però Il peggio È passato Il peggio è passato Non è tutto finito Ma il peggio È passato Oh Vederci doppio Io mi ricordo che qui è il delirio È il delirio Eh Ora sono anche stanco Allora Perché Perché beve il caffè Non posso fallire Non posso fallire Almeno io Non mi ricordo neanche più Ok Spacca tutto Non me ne frega Resta aperta la porta Ok Ma non posso farlo alla prima Ma è fuori discussione Veramente Potrei anche smettere di registrare Fermo Fermo Dove devo andare Dove devo andare Non so dove devo andare Perché Perché Ma perché Devo Oh vedi Oh mamma mia Rompi la nitro Non si rompe neanche Bene Allora Chi è quello lì C'è uno Ma C'è uno che sta giocando con lo smartphone Ma siamo nel 96 Non ci sono gli smartphone Cosa sta facendo Non si capisce Possiamo considerare un errore Vabbè Lasciamo perde Lasciamo perde Ok Ora inizia una fase Una fase Una fase platform Abbastanza delirante Da un po' Ehi Di sicuro andrà ripetuta A una quantità infinita di volte Di sicuro Mamma mia Cos'è Cos'è Come la rompo quella scatola Ah aspetta Aspetta ho capito Certo siete Siete proprio Siete Siete proprio dei Per Dio Lo posso fare Era facile Mi sono complicato la vita In un sedimento Ok Ok E ora si salta Aspetta un po' Aspetta Qui si deve tornare indietro Ok Si deve andare qui E bisogna fare piazza pulita Di casse Che non si vedono Però Io Ah la già mi ha nascosta Già mi ha nascosto Ok Io spero aver preso tutto Ah quello Non lo posso Davvero 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 Dai Ma perché Perché No 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 Ce la nitro anche Oh Si No Questo non mi riesce mai Dai Ma un po' Diamo il pro Ma veramente Proviamo Dai forse è più facile Di quello che sembra Non è vero Non è vero Oh Veramente Allora Lui spara proprio dove io mi devo fermare Via Uno Due Tre Quattro Cinque Cosa sta succedendo qua Ma è follia Questa No 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 Non ho voglia di rifarlo Tra l'altro Finisce fra poco Dunque lui Mi affetta Mi porta sui laser Quindi io devo trasformare i pipistrellini E poi Posso provare a trasformare i pipistrelli Lì ci salto sopra E rimbarzo sulla piattaforma Cioè il rimbarzo di test però Mamma mia Ok 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 Finisce lì Perché non posso essere ragionevole come me? Fatta Ah Ecco Cortex Nessun si distingono Vabbè Tu sei travestito da me eh? Beh sono te dal futuro brutto idiota Io non sono un idiota Tu sei idiota Idiota Prendetelo Ok Dai E ora c'è da fare questa parte qui Va bene Bisogna fare questa parte Che tra l'altro io non so come fare Perché non l'ho mai fatta finora Aiuto E se io sbaglio Devo rifare tutto No 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 Ma io sono tentato di guardarmela su youtube prima No 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 Mi son trovato lì con una cassa senza niente Ma che porti? Ah perché dovevo far così? E via Ora se il rimuoio davvero Aiuto Aiuto Lo dico io Ne posso più Ma è possibile Allora Fermo Fermo Però se giochi così Ultimamente a che pomori Io ho errato tutto Ma Ma son bravo Vorrei avere una qua Ho sbagliato Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Che cazzo ho fatto? Mi suda le mani Mi devo asciugare le mani L'ultima fa Nooo Io mi sto cacando Prendi questa maschera Piglala Ma Ma si può Ma si può Campa così Si 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 Basta Contegno Contegno Sua persona Formata Sono adulto Una prestazione perfetta Riuscirai a ripeterti? Sai cosa Caro Toys Io Non ho bisogno Di ripetermi Perché questa Era l'ultima Insane Le ho prese tutte E' giunta l'ora Di andare a battere Il culo Di Cortex Passato Smascherato Dai Sono Luna e un quarto Ho iniziato a registrare Oggi Alle Quattro Beh Avete una vaga idea Di quanto fossi ostinato Un tempo Sì Devo impedire A lui Di creare Te Ma Non posso Ucciderlo O ucciderei Anche me Ergo Suppongo Proprio Che dovrò Uccidere Te Non lo so Se Ha senso Quello che ha detto Guarda Io sono talmente Provato Che non me ne frega Più niente Guarda Hai fatto Un salto Sullo Sparanatic Mamma mia E via L'ho frullato di là Lui è volato di là Ah le maschere Guarda Giusto Come nell'era di Cortex Ricorda molto Il boss L'era di Cortex Fermo Attenzione Concentrazione Non riesco Sono fuso Sono fuso Sono veramente fuso Ok Uuuu Guarda che delirio Guarda che delirio Che becco l'uomo Ok Ok Vediamo quante volte si muore Bello sto boss Bello 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 Mi è sempre piaciuto Eh Eh Cosa devo fa Questa è una citazione Anzi Non mi ricordavo Giù Ora Giù Su No Cosa Cosa No 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 Non ho capito Non ho capito Trovi sconcerto Confusione Sì Sì Trovo sconcerto E confusione Oh Giù Non cazzo Non cazzo Ma Basta Per favore Basta Già Non puoi più Gra No No Non sparare Vai giù Mori Leva Leva questa cosa invertita Mi dà noia Mi dà noia Oh Calma Non so cosa devo fa No No Oh Oh Eh Troppa roba Troppe cose Però c'è il checkpoint To 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 Grazie Grazie Per rendere i livelli Più difficili Dei boss Bene Peccato Avevo preferito Non morire mai Però va bene Perfetto Perfetto Ah È una macchia Essere morto Però Va bene Se ne frega Giù Dai Ho fatto Twice for Eight Tunnel 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 for bob Mi si chiama Tunnel totici Sto delirando Sto delirando Belandi Sto delirando Sto delirando Guarda che casino Arzati Fermo 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 Ci avrei messo arti 600 laser Non sono abbastanza 95 Dai Oltre 95 Non si può andare È proprio Credito Subito Dai Non voglio morire Più di 5 volte Su Dai Sto zitto Vediamo cosa succede Grande Molto bene Beh Andando così In senso orario Oh Mori È finito Il corpo finale Colpi finali questi Fine Che è successo Mi ha colpito Mentre avevo vinto Ma No però Queste bombe Tra con cielo Non mi ha fatto sudare Abbastanza Toys Toys Ultimo colpo Non mi colpire MAI È fatta Invece sì È andata È fatto È finito È finito Posso posare Posso posare il pan È finita Devo aver preso un colpo al lobo temporale Ma un nemico a terra significa solo una cosa Ci siamo battuti E io ho vinto Il primo ordine che darò al mio nuovo generale Sarà disbarazzarsi di te Piedini Ora siamo più vicini che mai Presto Ora qui c'è il grande tocco di classe Del filmato preso da lenziene Ecco Lui interrompe la creazione di se stesso Questo spiega tutto Quindi crea se stesso Che cosa mi vorresti fare Sembra proprio che qualcuno Stia per essere messo in castigo Dove non potrà causare altri Doviti la fine dell'universo Dove lo mandano? Non mi ricordo più Fine Vabbè Ah del deserto Poi che deserto è? Il deserto Pace finalmente Eh questa è bellina però Lui finalmente dice basta Vittoria Pumpa Loro stanno giocando a Pumpa League C'è l'ovo eh L'ovo L'ovo di Prio Io non mi dimenticherò mai Che prima o poi devono spiegarci Cos'è l'ovo di Prio Ma non accadrà Non accadrà Forse accade Io l'ho prescruttato come il caso A me se lo scordano Benissimo Grande Aku Va bene È finito Finalmente Abbiamo terminato Ho terminato Crash 4 Spero che questa serie Vi sia piaciuta Fatemi sapere Iscrivetevi Se non l'avete ancora fatto Commentate Seguitemi su Instagram Su Twitch Tutta per tut Basta Ragazzi Tappino Super ciao Alla prossima È stato un piacere So Ma quasi